buongiorno a tutti e sono nicoletta cannone il presidente dei due corsi di laurea di scienze dell'ambiente della natura e di scienze ambientali dell'università dell'insubria e con grandissimo piacere che vi accolgo a questa giornata di formazione lo scienziato ambientale dal mondo del lavoro a quello della scienza e per portarvi i saluti del nostro ateneo do la parola al professor piarulli che è il direttore del dipartimento di scienze alte e alta tecnologia di como e che diciamo il dipartimento afferente al corso di laurea magistrale buongiorno a tutti grazie nicoletta sono molto onorato di essere qui questa mattina e porto i saluti del magnifico rettore che mi ha chiesto di essere di portare anche il suo la sua partecipazione a questo congresso a questo convenio a questo momento perché impegnato in assente per impegni istituzionali per quanto riguarda la questa iniziativa che trovo estremamente importante per che è che in qualche modo ricalca la struttura dei nostri di dei nostri dipartimenti del nostro dei nostri corsi di studi nel senso che l'ambiente è un concetto complesso che richiede un grande equilibrio tra le esigenze della natura e quelle del dell'uomo che in qualche modo ci interagisce e che è chiamato una gestione consapevole e responsabile di quelle che sono le risorse naturali ma per fare questo è necessaria chiaramente una grande conoscenza del dell'ambiente nella sua complessità e per e questa conoscenza si ottiene attraverso una una un'interazione delle delle diverse discipline che richiedono la lo studio e la e l'interazione con l'ambiente quindi la multidisciplinarietà che è proprio la caratteristica fondante dei corsi di studio che insistono su perché studiano l'ambiente nel nostro ateneo ma in generale ma soprattutto non bene dei nostri dipartimenti sparo al nome del no del dipartimento di scienze alta tecnologia ma credo di poter fare lo stesso anche per quello che riguarda l'altro dipartimento che su cui su cui corsi di studio operano quindi questo è questa multidisciplinarietà e poi porta poi a una grande collaborazione tra i settori della ricerca evidentemente come avere come vediamo in tutta la locandina di questo convegno e e con il mondo produttivo e di quelli che sono i decision making cioè la politica che poi interagisce con queste strutture. Ecco, questo convegno in qualche modo riassume queste diverse competenze, quindi è un momento molto importante di confronto e di formazione per tutti coloro che in qualche modo si occupano e studiano nell'ambito delle scienze dell'ambiente. Ecco perché vi auguro buon lavoro, una buona giornata a tutti voi che siete impegnati in questo convegno e ripeto porto i saluti del magnifico rettore. Grazie e buon lavoro. Grazie al professor Piarulli per questa introduzione, do subito la parola al professor Mauro Ferrari che è il direttore del dipartimento di scienze teoriche applicate che ha sede a Varese, è il dipartimento referente della nostra laurea triennale ed è anche il delegato di Ateneo per la didattica. Grazie Nicoletta, allora buongiorno a tutti. Sono totalmente d'accordo con quello che ha detto il professor Terulli prima sull'importanza scientifica di questa giornata e come si inquadra. Stiamo vivendo un momento complicato, lo sappiamo tutti, siamo quasi a un anno da quando le università in un modo o nell'altro hanno dovuto stravolgere il modo in cui operavano. Iniziano ad arrivare i dati su quest'anno accademico, qualche giorno fa il ministro Manfredi ha fatto un plauso alle università perché i dati dicono che il sistema universitario ha retto benissimo, almeno dal punto di vista dei numeri in termini di studenti iscritti, di esami sostenuti, di esami di studenti laureati. Quello che non dicono i numeri è che stiamo tutti molto soffrendo questa situazione, ci manca il contatto con gli studenti, ci manca il contatto con i colleghi, nella ricerca, nella didattica, le interazioni personali hanno un ruolo fondamentale ed è importantissimo cercare in qualche modo di supplire a questa mancanza e questo convegno è uno degli esempi del modo in cui si può operare per cercare di coinvolgere gli studenti, per rimettere insieme i docenti, per parlare di scienza, che poi è quello che l'università dovrebbe fare, e di relazionarsi con gli stakeholder, le parti sociali, il mondo del lavoro. Quindi complimenti per questa iniziativa, che ci aiuta in questo momento di difficoltà a portare avanti i nostri obiettivi e auguro a tutti una buona giornata e dei lavori interessanti. Grazie Nicoletta e grazie agli organizzatori e relatori di questa giornata. Grazie mille anche al professor Ferrari. Due parole di introduzione prima di cominciare questa giornata, in cui mi preme sottolineare che la parola è data nei contributi ai nostri giovani, quindi laureandi e laureati magistrali, oltre che dottorandi di ricerca e postdoc. Quindi le giovani generazioni che porteranno avanti la ricerca insieme a noi e poi anche dopo di noi per questioni anagrafiche. Come vedrete il panorama è molto vario, proprio perché appunto l'ambiente è un sistema complesso che richiede quindi approcci diversi, multidisciplinari, un'interazione e un'integrazione tra gruppi. E quindi questo è importante perché il nostro Ateneo ha molta attenzione su questi aspetti, in particolare sugli aspetti anche di approfondimento in campo, in laboratorio, di quelle che sono le tematiche ambientali, quindi non soltanto un approccio teorico ma pratico. Pratico sul territorio, sia a livello locale, quindi in particolare nell'ambito della regione, ma come vedrete i ricercatori dell'Insubria lavorano anche a livello globale su diverse aree, su diversi fronti. E quindi avrete la possibilità di assaggiare un pochettino quelli che sono i temi principali della ricerca, anche se non è esaustiva questa giornata. Tra l'altro avrete a disposizione, quindi potete scaricare se vi interessa, una pubblicazione che sono gli atti di questo congresso, nel quale voi potete anche avere più agio nel poter seguire e riprendere eventualmente alcuni argomenti di vostro interesse. Io non toglierei tempo ai relatori, ma comincerei subito con la prima relazione che è presentata da una nostra dottoranda di ricerca, la dottoressa Rianna Bellasi, la quale insieme alla professoressa Bettinetti si sta occupando di un tema che è di grande interesse e rilevanza, ha avuto anche molti richiami sui media, che è il tema delle microplastiche che sta analizzando questa tematica, in particolare nell'ambito del territorio del Lago di Como. Dò la parola alla dottoressa Bellasi. Allora, sentite, io farei una cosa, invertirei il primo e il secondo intervento, quindi vedo che c'è la dottoressa De Santis che è già collegata. Ciao Vanessa, è stata anche una mia tesista triennale, poi ha proseguito con la tesi magistrale da noi, la dottoressa De Santis. Adesso sta facendo anche lei il dottorato di ricerca, è al terzo anno del dottorato di ricerca, è un'ecologa, quindi si occupa di temi trasversali nell'ambito di quello che è appunto lo studio delle scienze ambientali e ci parlerà di evoluzione e conservazione di specie endemiche, quindi un tema di grandissima rilevanza e attualità in ambienti acquatici e presenterà degli approcci multidisciplinari proprio per promuovere l'evoluzione e la conservazione delle specie endemiche. Grazie, la parola a dottoressa De Santis. Buongiorno a tutti, grazie prof per la presentazione, io sono appunto Vanessa De Santis e sto per completare il percorso di dottorato in scienze chimiche ed ambientali all'Università dell'Isubria. Nel corso dei tre anni del dottorato ho lavorato ad un progetto di ricerca il cui scopo è stato quello di studiare gli impatti derivanti dall'invasione del barbo europeo, una specie ittica d'acqua dolce di cui vi darò maggiori informazioni tra poco. Per la realizzazione di tale progetto si sono i due principali linee di ricerca, quella dell'ecologia acquatica di base, volta allo studio delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche che compongono gli ecosistemi, che è la linea principale di ricerca del laboratorio di ecologia acquatica, il cui responsabile è il professor Giuseppe Crosa. E poi l'ecologia molecolare, il cui scopo è quello di utilizzare strumenti appunto molecolari, come per esempio la genetica, per rispondere a quesiti di tipo ecologico e che è la linea invece principale del laboratorio omonimo di ecologia molecolare, la cui responsabile è la professoressa, la dottoressa Senena Zaccara. Una grossa parte della ricerca del nostro laboratorio è incentrata sui pesci d'acqua dolce, questo perché l'Italia rientra in uno dei principali hotspot di biodiversità più importanti per quanto riguarda la fauna etica d'acqua dolce, che è il bacino del Mediterraneo, in cui è possibile identificare 26 ecoregioni, in cui sono presenti 622 specie ittiche, di cui 280 sono indemiche, ovvero ristrette a questa particolare area geografica e in alcuni casi addirittura confinate a specifici corsi d'acqua. L'Italia via rappresenta la ricchezza di diversità del bacino, contando 55 specie native, di cui 35 sono endemiche o subendemiche. I pesci d'acqua dolce tuttavia sono anche tra i vertebrati più minacciati del pianeta e i pesci del bacino del Mediterraneo sono tra quelli che maggiormente risentono delle principali cause di minaccia. Tra queste in Italia spicca in particolare il ruolo delle invasioni biologiche, come potete vedere nella mappa sinistra, insieme ad altri paesi come ad esempio del bacino del Mediterraneo, come per esempio la Spagna, l'Italia ha la proporzione più elevata di specie esotiche rispetto al numero di specie native, come potete osservare invece nella mappa destra. Ad oggi infatti sono presenti 57 specie naturalizzate, quindi invasive, e almeno 15 potrebbero naturalizzarsi. Ma perché le invasive biologiche costituiscono una minaccia alla conservazione della biodiversità? Per poter rispondere a questa domanda vi parlerò di un caso studio che mette in luce gli impatti ecologici derivanti dall'invasione del barbo europeo in Italia. Il genere Barbus è stato scelto come modello perché è rappresentato in Italia da una ricchezza di specie che ne rispecchia l'elevata biodiversità e inoltre la distribuzione delle specie di questo genere sul territorio italiano rispecchia quello che è stato lo sviluppo paleoclimatico e geomorfologico dell'Italia e quindi questo genere ha un importante ruolo, valore conservazionistico. Il genere è rappresentato da sei specie in Italia, due delle quali che sono endemiche o subendemiche, due delle quali rientrano nell'ecofenotipo reofilo, ovvero occupano la parte più a monte, il tratto più a monte dei fiumi nella cosiddetta zona salmonidi. Le altre quattro specie invece appartengono all'ecofenotipo fluvio lacustre che significa che occupano il tratto medio dei corsi d'acqua e lo fanno in maniera esclusiva, ovvero sono vicarianti, quindi si sostituiscono a vicenda nei diversi distretti geografici in cui è possibile suddividere l'Italia come potete vedere nella mappa destra. Appartiene a quest'ultimo ecofenotipo anche il barbo europeo, specie originaria del centro Europa, che è stata introdotta al di fuori del proprio areale di origine nella parte occidentale del Regno Unito ed in Italia. In Italia è presente dagli anni 90 e la sua presenza è stata considerata una delle principali cause del declino delle specie endemiche del genere Barbus. Ma quali sono i meccanismi che hanno portato a ciò? Per poter comprendere quali siano i meccanismi e le conseguenze dell'invasione del Barbus in Italia è stato utilizzato un approccio multidisciplinare che ha combinato l'analisi genetica necessaria al fine di identificare processi di ibridazione tra una specie esotica e le specie native, quindi eventi di commistione del genoma di queste specie, lo studio dei tratti biologici come l'accrescimento, la struttura demografica, la condizione corporea e la morfologia e poi l'ecologia di queste specie e dei relativi ibridi, intesa come studio dell'ecologia trofica, ovvero si è studiata la nicchia trofica, la composizione della dieta e la posizione trofica, che sono molto importanti per comprendere come questi pesci interagiscono nell'ambiente. Sono state scelte quattro popolazioni rappresentative, due collegate nel distretto etiogeografico padanoveneto, dove Barbus plebeius è specie endemica e che comprende il bacino sostanzialmente del Po e tutti i fiumi che si immettono nel nord emidio adriatico. Altre due popolazioni invece nel distretto etiogeografico tosco-laziale, dove invece Barbus tiberimus è specie endemica e che comprende sostanzialmente tutti quei fiumi, principalmente il bacino del Tevere e dell'Arno, che sfociano nel medio terreno. Il primo step è stato dunque quello di identificare l'occorrenza del processo di ibridazione, ovvero della possibile perdita di integrità genetica delle specie native. Per fare ciò sono state scelte due regioni del DNA, una regione mitocondrale ed una nucleare e come potete vedere nell'immagine le popolazioni non invase indicate dalla lettera P sono caratterizzate da un unico colore, il che significa che vi è un'assenza di alleli di Barbus Barbus ed è stata confermata quindi di integrità genetica. Nelle popolazioni invase invece possiamo vedere come il DNA mitocondrale, che è il cerchio più interno e per verso il genoma del Barbus Barbus rappresentato in rosso, mentre al DNA nucleare, ovvero il cerchio più esterno, è stata riscontrata una commissione tra alleli di Barbus Barbus sempre in rosso e alleli delle specie endemiche rispettivamente in blu e in verde. Ciò indica dunque che laddove Barbus Barbus è presente l'ibridazione è ampiamente diffusa e tale diffusione fa presagire che i libri di possano prosperare e potenzialmente avere una buona fitness. Per indagare ciò si sono studiati i tratti biologici di queste popolazioni, l'analisi della struttura demografica che vedete nel grafico più a sinistra, ha evidenziato come sia le popolazioni ibride sia le popolazioni pure, sempre le pure sono in blu e in verde, mentre le ibride sono in arancione e rosa, siano state tutte dominate, ovvero la classe d'età più frequente è stata quella degli uno o dei due, che in genere è un indice di popolazione in espansione. Il rapporto tra lunghezza e peso, che nei pesci dipende strettamente dalla performance dell'individuo in un determinato ambiente, è stato utilizzato per esaminare la condizione corporea degli esemplari in ciascuna popolazione e quando il pesce presenta una buona condizione corporea, ovvero in grado di acquisire risorse in maniera efficiente l'indice sia stessa intorno allo zero. Come potete vedere nel grafico centrale, tutte e quattro le popolazioni hanno mostrato un buono stato. Si è evidenziata però una differenza tra gli ibridi e puri, ovvero gli ibridi a parità di classe d'età hanno raggiunto lunghezze maggiori rispetto alle popolazioni pure, evidenziando un più rapido appunto crescimento. Questi dati quindi sostengono l'ipotesi che gli ibridi possano avere un vantaggio rispetto alle specie parentali, spiegando anche la diffusione vitale del processo di ibridazione. Poiché nei pesci la morfologia può influenzare la modalità con le quali gli individui si alimentano e l'efficienza della cattura delle prete, è stato utilizzato un approccio di morfometria geometrica per valutare le possibili ripercussioni del processo anche su questo aspetto. Sono emerse differenze significative nella forma del corpo tra le popolazioni ibride e pure, come mostra questo grafico che è stato ottenuto analizzando delle coordinate, alcune le coordinate di alcuni punti sulla superficie del pesce che sono significativi nell'escrivere appunto la forma generale del corpo e queste differenze si sono rivelate particolarmente marcate soprattutto per i libri della popolazione del tosco in base del tosco laziale, ovvero il TLI. Questi dati suggeriscono che almeno i ibridi in questo distretto possano essere in grado di utilizzare risorse diverse e di conseguenza potrebbero avere un ruolo o una funzione diversa all'interno dell'ecosistema. Per indagare l'abilità di acquisire risorse diverse è stata quindi studiata l'ecologia trofica. Come dicevo prima, in termini di nicchia trofica, composizione della dieta e posizione trofica. Sono state utilizzate due metodologie di indagine distinte rappresentate dall'analisi dei contenuti stomacali e dall'analisi degli isotopi stabili di carbonio e azoto. Quest'ultima tecnica si basa sul fatto che i rapporti isotopici di carbonio e azoto abbiano una buona correlazione con la dieta, rappresentando il rapporto di carbonio 13 sul carbonio 12, la fonte di energia primaria utilizzata che per esempio in un ambiente acquatico può variare dal comparto pelagico a quello litorale. Il rapporto tra azoto 15 su azoto 14 rappresenta la posizione trofica dell'organismo, in quanto tale rapporto incrementa partendo dai produttori primari fino ai predatori. Nonostante le due tecniche siano rappresentative di aspetti diversi dell'ecologia trofica, entrambi hanno evidenziato delle differenze sostanziali. Nella nicchia trofica soprattutto della popolazione ibrida TLI, che vi ricordo era quella che aveva mostrato anche la maggiore alterazione morfologica e in particolare la nicchia è risultata essere molto più ampia. Sempre nella stessa popolazione è stata identificata una posizione trofica più bassa e l'analisi dei contiguti stomacali ha evidenziato la presenza di risorse trofiche diverse rispetto alle altre popolazioni. Infatti mentre i pesci delle altre popolazioni si sono alimentati prevalentemente di larve e di insetti acquatici, la dieta della popolazione nel TLI ha compreso anche pesci e in una maggiore proporzione di materiale vegetale che invece erano praticamente assenti nelle altre popolazioni. Reassumendo quindi l'invasione di Barbus, Barbus passa attraverso il processo di ibridazione e comporta la perdita di integrità genetica delle specie native, portando a forme ibride con una buona fitness e con un accrescimento più efficiente rispetto alle specie native. Gli ibridi inoltre possono sfruttare risorse trofiche diverse rispetto alle specie parentali e ciò fa sì che il ruolo del barbo nell'ecosistema possa essere alterato, non escludendo quindi possibili impatti anche su altri componenti dell'ecosistema. Concludendo, quindi le invasioni biologiche sono una minaccia alla conservazione della biodiversità in quanto sono in grado di provocare alterazioni a diversi livelli di organizzazione biologica anche simultaneamente, ovvero in maniera contemporanea possono appunto presentare degli impatti sia a livello di individuo, popolazione e comunità, infine ecosistema e quindi sono in grado di provocare profonde modificazioni alla struttura e quindi alla funzionalità degli ecosistemi. Per poter minimizzare e mitigare gli impatti derivanti dalle invasioni biologiche ovviamente oltre al blocco, allo stop delle introduzioni in futuro è necessaria una buona conoscenza degli impatti stessi e dei meccanismi che li generano. E ciò è possibile solo grazie ad un'elevata multidisciplinarietà che come il professor Pia Rulli e la professoressa Cannone hanno già menzionato è ciò che contraddistingue i nostri corsi del nostro Ateneo e soprattutto la figura dello scienziato ambientale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alla prossima presentazione con questa piccola riflessione. Grazie mille alla dottoressa De Santis, complimenti Vanessa, una presentazione molto interessante che ci fa capire veramente anche l'importanza di approcciarsi con delle modalità che magari non sono così comuni, quindi l'analisi genetica integrata con l'analisi di quelle che sono le richieste ecologiche, l'ecologia delle specie, la capacità di occupare habitat, questo ci dà anche un'idea quantitativa di come queste specie si possano espandere, dove le potremo trovare un domani, quindi anche di dove andare a indirizzare delle azioni di controllo e di contenimento e quindi un tema sicuramente di grande interesse e di rilevanza e attualità perché è un problema effettivamente per tutto quello che è la conservazione e il buon funzionamento degli ecosistemi. Parlando di funzionamento degli ecosistemi, la dottoressa Bellasi dovrebbe aver risolto i problemi di connessione, quindi mi risulta... Buongiorno, scusate, allora io vi parlo del nostro progetto che riguarda le microplastiche negli ecosistemi di acqua dolce con particolare attenzione al lago di Como. Quella in cui viviamo attualmente può essere definita età della plastica, infatti la plastica è uno dei materiali più prodotti utilizzati al mondo. Il suo successo si deve principalmente alle sue caratteristiche, cioè resistenza, durevolezza, basso costo e versatilità e queste caratteristiche le hanno reso un materiale ben utilizzabile in praticamente qualsiasi ambito della vita quotidiana, ma anche in settori più di nicchia come per esempio l'ambito tecnologico, comunque l'ambito medico per i dispositivi usa e getta. Per capire com'è cambiato nel tempo l'uso della plastica vi faccio vedere questo grafico. L'utilizzo della plastica ha iniziato a diventare importante attorno quindi al 1950, quindi dopo il dopo il dopoguerra, in corrispondenza con l'espansione industriale e comunque con la crescita economica. In anni più recenti vediamo come l'uso è cresciuto in maniera esponenziale. Per capire meglio la portata del fenomeno vi faccio vedere tre dati. Nel 2013 la produzione della plastica è stata di 288 milioni di tonnellate all'anno. Nel 2016 siamo arrivati a 322 milioni di tonnellate all'anno e è stato stimato che se non dovessero cambiare le nostre abitudini in questo senso nel 2050 arriveremo a produrre 33 milioni di tonnellate di plastica all'anno. Come si può iniziare a comprendere da questa figura? Il ruolo dell'Europa è abbastanza importante e nello specifico vi faccio vedere un po' che ruolo costituisce l'Europa che infatti insieme alla Cina e il Nord America sono i produttori e per quanto riguarda la domanda e la produzione di plastica sono le realtà più importanti e in questo contesto l'Italia ricopre il 14% della domanda annua totale. Quindi anche il nostro ruolo è importante, non è indifferente. Ovviamente tutta la plastica che viene prodotta, una volta che viene prodotta e utilizzata e il suo ruolo è arrivato al termine, non scompare e rimane sulla terra. Questo fa sì che la plastica sia diventato un problema di entità globale. Infatti per via della sua popolarità è presente in ogni ecosistema naturale ed è stata classificata come un contaminante emergente. Sono state trovate plastiche e particolari microplastiche all'interno dei suoli, nell'atmosfera, negli ecosistemi acquatici e anche addirittura sui ghiacciai. Gli ecosistemi più impattati da questo fenomeno sono sicuramente gli ecosistemi acquatici. Infatti è stato stimato che oltre 4 mila milioni di tonnellate di plastica vengano immesse negli oceani di tutto il mondo ogni anno e quando pensiamo a questo fenomeno ci vengono in mente immagini di questo tipo, quindi tartarughe che mangiano sacchetti scambiandole per delle prede, spiagge coperte di detriti plastici. In realtà un aspetto molto importante, che pone un grande rischio per la salute degli ecosistemi è legato alle microplastiche. Le microplastiche possono essere definite come un insieme di particelle di natura plastica che variano in dimensioni da qualche micron fino a 5 mm. In base alla loro fonte di origine, le microplastiche si suddividono in microplastiche primarie, che sono le microplastiche appositamente prodotte in dimensione micrometrica e l'80% di queste arriva in ambiente acquatico mediante gli scarichi domestici o industriali e gli impianti di depurazione delle acque. Qui vorrei fare una precisazione perché quando si sentono fare queste affermazioni si pensa che allora forse gli impianti di depurazione non siano efficienti. In realtà sono molto efficienti, infatti questi trattengono tra il 97 e il 99% delle microplastiche che provengono dagli scarichi civili e industriali, quindi al massimo il 3% di microplastiche viene rilasciato nell'ecosistema acquatico. Il problema è dato dal grande rilascio e quindi questo 3% moltiplicato per tutte le microplastiche che vengono immesse attraverso i nostri scarichi creano un numero veramente importante. Quelle forse che vengono più considerate anche mediaticamente sono però le microplastiche secondarie, che sono quelle microplastiche che derivano dalla frammentazione o comunque dal deterioramento di oggetti plastici di dimensione maggiori. Infatti la plastica è un materiale durevole, però quando questa viene dispersa in ambiente comunque subisce dei fenomeni di invecchiamento soprattutto a causa dell'esposizione ai raggi UV e del logorio meccanico derivante soprattutto in ambiente acquatico dalle onde e quindi si creano proprio delle fratture che portano alla rottura di questi oggetti plastici e appunto all'origine di microplastiche di natura secondaria. Quello che noi generalmente consideriamo, cioè gli aspetti legati alle conseguenze legate alla presenza della plastica in ambiente che generalmente vengono considerate, sono solo la punta dell'iceberg. Infatti le immagini che ci vengono proposte sono sempre quelle di uccelli acquatici che muoiono perché sono soffocati dalle plastiche, di animali marini che sono costretti ad adattarsi, a vivere con questi oggetti all'interno del loro ecosistema, del loro habitat. In realtà le microplastiche in particolare pongono dei rischi che sono molto più gravi e molto più anche complessi da capire. Infatti per via delle dimensioni molto piccole queste possono essere facilmente ingerite e quindi poi entrare con facilità nella rete etrofica. Infatti da alcuni studi sembrerebbe che poi attraverso la rete etrofica queste riescano a passare anche ai livelli superiori. Inoltre le microplastiche per via del loro alto rapporto di superficie interagiscono con i contaminanti organici e con i metalli e costituiscono un ottimo substrato per queste sostanze che poi potenzialmente possono essere rilasciate all'interno dell'organismo che le va a ingerire. Inoltre nella plastica sono contenuti degli additivi per conferire al materiale finito delle qualità e delle caratteristiche desiderate. Quindi questi possono essere rilasciati soprattutto in seguito ai processi di deterioramento legati appunto ai raggi UV o comunque all'allogorio meccanico. Una cosa molto importante da considerare quando ho detto che i contaminanti organici e i metalli presenti in acqua possono essere rassorbiti sulle microplastiche e poi rilasciate negli organismi è che tutti questi fenomeni, tutte queste interazioni sono molto considerate attualmente nelle ricerche scientifiche ma in realtà si capisce ancora poco perché gli studi sono effettuati a delle concentrazioni o comunque in delle condizioni che non sono ottimali per comprendere qual è in realtà la condizione ambientale. Ma un fattore che sembra influenzare questa cosa sembra essere il pH, perciò quando le microplastiche assorbono queste sostanze entrando poi all'interno degli organismi e quindi arrivando nella zona gastrointestinale dove il pH è più acido sembrerebbe che rilascino queste. Di solito si considerano gli ecosistemi marini, non so, almeno per quanto riguarda me, quando sentivo parlare di microplastiche correlavo questo problema a delle mete esotiche lontane. In realtà non è così, cioè è così perché gli studi riguardano soprattutto gli ambienti marini. Infatti in questo grafico ho voluto porre l'attenzione su qual è l'entità degli studi effettuati sugli ecosistemi marini, cioè l'azzurro, e invece sugli ecosistemi di acqua dolce, cioè il verde. Sono veramente poco considerati in tutti gli aspetti, sia in acqua che nel biota che nei sedimenti. Detto questo, quindi si può comprendere come le microplastiche riguardano anche noi e molto più da vicino di quel che pensiamo. Queste che vedete sullo sfondo, per esempio, sono delle plastiche che ho raccolto io in una spiaggetta vicino a Villa Geno e le ho raccolte in cinque minuti veramente, quindi insomma ci siamo dentro fino al collo. Le fonti principali di plastiche all'interno di ecosistemi di acqua dolce ed in particolare faccio riferimento ai laghi, sono le attività antropiche costiere, le attività acquatiche, gli affluenti, infatti soprattutto i fiumi che scorrono nei fondovalle molto popolati, molto sfruttati, generalmente sono una sorgente di microplastiche non indifferenti per i laghi in cui poi vanno a riversarsi. Il turismo, ovviamente lo scarico abusivo di rifiuti, che purtroppo è una realtà, gli scarichi civili industriali e il trasporto dall'ambiente terrestre, per esempio attraverso inondazioni, il vento, il drenaggio dell'acqua piovana. Una volta arrivate all'interno dei laghi, le microplastiche possono distribuirsi lungo un gradiente orizzontale e lungo un gradiente verticale. Per quanto riguarda la distribuzione orizzontale, questa è determinata soprattutto da fenomeni, cioè da aspetti geografici, comunque dalle caratteristiche ambientali, quindi per esempio i piventi, le correnti, le turbolenze. Mentre il fattore principale che guida la disposizione lungo un gradiente verticale è la densità, la densità delle plastiche, questo in linea generale. Infatti abbiamo delle plastiche più leggere, come per esempio il polietilene e delle plastiche più pesanti, come per esempio il PVC. Quindi ci si aspetta che le plastiche pesanti affondino all'interno dei sedimenti. Questa regola viene completamente buttata all'aria da una serie di fenomeni, quali il deterioramento, il biofueling, cioè la formazione di biofilm, quindi di sistemi algali sulla superficie delle microplastiche, l'inglobamento di queste microplastiche all'interno di pellet fecali dei pesci e l'assorbimento di inquinanti presenti in acqua che vanno ad appesantire la plastica. Quindi per questi fenomeni anche le microplastiche che potrebbero trovarsi in superficie o comunque in colonna d'acqua si trovano a sedimentare. Per questo noi abbiamo deciso di porre la nostra attenzione non all'acqua del lago di Como, ma al sedimento. Infatti il sedimento costituisce un comparto molto importante in quanto presenta delle caratteristiche biogeochimiche particolari ed è quindi una zona in cui vanno ad accumularsi i contaminanti organici e anche i metalli antropogenici. Inoltre, per via delle dinamiche che vi ho appena illustrato, che quindi vanno a favorire la sedimentazione delle microplastiche, potrebbe essere proprio il comparto acquatico, cioè la zona del nostro ecosistema lacustre più impattata dalle microplastiche. Perciò vale sicuramente la pena porre un focus sul sedimento per capire in queste condizioni quali siano le interazioni tra microplastiche contaminanti già presenti all'interno dell'ecosistema e organismi che abitano il sedimento, cioè gli organismi bentonici. Anche qui vorrei farvi notare come il sedimento che è dato dalle barre gialline, diciamo, sia poco studiato rispetto in realtà all'acqua. Questa freccia è relativa al 2013, quindi vi ho segnalato questo perché, diciamo, è la fase, gli anni in cui qualche studio inizia ad esserci sul sedimento e qui siamo attualmente al 2020. Quindi comunque l'importanza del sedimento, cioè il ruolo del sedimento è marginalmente considerato. Inoltre, noi abbiamo deciso di, appunto, effettuare questa ricerca all'interno del lago di Como, che è una risorsa molto importante da un punto di vista locale, in quanto economicamente sostiene, diciamo, soprattutto tutti i paesi che sorgono lungo il lago, attraverso la pesca ed è anche molto importante per il turismo, oltre al fatto che le sue acque vengono captate sia a scopo irriguo che a scopo potabile. Sull'acqua del lago di Como sappiamo già qualcosa, in particolare nel 2018 sicuramente avrete sentito parlare della Goletta dei Laghi, che è stata una campagna effettuata da Lega Ambiente sui laghi prealpini. Questa campagna è stata tenuta anche sul lago di Como, dove è stata appurata la presenza di 28.500 particelle per chilometro quadrato in corrispondenza di una fonte puntuale, per esempio dove sussiste uno scarico non trattato. Un altro studio interessante che è stato sviluppato dai colleghi del CNR in collaborazione con la Prof. Bettinetti è stato sul contenuto di microplastiche all'interno del pesce persico. Per quanto riguarda gli esemplari campionati nel lago di Como, è stata rinvenuta la triste presenza di microplastiche all'interno dell'87% dei persici pescati. Quindi questi dati ci hanno fatto comprendere come il problema sia reale, sia vicino a noi e come effettivamente valga la pena capire, oltre all'acqua, qual è il ruolo di questo contaminante emergente all'interno del sedimento. Quindi dai dati già noti, da quello che sappiamo già, abbiamo poi sviluppato il nostro progetto. Nello specifico noi attualmente stiamo lavorando per innanzitutto trovare un metodo che sia efficiente e ecologico per separare le microplastiche dal sedimento. Infatti essendo il problema delle microplastiche molto considerato, soprattutto in questo periodo, la letteratura che viene prodotta è tantissima e questo porta a uno stato di confusione. infatti i metodi proposti per separare le microplastiche dal sedimento sono tanti. Non esiste un protocollo standard che regoli questi procedimenti in laboratorio e questo è un problema anche poi per il confronto dei dati. Arianna, un minuto. Sì, sì, ok, tanto sono arrivata alla fine. Quindi questa è la prima cosa di cui ci occupiamo. Stiamo valutando la presenza di microplastiche all'interno di organismi bentonici. Dovevamo lavorare su degli organismi bentonici lacustri ma a causa Covid abbiamo dovuto arrangiarsi e quindi abbiamo iniziato a mettere a punto il nostro protocollo su delle vongole. E anche questo ha dato dei risultati soddisfacenti. E infine insieme al gruppo dei chimici stiamo cercando di comprendere quali sono i meccanismi che regolino le interazioni tra i metalli, tra le microplastiche e i metalli e i contaminanti organici già presenti in acqua. Fondamentalmente è questo. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per il contrattempo legato alla connessione. Grazie mille Arianna e anche nella vita quotidiana, perché il problema comunque è anche quello di eliminare alla fonte questa diffusione enorme di plastiche e microplastiche che hanno conseguenze che vanno molto ben al di là di quello che si può immaginare solo con la loro presenza. Approfitto per dare la parola al dottor Cesare Puzzi che è l'amministratore delegato di Graia e di Blu Progetti è laureato in veterinaria che ordina le attività di ricerca, monitoraggio naturalistico e ambientale di Graia le attività di riqualificazione ambientale in particolare finalizzate a quello che è l'ambiente acquatico quindi fa una ittica gestione di reti ecologiche il dottor Puzzi ci parlerà di progettazione e ricerca applicata in ambiente acquatico riportando l'esperienza di Graia quindi di una società che quotidianamente lavora e si confronta nella realtà su questi temi ringrazio il dottor Puzzi Grazie a te Nicoletta e grazie a tutti i presenti a questa riunione in remoto questo congresso in remoto io appunto porto la mia esperienza io non racconterò di progetti specifici ne abbiamo in corso e fatti tanti perché ormai è oltre 25 anni che Graia esiste è nata come società di consulenza dall'amicizia di 4 persone sostanzialmente nel lontano 92 e da lì via via siamo cresciuti aggiungendo nuovi collaboratori nuovi dipendenti nuovi temi di lavoro e sostanzialmente ci occupiamo appunto di ricerca applicata il nostro filo conduttore è l'acqua per cui poi diciamo non solo l'acqua negli anni poi si è aggiunta anche la parte terrestre che circonda l'acqua sostanzialmente è un unicum non è che si può parlare solo di acqua senza pensare al territorio circostante però ecco l'acqua ha fatto un po' la parte del filo conduttore nella nostra vita lavorativa e quindi io vi darò una sorta di carrellata di quelle che sono le attività di cui ci occupiamo noi che sono le attività del mondo del lavoro noi siamo appunto a servizio a servizio dei nostri clienti chi sono i nostri clienti? i nostri clienti sono sia enti pubblici che enti privati enti pubblici emettono dei bandi delle gare di appalto a cui partecipiamo per cui si partecipa sui concorsi pubblici su bandi pubblici abbiamo ovviamente la concorrenza di altre società tipo la nostra di professionisti ma quindi questo è il libero mercato e di fatto vinca al migliore abbiamo poi clienti privati per cui lavoriamo molto nel settore idroelettrico visto che il nostro filo conduttore è l'acqua e ci occupiamo sostanzialmente della parte ambientale legata alla produzione di energia idroelettrica e adesso poi vi darò qualche esempio naturalmente i campi come è già stato accennato sono molti l'interdisciplinarietà che citava la professoressa Cannone per noi è la regola perché siamo oggi una trentina di persone una trentina di persone con formazioni molto diverse sempre legate al tema delle scienze naturali e della progettazione ambientale per cui io sono un veterinario un po' anomalo la mia passione sono i pesci e continuo a cercare di occuparmi di pesci ma non solo però poi abbiamo geologi naturalisti scienze ambientali agronomi forestali ingegneri, geometri topografi quindi c'è una varietà di professioni che insieme collaborano con noi e che a seconda di vari progetti necessariamente devono parlarsi ragionare insieme e trovare le soluzioni diciamo di tanti aspetti che altrimenti una sola professione fatica certamente a trovare e a risolvere per cui dicevo io farò una carrellata sostanzialmente delle nostre attività cerco di mandare avanti la presentazione l'ambiente acquatico diciamo a tantissimi aspetti per cui noi andiamo dagli aspetti di approfondimenti conoscitivi e il monitoraggio è certamente un tema cardine del nostro lavoro abbiamo studi monografici su specie ittiche in particolare quelle a rischio di conservazione quindi con progetti di conservazione di specie abbiamo attività dirette sulla fauna ittica quindi una pratica di gestione comune è il ripopolamento o la reintroduzione di specie scomparse quindi ci sono attività dirette e poi interventi sull'ambiente tutta la parte di rinaturazione o diversificazione ambientale la parte di percorribilità quindi le reti ecologiche i corridoi fluviali di cui certamente tanti hanno sentito parlare vedono nella frammentazione data da dighe, sbarramenti, soglie e quant'altro un impedimento al movimento dei pesci e quindi su questi impedimenti si sta lavorando da tanti anni poi vedremo rapidamente qualcosa per liberare la libera percorribilità e ancora elaborazione di strumenti normativi di supporto alla gestione come carte ittiche, piani ittici regolamenti di pesca e poi la pianificazione con le vaste studi di incidenza le valutazioni di impianto ambientale quindi quello che poi sono gli studi necessari per eseguire e realizzare piani di progetto monitoraggio ambientale io vado un po' rapido perché appunto i temi sono tanti quindi i classici indicatori ci sono indicatori o mai straconsolidati alcuni molto semplici che si misurano con sonde da campo come quelle che vedete magari si pensa quando si studia l'ossigeno il pH, la conducibilità elettrica sembrano cose astruse ma in realtà sono assolutamente parametri fondamentali immediati che danno subito un'idea di che cosa ci troviamo di fronte se parliamo di corsi d'acqua o di laghi un tema dicevo il monitoraggio il biomonitoraggio quindi indicatori ambientali il macrobentus di cui vedete alcune fotografie sia del campionamento che degli animali che si riprendono è entrato nella normativa per cui il monitoraggio dei corsi d'acqua e dei laghi anche ovviamente prevede anche la caratterizzazione di queste componenti biologiche e questo appunto essendo normativa è un tema che viene sviluppato anche a livello pratico tutti i giorni per cui quando si va a caratterizzare a monitorare certamente si va a studiare anche questi questi gruppi biologici non solo il macrobentus come abbiamo visto ma anche i organismi più piccoli fitoplancton e soprattutto anche sempre più importante diciamo la morfologia per cui si studia dicevamo non solo un aspetto del nostro ambiente ma si studia come è fatto come è fatto dal punto di vista morfologico per cui si parte dalla qualità dalla tipologia dei mesoabitati che compongono un corso d'acqua si misurano si fanno le misure di portata si fanno le sezioni topografiche si valuta l'integrità delle sponde come sono costituite la sedimentologia alla gran momentaria del fondo insomma tantissimi aspetti del monitoraggio che devono appunto parlarsi fra di loro anche aspetti topografici a cui accennavo sempre più rilevanti anche per noi ad esempio fatichiamo a trovare un bravo topografo che è una professione che può essere fatta da un ingegnere da un geometra da un agente scienze ambientali da un qualsiasi tecnico di buona volontà perché ci sono strumenti che rilevano la morfologia dei fondali ad esempio delle grandi dighe su cui noi lavoriamo tanto in montagna e quindi un tema di interrimento delle dighe e quindi tra i nostri lavori un ruolo non secondario c'è lo studio di questi fondali che vengono restituiti con strumenti topografici estremamente sofisticati per cui bisogna imparare i software bisogna appassionarsi a questo aspetto conoscere questi strumenti avere voglia di andare in montagna magari a 2.500 metri e quindi fare anche un po' di avventura per capire come sono fatti questi fondali dei bacini perché poi vanno gestiti questi sedimenti che si accumulano via via nel tempo la rinaturazione qui vedete un esempio di un corso d'acqua totalmente retificato questo è un altro aspetto sempre crescente per cui si fanno progetti di riqualifica di recupero della morfologia più naturale possibile i pesci alcuni che mi hanno preceduto hanno già parlato quindi i monitoraggi anche dei pesci sono un altro componente del biomonitoraggio anche questi per norma ormai assolutamente necessari da studiare da descrivere e va capito se sono comunità ittiche integre o meno rispetto a comunità di riferimento idem nei live strumenti idem con strumenti anche telemetrici piuttosto che biologici qui parliamo di approfondimenti che vanno fatti poi per gli studi di popolazione quindi apprescimento con le torte delle scaglie la fecondità relativa la marcatura dei pesci per monitorare la popolazione o gruppi di pesci come si comportano se li ritroviamo quanto crescono dove si spostano contrasto agli esotici è già stato accennato il tema dell'invasione quello è un siluro quindi che vedete in basso a sinistra attività di contrasto al siluro la facciamo tante soprattutto nell'area protette perché questa è una specie esotica invasiva in forte in forte espansione diretti accennavo interventi diretti sulla fauna itica quindi riproduzione artificiale presso gli incubatori itici di allevamento anche di specie di interesse conservazionistico scoppia appunto di tutela di certe specie che sono scomparse o a forte rischio di estinzione qui vedete delle immagini di piccoli allevamenti dedicati alla riproduzione appunto di queste specie dove non si guarda ovviamente la quantità quella è l'acquacoltura tradizionale per i pesci da tavola insomma da uso commerciale qui si tratta di piccole strutture che devono privilegiare la produzione di specie appunto protette interventi di rinaturazione abbiamo già accennato quindi ricreare anche con interventi di diversificazione di tratti di fiume o di lago banalizzati introducendo rifugi per i pesci ad esempio quindi inducendo un cambiamento nella monotonia della forma per dare appunto spazi e diversità ambientali a livello di meso habitat ecco il tema passaggi pesci accennavo la percorribilità abbiamo costruito ormai tanti progettati e costruiti tanti è un tema che viene avanti anche questo ormai previsto da normative e quindi si ripartiscono queste interruzioni attraverso le dighe in tanti piccoli dislivelli collegati ovviamente da un battente che è un continuum e si permette ai pesci di risalire qui sono una serie di esempi tempo è poco quindi non mi dilungo una su tutte sul fiume Po la più grande attraversa fluviare italiana Isola Serafini è stato realizzato con un progetto live un doppio passaggio per pesci monitorato 24 ore su 24 con due telecamere grandi vetrate altri lo sono e quindi si hanno tanti dati appunto anche su questo su questo aspetto tutti i temi di cui vi sto parlando sono appunto possibili temi di lavoro nella realtà di giorni per quanto ci riguarda qualità dell'acqua anche ha un ruolo importante non non ci occupiamo tanto di impianti tradizionali quanto di affinamento o di depurazione di piccoli nuclei con impianti di fitodepurazione o ecosistemi filtro che affinano magari scarichi già più o meno depurati questo è un esempio della fotografia non ultima scusatemi l'educazione ambientale anche questo è un aspetto di cui in parte almeno ci occupiamo perché i progetti poi tante volte presuppongono anche un'uscita verso i giovani verso le scuole di vari livelli e vari gradi infine riassumo un po' quelli che sono i requisiti che io voglio suggerire appunto per chi cerca lavoro in campi tipo quelli di cui ci occupiamo che io ho rapidamente accennato è chiaro che chi vuole fare attività di campo deve avere una propensione certamente per la vita all'aria aperta l'ambiente acquatico perché non ci sono orari e a volte si sta in giro tanto la curiosità questo è un tema chiave di ogni cercatore l'adattabilità le criticità l'intraprendenza l'apertura mentale la voglia a lavorare in team a condividere a confrontarsi a cercare sempre di imparare anche dagli altri quali sono le competenze i titoli di studio lauree in tutte le materie tecniche a cui accennavo prima quindi non c'è un vincolo su qualche laurea specifica biologia veterinaria scienze naturali scienze ambientali ingegneria scienze forestali sono tutte lauree tecniche che da noi possono assolutamente trovare spazio importantissime le competenze di statistica importantissima la conoscenza anche dell'inglese conoscere ormai le tecnologie dell'IT questo direi che tutti i giovani più o meno sono bravi avere magari anche un progresso attività di ricerca può essere utile un tirocinio è sempre molto apprezzato perché noi con gli studenti che vengono da noi a fare i tirocini o la tesi di laurea che sia diciamo la semplice conclusione della triennale o la tesi vera e propria della magistrale abbiamo modo di conoscere le persone e quasi tutti i collaboratori che abbiamo arrivano da questo da questo percorso ultima notizia che do non so se qualcuno fosse interessato al momento abbiamo aperto una posizione per un carico di quattro anni di collaborazione per quattro anni libero professionale su un progetto LIFE che parte adesso un progetto che si chiama LIFEILL il nome inglese dell'anguilla scritto EEL e la posizione per project manager è un progetto appunto LIFE Natura dove capofile regione Lombardia noi siamo un partner di progetto è un progetto è una posizione dicevo per persone che hanno già una certa esperienza però il mio suggerimento a chiunque vagamente pensi che possa interessare è di provarci perché non si sa mai ci prova e poi le graduatorie cosa succede in quattro anni non si sa sono tutte opportunità che vanno colte quindi provateci assolutamente il nostro sito www.graia.eu il sito dell'IFEILL appena fatto in partenza ma c'è già lo spazio che dicevo della posizione aperta è www.lifeheill tutto attaccato punto e io penso di essere più o meno nei miei termini di tempo quindi ringrazio ringrazio la professoressa Cannone e auguro un buon buon lavoro a tutti i relatori e a voi che seguite questa giornata interessante grazie 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 mille al dottor Puzzi che ci ha dato un'ampia panoramica di quelle che sono le attività professionali quindi diciamo da quelli che sono gli studi teorici al mondo del lavoro come proprio il titolo del nostro convegno di oggi e vedete abbiamo anche appunto una proposta di di poter trovare una posizione di lavoro quindi insomma molto importante allora a questo punto andiamo con la prossima presentazione che è della della dottoressa triennale ma studentessa magistrale Sara Caramella che lavora con il professor Brivio e la dottoressa Mastore e ci parlerà del controllo di insetti invasivi con metodi alternativi alla lotta chimica anche questo è un tema di interesse emergente perché appunto riguarda proprio un tema importante quello che è la presenza degli insetti invasivi i danni che questi insetti possono portare anche alla nostra economia e quindi la possibilità di utilizzare dei metodi alternativi alla lotta chimica che è efficace nell'immediato Buongiorno a tutti faccio parte appunto del laboratorio di immunologia comparata e parassitologia in cui ci occupiamo di studiare le interazioni tra i benseticidi e specie di insetti potenzialmente pericolosi sia per l'uomo sia per l'ambiente il fine è quello di andare a sostituire in futuro i pesticidi normalmente utilizzati per il controllo di questi insetti nel nostro laboratorio ci siamo occupati di studiare il punto di ruolo delle palme il parassito e gli alveari la processionale del pino e il muscirino dei piccoli fritti che è il soggetto dei nostri studi attuali la maggior parte di queste specie dannose per l'uomo e per l'ambiente sono specie invasive una specie invasiva è una specie all'ottona introdotta volontariamente o involontariamente dall'uomo attraverso viaggi oppure scambi commerciali queste specie solitamente sono caratterizzate da un alto testo di crescita deve essere specie pioniere molto generaliste tolleranti a diverse condizioni e vengono definite specie ad estratega l'ambiente in cui si vanno a inserire solitamente è caratterizzato da forti disturbi di tipo naturale o antropico come può essere anche una forte urbanizzazione e dall'assenza di predatori o competitori naturali ovviamente queste invasioni comportano una serie di aspetti negativi come può essere l'alterazione dell'ecosistema la perdita di biodiversità e spesso anche l'introduzione di specie invasive secondarie normalmente gli insetti pericolosi per l'uomo oppure per l'ambiente appunto i fitofagi vengono controllati attraverso l'uso dei pesticidi i pesticidi sono sostanze utilizzate in singolo oppure in combinazione con altre il cui fine è quello proprio di andare a controllare le stanzioni di queste specie pesticidi insetticidi fungicidi gli avvicidi vengono ampiamente utilizzati perché non sono economici sono semplici hanno un'azione ampia rapida e hanno un ampio aspetto di utilizzo ovviamente però tutto ciò comporta degli aspetti negativi come può essere l'insorgenza di forme di resistenza dovuta all'alta dispersione del pesticida infatti solo il 5% del pesticida che viene irrurato va a raggiungere l'insetto target il resto va a colpire l'ambiente comportando i rischi per l'uomo e per l'ambiente in particolare per l'uomo possono insorgere forme di reazioni allergiche alterazioni genetiche diverse patologie tumorali alterazioni della riproduzione con una diminuzione della fertilità e danni al sistema nervoso e al sistema tessutale per cui è possibile andare a eliminare o a limitare l'uso dei pesticidi si per l'uso della lotta biologica la lotta biologica consiste nell'introduzione di organismi di organismi piuttosto che di metaboliti secondari i quali vanno a contrastare l'espansione dell'insetto pest appunto la finalità è quella di andare a sostituire i pesticidi di sintesi chimica tra gli organismi e i microrganismi utilizzati per la lotta biologica ci sono gli insetti parassitoidi che sono letali per l'organismo target i funghi entomopatogeni diversi certi batterici e i nematodi entomopatogeni ora però vi vorrei parlare dell'oggetto dei nostri studi attuali che è appunto la Drosophila Suzuki la Drosophila Suzuki è un dittero proveniente dal sud-est dell'Asia che è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2009 è conosciuto anche con il nome di Spotting Wind Drosophila poiché è caratterizzata da un dimorfismo sessuale infatti il maschio è presente sulla punta delle ali nelle macchioline di colore scuro questo insetto ha un'elevata capacità di adattamento ed è caratterizzato da una rapida estensione è imparentato con la Drosophila velanogaster più conoscita la quale a differenza della Drosophila Suzuki si trova sulla frutta marcescente mentre la Drosophila Suzuki la troviamo sulla frutta nello stadio di maturazione la Drosophila Suzuki presenta diverse problematiche appunto relative al suo controllo primo fra tutti si tratta di una specie all'ottona per cui nell'ambiente in cui si va a inserire non presenta predatori piuttosto che competitori naturali inoltre come abbiamo detto va a attaccare il frutto nei giorni precedenti alla raccolta quindi nella fase di maturazione per cui è impossibile andare a utilizzare un pesticida senza lasciare un quantitativo di residuo troppo elevato inoltre la femmina va a decorre le uova in questi frutti solitamente piccoli frutti dalla buccia sottile come possono essere mirtilli fragole e lamponi e all'interno della polpa di questo frutto si va a sviluppare la larva per cui il pesticida raggiunge solamente la parte esterna del frutto senza penetrarvi e colpire l'insetto target nel nostro laboratorio per cui ci occupiamo di mettere a punto diversi metodi di lotta biologica utilizzando bioinsetticidi sia in singola che in combinazione i bioinsetticidi che siamo andati a testare sono bacillus thuringiensis che è un batterio steinerma carpocapsum che è un nematode insieme al suo batterio simbionte xenorabus nematopila vorrei a parlare di bacillus thuringiensis bacillus thuringiensis è un batterio gran positivo sporigeno che attualmente può essere commercializzato per la lotta biologica esso viene assimilato per ingestione e una volta raggiunto l'intestino le tossine che sono sotto forma di cristalli vanno a danneggiare l'epitele intestinale le spore così che sono stato più tobiotico del batterio riescono a raggiungere l'emolinfa che sarebbe il sangue dell'infetto andando a germinare in cellule vegetative e causando la morte dell'ospite per seticemia siamo andati a testare anche steinerma carpocapsum steinerma è un nemato complesso in tumopatogeno che vive una relazione mutolittica col suo batterio simbiotex enorabus nematofila un punto a favore nell'uso di nematodi è il fatto che vanno a ricercare attivamente l'insetto target penetrandovi all'interno riuscendo a eludere il sistema di riconoscimento in una seconda fase vanno a rivolgitare i batteri che presentano al loro interno che causano la morte dell'insetto abbiamo testato anche il batterio simbiote appunto axelorabus nematofila si tratta di un batterio gran negativo che non possiede stadi di vita libera il batterio permette la sopravvivenza dell'ematode stesso favorendone la riproduzione grazie anche alla produzione di metaboliti secondari con attività antibiotica che possono competere con gli altri microrganismi presenti anche se enorabus causa la morte dell'insetto target per il setticemia nel nostro laboratorio per cui ci occupiamo di andare a studiare l'interazione tra questi bioinsetticidi e i loro ospiti l'efficacia per cui la letalità per l'uso di questi bioinsetticidi nei confronti dell'insetto se sono presenti eventuali alterazioni fisiologiche e la risposta immunitaria dell'insetto nei confronti di questi bioinsetticidi ora vi mostrerò alcuni dei risultati ottenuti utilizzando questi bioinsetticidi sulle larvi di idrosofila suzuki i risultati sono espressi come test di mortalità per gli insetti target in questo primo grafico vi mostro il test effettuato attraverso la somministrazione di bacillus turingiensis sui primi stadi larvali di idrosofila suzuki come è possibile notare abbiamo una buona efficacia però con un dosaggio molto elevato e dopo 48 ore questo secondo test abbiamo utilizzato stenerma carpocapse come nel test precedente sempre su larvi di idrosofila suzuki e anche in questo caso abbiamo una buona mortalità sempre con un dosaggio elevato e dopo 48 ore in utilizzo se i risultati precedentemente ottenuti fossero soddisfacenti abbiamo provato una somministrazione combinata di bacillus turingiensis e stenerma carpocapse con un dosaggio inferiore e come è possibile notare già a 16 ore di utilizzo abbiamo una mortalità che si aggira intorno all'80% poi possiamo dire che entrambi gli insetticidi utilizzati abbiano mostrato un buon livello di efficacia nei confronti delle larvi del dittero e che questa efficacia sia aumentata con questa somministrazione in combinata ottenendo dei risultati che sono comparabili all'uso dei pesticidi normalmente utilizzati per il controllo del dittero finito e grazie per l'attenzione grazie mille Sara quindi alla dottoressa caramella per questa interessantissima presentazione che ci fa vedere come appunto sia possibile impiegare dei mezzi diversi da quelli chimici tradizionali per il controllo di questi insetti invasivi che peraltro potrebbero diventare un problema ancora più rilevante nel futuro non solo perché le attività antropiche comportano grazie anche alla globalizzazione comunque scambio di merci di prodotti e quindi con le merci e i prodotti viaggiano anche le specie invasive ma anche perché il cambiamento climatico potrebbe influenzare diciamo le dinamiche delle specie e quindi incrementare ulteriormente la problematica e l'affermazione delle specie invasive passiamo adesso invece a un argomento diverso perché abbiamo la dottoressa Paola Iotti dell'associazione Proteus che è un'escolta ed escursionistica ed è la fondatrice dell'associazione di educazione ambientale Proteus che ha sede a Como la quale ci parlerà del ruolo delle guide ambientali in quello che è l'attività di divulgazione scientifica ma soprattutto anche di quella che è l'educazione alla sostenibilità quindi un ruolo importante che permette di portare anche ai singoli cittadini sia nell'ambito delle scuole che nell'ambito di iniziative di educazione ambientale ha una maggiore conoscenza dell'ambiente dei suoi problemi ma anche di quelle che sono diciamo le emergenze naturalistiche piuttosto che l'importanza dei valori ambientali che magari abbiamo sotto il naso ma non non apprezziamo se non abbiamo qualcuno che ci dà un'indicazione non vedo però la dottoressa Iotti no io ci sono mi vedete ciao Paola ciao allora intanto vi ringrazio tantissimo per l'invito mi sentite? sì perfetto vi ringrazio tantissimo per l'invito perché avevo partecipato anche lo scorso anno e è importante fare sentire un po' anche la nostra voce che è quella che rappresenta l'anello di congiunzione sostanzialmente tra voi che vi occupate di scienza e di formazione legata al mondo della scienza e la società civile quindi tutto quello che è il mondo dell'educazione formale ma anche informale e non formale in veste di guide di guide ambientali escursionistiche ma anche in veste di educatori ambientali ormai denominati educatori alla sostenibilità perché in questi anni l'educazione ambientale ha diciamo modificato un pochino l'approccio a quello che è l'aspetto proprio dell'ambiente andando a considerare tutti gli aspetti della sostenibilità della sostenibilità ambientale della sostenibilità legata al nostro pianeta anche agli aspetti dell'economia agli aspetti proprio sociali quindi della società della convivenza di conseguenza è modificato anche il nostro modo di porci il nostro modo proprio di di formarci adesso provo a condividere lo schermo vediamo se riuscite a vedere il mio powerpoint si vede? ok perfetto quindi mi sentite vedete vedete lo sfondo ecco quindi il mio intervento verte proprio un po' su questo qual è il nostro ruolo come guide ambientali nella divulgazione scientifica ma anche come educatori ambientali educatori alla sostenibilità ed è proprio un pochino un ruolo duplice nel senso che quello che vorrei fare è un pochino una panoramica di quello che succede a livello nazionale e poi se riesco a rimanere nei tempi perché l'argomento è vasto cerco magari di spiegarvi un pochino che cosa facciamo a Como se no rimaniamo sugli aspetti nazionali che comunque penso che possano essere interessanti allora il mondo della questa non c'entra era l'ultima quindi siamo passati direttamente all'ultima scusatemi il mondo della divulgazione quindi quello che va a cogliere il vostro lavoro di ricercatori di formatori universitari e quindi il mondo proprio della scienza si sdoppia un po' tra gli educatori ambientali e la sostenibilità e gli accompagnatori in natura quindi guida ambientale escursionistiche ma diciamo che ci sono nel nostro panorama nazionale anche altre altre forme ci sono gli accompagnatori di media montagna ci sono altre tipologie di guide anche le guide turistiche che si occupano comunque di aspetti culturali legati al nostro territorio quello che diciamo è cambiato nel panorama soprattutto delle guide ambientali escursionistiche negli ultimi anni in particolare negli ultimi cinque anni è un riconoscimento che è avvenuto da parte del MISE quindi del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della nostra figura professionale non abbiamo un albo come guida ambientale escursionistiche ma abbiamo un registro nazionale a cui ci possiamo iscrivere a seguito di un corso quindi a seguito di un corso riconosciuto di minimo 300 ore in cui vengono studiate tutta una serie di diciamo di tematiche legate all'accompagnamento sia di tipo ambientale quindi si può accedere a questi corsi con una formazione naturalistico ambientale o geologico possibilmente ma anche con formazione di altro tipo perché poi la formazione viene comunque fatta in corso d'opera e quindi vengono affrontate sia il comparto delle conoscenze ambientali ma fortemente il comparto delle competenze quindi della modalità di accompagnamento di comunicazione quali sono le tecniche le metodologie affrontiamo il tema della pedagogia dell'interpretazione ambientale e molto anche dell'educazione ambientale quindi questo è quello che va a differenziare un pochino le guide ambientali escursionistiche dagli altri accompagnatori in natura perché in questi cinque anni di corsi abbiamo sviluppato molto questo aspetto legato all'educazione quindi apprendere delle nozioni a prendere gli aspetti dell'ambiente della scienza e andarli a declinare in quelli che sono dei messaggi che portiamo durante l'accompagnamento delle persone piuttosto che nel mondo dell'educazione formale quindi nel mondo della scuola durante le attività in natura messaggi che ovviamente vogliono portare a dei cambiamenti quindi vogliono portare ad arrivare a definire delle buone pratiche e a sviluppare questo attaccamento per l'ambiente e per la natura anche da parte dei giovani ma delle persone in generale quindi questo è quello che fanno un po' le guide ambientali escursionistiche e appunto hanno la necessità di restare aggiornati quindi ci sono dei crediti formativi da accumulare ogni due anni per rimanere all'interno di questo registro nazionale e bisogna essere assicurati quindi portare la propria assicurazione che viene poi fornita dall'associazione stessa a cui ci si iscrive a seguito del corso avere una una certificazione per l'uso dei defibrillatori di primo soccorso e quindi avere anche tutte le tecniche di soccorso e di accompagnamento con responsabilità e in sicurezza il mondo degli educatori ambientali può essere in parte incluso all'interno del mondo delle guide ambientali escursionistiche ma in parte no nel senso che un educatore ambientale non deve essere necessariamente una guida può lavorare per un parco anche le guide possono lavorare per i parchi ci sono anche le guide parco ma può lavorare anche in altri tipi di contesti e soprattutto negli ultimi anni il ruolo dell'educatore ambientale come vi dicevo è decisamente cambiato quindi non accompagna solo alla conoscenza del contesto naturale e diciamo di tutto quello che appartiene agli aspetti ecosistemici ma aiuta le comunità i gruppi anche i gruppi scolastici a porsi delle domande sugli stili di vita e su quelli che sono gli impatti dell'uomo con l'ambiente e questo viene fatto a breve medio e lungo termine quindi anche andando a ragionare su che cosa avverrà in futuro e nel campo dell'educazione ambientale la sostenibilità il futuro è proprio uno degli aspetti di ragionamento su cui si va a lavorare soprattutto con i ragazzi e quindi il ruolo dell'educatore ambientale non è solo quello di non è semplicemente quello di accompagnare in natura ma è quello di accompagnare attraverso processi proprio di trasformazione della società che portano a una transizione verso una transizione ecologica quindi un vero e proprio cambiamento io qua continuo ad andare all'ultima ma io voglio rimanere ancora con voi quindi scusatemi sono io che sbaglio a cliccare e quindi sostanzialmente una conversione una reconversione vera e propria che viene accompagnata dall'educatore per rispondere alla crisi alla crisi ambientale economica sociale di questi anni ma anche di quello che appunto come vi dicevo sarà il futuro il nostro strumento come educatore alla sostenibilità attualmente è l'agenda 20-30 quindi sono i 17 goals che sono stabiliti sono stati stabiliti nel 2015 verso i quali si dovrebbe tendere andando verso il 2030 che sono degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile che come potete vedere in questa slide non si occupano solamente di ambiente e di natura ma si occupano di tutta una serie di altri fattori sociali quali la fame la povertà il diritto all'istruzione il diritto all'uguaglianza di genere la disponibilità di acqua la riduzione delle disuguaglianze e tutta una serie di altri fattori di sostenibilità basandosi sull'agenda 20-30 è stata istituita nel mondo della scuola quindi nell'educazione formale l'educazione civica che doveva essere l'educazione e la sostenibilità quindi queste 33 ore che probabilmente sapete vengono strutturate all'interno dei contesti scolastici che prendono in considerazione sì l'educazione civica ma anche in parte la costituzione quindi con l'educazione civica e in parte anche l'educazione alla sostenibilità andando a cercare di sviluppare man mano nel corso dell'anno uno di questi 17 goals e questo è un compito che viene in questo momento affidato ai docenti delle scuole che spesso cercano un supporto negli educatori alla sostenibilità quindi negli educatori ambientali il lavoro dell'educatore ambientale quindi come dicevo è enormemente cambiato perché prima era un approccio alla natura un avvicinamento alla natura quello su cui lavoravamo sia con il mondo scolastico che con il mondo non scolastico e adesso c'è stato richiesto di lavorare su delle competenze ben precise quindi dobbiamo sempre partire dal sapere quindi da quelle che sono le conoscenze dell'ambiente le conoscenze scientifiche ma poi dobbiamo passare alle competenze del saper fare quindi un educatore ambientale deve sapere costruire un progetto quindi deve avere delle basi metodologiche deve avere delle tecniche di comunicazione di gestione dei gruppi e questo anche la guida ambientale escursionistica quindi nel corso a cui vengono sottoposti le persone che vogliono diventare una guida ambientale escursionistica vengono affrontati tutti questi temi quindi il tema del sapere delle conoscenze le competenze quindi la costruzione dei progetti è molto importante saper comunicare sapere gestire gli imprevisti sapere gestire il gruppo e poi cosa fondamentale ovviamente è sapere essere quindi noi affrontiamo durante i corsi un aspetto legato all'etica della guida l'etica della responsabilità e poi pian piano si sviluppano le capacità di gestire processi di democrazia partecipativa perché la cosa fondamentale per lo sviluppo sostenibile è che non ci si rivolga più solo al singolo o al gruppo ma che ci si rivolga a un'intera comunità la capacità di promuovere i valori e fondamentale ovviamente la coerenza fra il dire e fare quindi come ci poniamo noi come educatori e come guide nei confronti delle persone che andiamo ad accompagnare durante questi percorsi quindi l'obiettivo non è più quello della trasmissione dei contenuti ma la capacità di sviluppare un approccio sistemico sistemico alla realtà e quindi ovviamente il legame tra noi e voi quindi tra noi divulgatori guide educatori ambientali e il mondo della scienza è fondamentale perché a questo punto il nostro ruolo è quello di facilitatori quindi di traduttori di quelli che sono i vostri i vostri lavori verso delle attività che che volgono proprio alla comprensione di quelle che sono le azioni che la società civile può fare per fermare determinati processi o per migliorare con delle buone pratiche altri processi ambientali che sono in atto quindi vi dicevo l'educazione dal futuro è fondamentale quindi abituare le persone a pensare in modo critico a quello che ci aspetterà ma critico ma anche creativo non necessariamente negativo perché ovviamente dobbiamo andare verso una costruzione di tipo di tipo positivo e sapere fare creare delle connessioni dei legami tra quello che è il passato e quello che è il presente quello che potrebbe succedere quindi qui nell'immagine ho messo il ghiacciaio del Bernina prima diciamo in anni passati è molto evidente quello che sta succedendo e possiamo ovviamente fare delle previsioni su quello che succederà verso a cosa stiamo andando in conto e questo deve aiutare ovviamente a muoversi verso un futuro più sostenibile a livello sociale a livello ambientale allora brevissimamente perché penso di essere arrivata diciamo al termine del mio tempo ultimamente che cosa sta succedendo e volevo toccare solo un attimo il tema covid ovviamente è cambiato il nostro modo di lavorare abbiamo avuto delle grossissime limitazioni soprattutto qui in Lombardia in qualche altra regione su quello che è stato l'accompagnamento in natura e la possibilità anche di far uscire i bambini dall'edificio scolastico quindi ovviamente stiamo lavorando lo stesso perché abbiamo una mission non la vogliamo portare avanti eravamo già improntati sul lavoro fatto attraverso l'uso di nuove tecnologie in particolare qui a Como dove con appunto l'associazione Proteus stiamo lavorando dal 99 sull'ambiente lago quindi su quelle che sono diciamo le conoscenze che possiamo dare alla popolazione il contatto con l'ambiente con il sommerso e le conoscenze in modo che portino al rispetto alla consapevolezza stavamo già lavorando utilizzando delle tecnologie diciamo un pochino particolari come supporto alla divulgazione e anche agli aspetti educativi quindi solo brevissimamente proprio perché qualcuno magari conosce un po' il lavoro che stiamo facendo da qualche anno dal 2013 stiamo lavorando con questi progetti di videocollegamento subacqueo chiamati Lake Watching qui scendiamo in acqua con una maschera gran facciale con la quale possiamo comunicare col pubblico all'esterno facevamo collegamenti con il pubblico nella nostra sala laboratorio e ultimamente abbiamo iniziato cioè nell'ultimo anno a fare collegamenti su varie piattaforme e quindi ci connettiamo con le scuole ci connettiamo in streaming in modo da fare dialogare comunque il mondo esterno con il mondo sommerso il biologo sott'acqua fa vedere quello che vedono i suoi occhi e chiacchiera parla quindi divulga con con il pubblico esterno abbiamo fatto in praticamente quasi abbiamo toccato quasi tutti i punti del lago di Como la nostra sede è a Como in città all'interno della Darsia di Villa Geno dove diciamo principalmente però svolgiamo questa attività con la quale abbiamo cercato di coinvolgere i ragazzi dell'Insubria della professoressa Bettinetti sono venuti a fare dei laboratori da noi perché il luogo si presta decisamente all'attività laboratoriale e al campionamento benvenuti Paola grazie con i ragazzi delle superiori di alternanza scuola lavoro abbiamo provato a progettare degli esperimenti di fisica e perbarica quindi loro hanno fatto dei progetti hanno provato a proporre degli esperimenti che hanno fatto fare al subacqueo sott'acqua rimanendo collegati con lui in audio e video e quindi esperimenti sui colori sulla sull'idrostatica e così via e l'altro strumento che utilizziamo per fare divulgazione e sensibilizzazione è un drone subacqueo quindi colleghiamo il pubblico con il sommerso senza il subacqueo ma direttamente in presenza in modo che possa però vedere che cosa c'è sott'acqua e quindi si possa andare a raccontare un pochino quelle che sono per esempio le interferenze degli alieni piuttosto che le modifiche all'ecosistema e quant'altro e questo è un progetto sulle variazioni del livello del lago quindi per consapevolezionare la popolazione fatto con le camere di commercio di come lecco su che cosa succede quando abbiamo delle variazioni di livello legate alla mano dell'uomo allora io penso che con questo possiamo ci possiamo salutare perché appunto il mondo della divulgazione delle guide degli educatori insomma vorrebbe fare tanto ha tanto da fare purtroppo siamo siamo sempre un pochino limitati in questo momento dal covid e dal fatto che non esiste a livello nazionale una legge che prevede veramente queste figure benissimo ringrazio la dottoressa Iotti per questa sua presentazione che ci ha fatto capire anche con dei progetti innovativi quindi bisogna usare molta fantasia e questo permette sempre di trovare dei nuovi orizzonti anche delle nuove modalità di comunicazione e di interazione perché la consapevolezza è diciamo il mattone da cui si comincia a costruire anche la gestione e la risoluzione dei problemi adesso passiamo a una serie di presentazioni che si occupano invece di quello che è il tema del cambiamento climatico visto da diversi punti di vista uno è quello appunto della vegetazione quindi gli impatti del cambiamento sulla vegetazione a partire dalle Alpi per arrivare fino all'Antartide e lo presenta il dottor Francesco Malfasi che è un nostro laureato in scienze ambientali e ha fatto il dottorato in scienze chimiche e ambientali presso il nostro Ateneo adesso sta facendo un postdoc e quindi vi presenterà appunto dalle Alpi all'Antartide impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi ok allora come tanto sono Francesco Malfasi come ha introdotto la professoressa vi mostrerò nelle prossime slide alcuni esempi di metodi di studio e alcuni risultati relativi agli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi di alta quota e di alte latitudini del nostro gruppo di ricerca perché concentrarsi su questi ambienti perché questi ambienti sono caratterizzati da condizioni ambientali molto rigide quindi basse temperature una stagione vegetativa ridotta dovuta a un prolungato innevamento presenta di ghiacciai piuttosto che di suolo gelato e quindi in questi ambienti anche piccole modifiche di tipo climatico possono portare a importanti cambiamenti in quelli che sono la struttura ecosistemica sia a livello di singolo individuo parlo ovviamente in questo caso di specie vegetali sia a livello di specie che di intere comunità e appunto nella mappa che vedete in questa slide ci sono le quattro macro aree appunto le alte latitudini e le alte quote che il nostro gruppo di ricerca ha studiato negli ultimi anni e perché di nuovo queste perché sicuramente sono tra le aree che maggiormente hanno registrato i più forti cambiamenti climatici in atto partendo appunto dalle Alpi un'introduzione doverosa penso anche abbastanza ormai scontata è che a partire dagli anni 50 in particolare poi dagli anni 70 si sia registrato un forte aumento della temperatura media dell'aria ma anche stagionale associato poi ad un scioglimento sempre più anticipato della neve quindi un allungamento della stagione vegetativa mentre per quanto riguarda le precipitazioni non si può dire di avere un trend chiaro quanto piuttosto di un aumento della frequenza degli eventi estremi sia in termini di bombe d'acqua che di periodi di siccità e questo che comporta la vegetazione che è la vegetazione di tundra alpina e polare allora gli impatti si possono studiare a diversi livelli proprio perché si sviluppano a diversi livelli l'esempio che vi porto qua sono dei risultati che si basano sul confronto di alcune cartografie vegetazionali svolte nel parco nazionale dello Stelvio in vicino al passo dello Stelvio quindi in un sito di alta quota e che cosa permettono di fare queste cartografie fatte in tre anni differenti nel corso di 70 anni permettono di andare a individuare le zone in cui la vegetazione ha cambiato la propria copertura quindi aree in cui la copertura è cambiata individuare le aree dove l'intensità di copertura è variata e anche il perché questa è cambiata sia in termini come dicevo di copertura totale vediamo che ci sono sia aree che aumentano la propria copertura in verde che aree che la riducono sia anche in termini di dinamica di vegetazione quindi di evoluzione della vegetazione perché ci si aspetterebbe che un miglioramento climatico porterebbe questi ambienti diciamo estremi ad uno maggior sviluppo è un processo di evoluzione della vegetazione che avviene quello che si vede nelle parti verdi ma ci possono anche essere degli aspetti inattesi dovuti indirettamente al cambiamento climatico come un'involuzione della vegetazione di quello che per esempio è stato registrato in questo caso devuto al fatto che ad un miglioramento climatico è anche stato associato una degradazione del permacus che ha generato una serie di processi di instabilità che ha quindi portato non ad una evoluzione della vegetazione ma ad una regressione ed in particolare sempre in questa zona sicuramente quello che è molto evidente negli ultimi 70 anni è stata l'aumento e la risiedita di quelle che sono le comunità arbustive e i loro mosaici vedete sempre nei tre anni di studio la distribuzione delle comunità arbustive e anche la distribuzione di quelle che sono oggi le specie arboree diciamo che questo ci dà la fotografia di quello che è stato nei tre anni tuttavia ci sono dei metodi che permettono di approfondire il dettaglio e di andare a ricostruire meglio quelle che sono le dinamiche di reclutamento di queste specie arboree ed arbustive e di poterle associare anche con più accuratezza a quelli che sono le forzanti climatiche e per esempio una di queste tecniche è la tendocrinologia o la dendroecologia che consiste fondamentalmente nel campionare tramite sezioni di legno o carote di legno appunti le specie legnose e con il conteggio degli anelli andare a ricostruire e adattare questi campioni ottenendo dei risultati che diciamo assomigliano a questi presentati anzi che sono quelli presentati in questa slide dove vedete sull'asse delle ascisse quindi sull'asse delle X il tempo su base quinquennale e sugli ordinati i tassi di reclutamento e dove quindi è stato possibile ricostruire sempre in contesto alpino e nella passa dello stelgio come l'entrata degli arbusti e delle specie arboree sia stata graduale e differenziata nel senso corrodendo il ferruginio che ha il suo primo ingresso al termine di quella che ha quindi in conseguenza di un miglioramento climatico ma è stato invece successivo e estremamente associabile a quello che è il riscaldamento più recente a partire dagli anni 70 l'entrata anche delle specie arboree che in questo caso sono il pinomugo e il larex decidua vedete come fitta benissimo la curva di reclutamento che sono gli histogrammi grigi delle specie arboree con l'impennata della temperatura degli ultimi anni e che cosa comporta diciamo l'entrata di specie arboree arbustive medio grandi in un contesto che solitamente ha specie arbacee beh porta inevitabilmente ad un aumento della competizione per le risorse che sono già comunque limitate quindi inevitabilmente ad una perda di biodiversità e di habitat ma non solo non solo perché l'entrata di forme di crescita diverse come quelle degli arbusti può generare dei feedback o retroazioni positive su quelli che sono i fattori climalteranti mi spiego meglio questo è un grafico che mostra come diverse comunità vegetali abbiano la capacità abbiano diverse capacità di assorbire l'anidride carbonica ed è evidente come ci sia un gradiente passando dalle praterie alpine fino al suolo nudo qui ci sono gli arbusti di come ci sia una riduzione della capacità di assorbire l'anidride carbonica valori negativi indicano maggiore capacità di assorbire valori positivi emissioni di anidride carbonica quindi una prateria alpina in arbustita vedete che porta ad una perdita di anidride carbonica assorbita e quindi di conseguenza a maggiore rilascio quindi questi sono due metodi per studiare quello che è in corso o che è avvenuto poi ci sono delle altre tecniche che permettono di prevedere quello che potrebbe essere il futuro ed è quello che in collaborazione col Parco Nazionale dello Stelvio abbiamo avviato in due siti di studio sempre nella stessa area che abbiamo mostrato prima e all'interno del panel internazionale dell'International Tendline Experiment e questi siti di studio si basano sull'installazione sul posto di particolari strutture che vi mostro nella prossima slide che vanno ad alterare una delle forzanti climatiche in alto a sinistra abbiamo quelle che si chiamano le open top chamber che aumentano la temperatura del suolo quindi simulano un riscaldamento a destra le tettoie quindi che riducono in basso quella che è una struttura che va a modificare tramite l'azione del vento e la ridistribuzione della neve e quindi noi in queste strutture di manipolazione che simulano lo scenario di fine secolo della vegetazione che vanno dalla biologia dall'efficienza di post-sintetica fino ad arrivare alla ricchezza di specie e alla biodiversità gli impatti però sono visibili anche non solo ormai negli ambienti che sono veramente sensibili ma anche in un contesto più vicino a dove vi sto parlando che è il contesto prealpino dove chiaramente c'è stato un effetto più marcato di quello che è l'uso del suolo ma dove comunque negli ultimi anni sempre riferimento di prendersi alla risalita c'è stata un'evidente accelerazione dovuta al cambiamento climatico anche in questo caso vedete che c'è sempre nel concetto dell'istogramma il tasso di reclutamento di questa specie che è vetula pendula c'è stato un primo picco molto più picco primo reclutamento intorno agli anni 50 in corrispondenza dell'abbandono diciamo delle solite agrosiglopastorali ma come invece negli ultimi anni in corrispondenza di un ancora più marcato aumento della temperatura ci sia stata un'accelerazione di questa risalita di chiusura del bosco quindi ci sono dei processi che ormai accomunano diversi ambienti anche le diverse quote questo per quanto riguarda le Alpi per quanto riguarda l'Antartide diciamo che il funzionamento gli impatti sono molto simili anche se ovviamente le specie e le forme di crescita dominanti non sono quelle erbacee ma sono fondamentalmente le comunità tuttogamiche quindi di muschi e di lichieni tuttavia qui ci sono anche scusate e queste sono le tre aree di studio principalmente investigate che si dispongono anche lungo un gradiente latitudinale quindi che va dall'Antartide marittimo fino all'Antartide continentale passando dall'isola antartica dove appunto sono stati riscontrati diversi impatti del cambiamento climatico e dove sono tuttora in corso degli studi sicuramente un processo che caratterizza l'Antartide marittimo molto simile a quello che abbiamo visto prima per la per la colonizzazione degli alberi e dell'ambiente di fundera alpina è quello dell'espansione delle due specie effettivamente vascolari che ci sono autotone specie che però hanno visto negli ultimi anni una forte espansione non tanto altitudinale quanto di numero di siti colonizzati in risposta a quello che è il riscaldamento della temperatura il riscaldamento climatico ma anche ad una maggiore mobilitazione dei nutrienti che questo induce e queste due specie sono molto più efficienti e molto più competitive nell'utilizzo di questi nutrienti rispetto alle specie criptogamiche che diciamo solitamente che costituiscono le comunità del posto e quindi il confronto anche qui di dati cartografie storiche e retenti permette anche di stabilire qual è la tendenza e qual è lo scenario futuro possibile sottolineando quindi anche permettendo anche di individuare quelle che sono le aree di maggior preso e di maggior interesse che devono essere appunto tutelate anche in questo ambiente che sembra così remoto ma poi come vi mostrerò nella prossima slide non è così remoto nel senso che anche qui ho visto che già un paio di interventi precedenti hanno parlato di specie invasive esotiche anche in Antartida ovviamente sia per metodi sia per vettori naturali come potrebbero essere gli uccelli migratori sia anche per un crescente comunque raggiungi un crescente movimento di persone sia logistiche ma anche purtroppo per fortuna poi ognuno la pensa come vuole turistiche c'è la possibilità appunto che anche specie esotiche possono raggiungere questi ambienti e ovviamente in un contesto di cambiamento climatico possono anche trovare delle condizioni favorevoli alla germinazione e quindi poi anche alla diffusione andando quindi da alterare tutta la struttura e la biodiversità dell'ambiente locale passando all'antartide continentale anche qui chiari effetti ed è interessante notare in questo lavoro come gli effetti come il cambiamento climatico agisca in un certo modo anche in modo in situazione ossia questo è un lavoro che mostra come i cambiamenti di parametri climatici vadano ad alterare quello che è due minuti Francesco quello che è lo strato attivo ossia lo strato che si scioglie stagionalmente lì sopra del permafrost la modifica della distribuzione della neve modifica anche dello spessore dello strato attivo e quindi una diversa disponibilità idrica che ha quindi portato ad una modificazione a sua volta della dominanza delle forme di crescita una diminuzione dei muschi che sono chiaramente più associati all'acqua e una dominanza anche qui esattamente come sulle Alpi si quindi decide di andare a capire però quali potrebbero essere gli scenari futuri alpino si sono installati degli esperimenti che sono esattamente identici a quelli che abbiamo mostrato prima nel parco su superfici più ridotte non solo però cambiamento climatico anche in Antartide recentemente ci possono essere degli effetti dovuti all'uomo involontari come potrebbe essere il trasporto ma anche volontari come è il caso della costruzione di una pista di atterraggio in funzione anche delle basi di ricerca e sono stati necessari gli interventi di mitigazione di questi impatti proprio per preservare quegli ambienti che rischiano di essere anche per altri fattori ambientali non climatici l'ultima slide riguarda invece le ultime ricerche svolte in Artico che si rilacciano un po' a quello che vi parlavo prima dei feedback sulle portanti climatiche perché sono studi che sono organizzazioni dalla foglia all'ecosistema pianta suolo fino al paesaggio quelli che sono gli scambi dell'idride carbonica tra diversi ecosistemi ed hanno sottolineato come sicuramente l'aumento di temperatura sia la chiave generale di un aumento dell'emissione di negli fanno anche sottolineato come proprio il cambio di comunità e di abbondanza delle comunità avendo diverse capacità di assorbire l'analisi di carbonio andare ad alterare i cicli del carbonio generando quindi quelle retrazioni che alimentano questo circolo vizioso io con questo vi ringrazio concluso ovviamente vi invito per approfondimento a scaricare gli atti del convegno e a seguire le prossime presentazioni che tratteranno sotto un altro punto di vista lo stesso tipo di ambiente quindi grazie mille e alla prossima perfetto grazie al dottor Marfasi Francesco bene avete visto come quindi anche portandosi in ambienti estremi e molto lontani dal nostro ambiente dai nostri territori però le problematiche siano rilevanti soprattutto quelle che sono anche problematiche di conservazione Comincio intanto col ricordare una cosa approfitto di questa occasione che naturalmente rende impossibile fare un bilancio degli effetti del cambiamento climatico relativo alle componenti naturali del parco e allo stato attuale gli studi sono in atto alcuni li abbiamo appena sentiti citare interessantissimi ormai tra quelli di più lunga data altri sono iniziati negli ultimi anni cominceranno a dare primi riscontri se ci sono trovare correlazioni col cambiamento climatico solo da qui al futuro volevo approfittare di questa occasione allora anche per inquadrare quello che può essere proprio il ruolo dello scienziato ambientale in un'area protetta di grandi dimensioni come è il parco nazionale dello stevio ricordando però che noi siamo soltanto uno dei 25 parchi nazionali presenti nel nostro territorio molto di questi sono parchi montani tutti questi diventano delle straordinarie palestre in cui esercitare la ricerca scientifica e andare a indagare questo tema come in realtà tutti gli altri temi legati all'ecologia ambientale parco dello stevio per intenderci è questo qua su al confine tra Lombardia e le province autonome di Bolzano e di Trento ricordava la professoressa Cannone un parco di vaste dimensioni oltre che un parco storico è il più grande parco nazionale dell'arco alpino italiano più di 1300 km quadrati è un parco tipicamente montano si sviluppa pressoché per intero al di sopra dei mille metri con circa tre quarti del territorio e sopra 2000 metri con una geografia un'orografia estremamente articolata che fa sì che in un territorio che è grande relativamente ma dal punto di vista ecosistemico si potrebbe in realtà pensare come piuttosto ridotto presenti una serie di condizioni di variazioni di dipendenza di versanti di quote che permettono l'esistenza di una elevata diversità di ambienti e quindi una biodiversità estremamente ricca siamo tra l'altro in una di quelle zone che più stanno risentendo e questo è stato documentato dal cambiamento climatico per ricordare anche come si diventa ricercatori in un parco nazionale questo è il dottor Pedrotti il nostro coordinatore scientifico è lui che coordina tutte le ricerche che vengono fatte direttamente da noi o in collaborazione con una parte predominante del parco in questi progetti ma è lui che coopera poi con tutti gli altri gruppi di ricerca che con il parco hanno varie forme di collaborazione tanto per ricordare anche quali sono le possibilità per il lavoro per i giovani ricercatori vi faccio vedere una fotografia di tre di nostri collaboratori che stanno lavorando con noi con vari tipi di incarico incarichi professionali piuttosto che borse di studio piuttosto che addirittura assenzione temporanea per il tramite di società che forniscono a noi che siamo un ente regionale di regione Lombardia forniscono un personaggio vi faccio vedere anche due immagini giusto per avere un colpo d'occhio dimensionale della quantità di ricerca che si fa nel parco questo è un convegno che abbiamo organizzato due anni fa in cui molti dei ricercatori non tutti è soltanto una parte dei ricercatori che ha vario titolo e con varie forme di collaborazione o indipendentemente operano nel parco lavorano con noi vi faccio vedere anche questa tavella che ho messo per non leggerla in realtà ma che ci dà l'ordine di grandezza delle ricerche che il parco direttamente in collaborazione con altri enti istituti sta conducendo sui temi relativi principalmente visto che è la nostra competenza prima in campo faunistico ma in realtà in tutti i settori in tutte le discipline delle scienze ambientali sono vedete poco meno di 60 ricerche attualmente in corso ma altre in realtà stanno per partire a brevissimi queste ricerche si sviluppano lungo tre filoni principali tre principali temi il primo dei quali è lo vedete i cambiamenti climatici in alta quota altri sono la relazione tra attività entropiche e la conservazione delle risorse naturali un parco nazionale naturalmente ha la funzione prioritaria di conservare tutelare il patrimonio ambientale la conservazione però si può mettere in pratica soltanto se si conoscono si conosce bene questo patrimonio che poi si deve tutelare e poi il monitoraggio e la conservazione degli abitati delle specie di interesse comunitarie non vedete inserito come punto esplicito l'ingresso nei nostri ambienti delle specie esotiche perché per oggi per fortuna da noi non è ancora un problema manifesto ma è stato già detto e ripetuto che questo è uno dei problemi che più si correlano col cambiamento climatico in atto e quindi ci aspettiamo che nel tempo anche questo debba diventare un obiettivo aperto esplicito delle ricerche vi faccio vedere alcune delle ricerche che abbiamo in corso tra le tante che avete visto in quell'elenco alcune in collaborazione per esempio con l'Università di Milano e il Politecnico di Milano di tipo idrologico e glaciologico è il progetto idrostelvio che ormai da più di dieci anni è in corso che ha permesso di creare una rete di rilevamento idrologica probabilmente la più fitta per un parco nazionale a livello europeo ovviamente questa è come dire la misura diretta di quello che il cambiamento climatico sta portando nei nostri territori non ho inserito esempi di ricerche in campo botanico floristico perché è stato appena parlato le ha appena citate il dottor Malfasi vi porto qualche altro esempio che rimandano invece a quella che come vi dicevo è la nostra esperienza e competenza più diretta che sono le indagini in campo paunistico indagini che in alcuni casi partono molto indietro nel tempo non così indietro naturalmente ma questo è l'esempio del monitoraggio di lungo periodo che stiamo conducendo ormai da 15 anni circa ci grandi rapaci Gipeto e Aquila Reale questi progetti naturalmente avevano il primo scopo di verificare come queste popolazioni stesse revolvendo nel nostro territorio il Gipeto estinto all'inizio del secolo XX è stato reintrodotto da partire dal 1986 nel nostro parco si è insediato cominciato ad edificare in sostanza bisognava verificare in tempo reale se questo ritorno fosse effettivo o se questa specie continuasse ancora a rischiare problemi di conservazione è inevitabile questi sono i risultati di questi monitoraggi che in realtà sono dei progetti internazionali e questa è semplicemente la carta del numero di coppie presenti sull'arco alpino e vedete come molte di queste siamo ormai a più di 10 sono presenti nel territorio del parco nelle zone circostanti idem Aquila Reale ora questi monitoraggi di lungo periodo al di là di fornirci degli informazioni fondamentali per seguire l'andamento di queste specie nel tempo si potranno anche correlare col cambiamento climatico perché è inevitabile che una specie al vertice delle catene alimentari come l'Aquila Reale non possa non risentire per esempio della ridistribuzione della specie di preda se così dovesse essere nei prossimi anni queste indagini in realtà hanno una valenza molto più ampia di tipo ecologico etologico comportamentale anche di tipo ad esempio tossicologico un grosso problema per le aquile i grandi rapaci il saturnismo cioè il fatto che possano ingerire frammenti di piombo di proiettili di piombo che rimangono all'interno degli animali degli ungulati che dopo l'attività di caccia o dei viscere degli ungulati che vengono abbandonati sul terreno dopo l'attività di caccia ingerendo questi resti le aquile naturalmente assumono piombo che per loro può essere anche letale è una causa di mortalità non secondaria in questa specie così come stiamo conducendo dallo scorso anno un'indagine telemetrica sui giovani di aquila reale per seguire i movimenti dispersivi e i comportamenti tutto ciò naturalmente inevitabilmente ha a che fare con il futuro dell'arco alpino in termini proprio di ecologia di sistema e quindi cambiamento climatico discorso analogo vale per il monitoraggio del cervo che utilizza vari metodi di cattura ricattura monitoraggio marcaggio a vista piuttosto che con radiocollari che naturalmente ha anche la funzione della verifica sanitaria biometrica dei capi che vengono di volta in volta catturati e che ci permette di seguirne poi anche gli spostamenti e anche questi dati se dovessero modificarsi nel tempo a causa delle modifiche del clima potranno avere un riscontro oggettivo nei dati che andremo nel futuro a raccogliere tante sono le ricerche queste sono per esempio alcune delle più recenti in questo caso un'indagine sulla competizione tra cervo e camoscio che c'è sappiamo esserci è stata dimostrata una correlazione tra l'incremento continuo della popolazione dei cervi e una diminuzione una ridistribuzione sul territorio dei camosci non abbiamo ancora ben capito quali ne siano le cause molto probabilmente una di queste è il cambiamento climatico che sta in qualche maniera già sfavorendo la presenza del camoscio alle altre quote favorendo il cervo in termini competitivi dovremo capire come ma vi dicevo queste sono le indagini che abbiamo iniziato da pochi anni così come i monitoraggi sulla biodiversità di lungo periodo che stiamo conducendo in collaborazione con altri parchi nazionali in parallelo con loro questi progetti daranno dati utili nel corso del tempo sono progetti di monitoraggio su certe componenti di fauna vertebrata e soprattutto in massimo ok perfetto vado veloce indagini come dire che vanno in questa direzione sono anche condotte sulle reti trofiche piuttosto che da un paio d'anni sulla marmotta è uno degli obiettivi verificare se risente risentirà del cambiamento climatico chiudo con un tema che sembra distante dalla ricerca scientifica ma che non lo è la storia abbiamo avuto l'avventura di scoprire grazie al cambiamento climatico qualche anno fa quello che rimaneva di un vecchio baraccamento ostro-ungarico che si è combattuto durante la prima guerra mondiale è stato un recupero straordinario e per i reperti che conteneva più di 300 ma anche perché tutto ciò i reperti così come il baraccamento in legno si erano conservati grazie al fatto che dentro questa baracca abbandonata dopo la guerra si era formato ghiaccio che l'ha conservata per intero e ha conservato anche i resti di presenza i resti biologici di presenza dei soldati che lì avevano vissuto abbiamo in corso una ricerca multidisciplinare di grandissimo interesse che sicuramente ci permetterà di ricostruire la vita dei militari in quelle condizioni in un'ottica nuova tra l'altro con una prospettiva anche di ampliare questa logica di ricerca multidisciplinare su orizzonti spaziali temporali tornando rapidamente su quanto già ci ha raccontato in maniera così chiara la dottoressa Iaiotti cioè l'importanza anche che il ricercatore ambientale si dedichi a fare il mediatore scientifico la mediazione scientifica cioè portare l'informazione scientifica al grande pubblico è il prodromo indispensabile all'educazione alla sostenibilità questo è un aspetto che non va trascurato come prospettiva lavorativa e che anzi io vedo come fondamentale collaterale alla ricerca ma fondamentale per mettere a disposizione anche ripeto del grande pubblico le nostre competenze e ci metto anche la nostra passione per il lavoro che facciamo che poi traspare quando ne andiamo a parlare io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione grazie mille Massimo per questa interessantissima presentazione che fa vedere come appunto il parco nazionale si è impegnato su più fronti vedendo le immagini sulla competizione tra cervo e camoscio da botanica io ho immediatamente una risposta su quello che potrebbe essere uno dei fattori perché l'espansione degli arbusti e degli alberi verso le alte quote che abbiamo ben documentato nel vostro territorio potrebbe proprio essere una delle cause ma ovviamente appunto noi l'ambiente lo dividiamo in compartimenti per nostra comodità di studio ma è un unicum e quindi poi abbiamo questi effetti a cascata tra una componente e l'altra che quando poi arrivano diciamo anche nella parte faunistica quindi si trasferiscono diciamo dalla componente vegetale a quell'animale e lungo alla rete trofica ci fanno capire quanto questa importanza stia diventando sempre più rilevante torniamo invece sempre a quello che è il tema del cambiamento climatico però approcciandolo da un punto di vista abiotico e quindi per quello che riguarda lo studio della criosfera e l'impiego anche di innovazioni tecnologiche per incrementare la qualità di questi studi ce ne parla il dottor Stefano Ponti anche lui è un nostro laureato magistrale ha fatto il dottorato di ricerca in scienze chimiche ambientali presso l'università degli studi ha partecipato a diverse spedizioni in artico e in antartide e ci illustrerà appunto quella che è l'esperienza dell'università degli studi dell'insubria su quello che è l'importanza della criosfera prego buongiorno a tutti grazie Nicoletta di questa presentazione adesso condivido il mio schermo allora niente io volevo parlarvi delle innovazioni tecnologiche quindi mediante anche l'uso di tecnologie diciamo di ultima avanguardia per lo studio del cambiamento climatico e degli impatti che può avere sullo studio della criosfera criosfera che quindi è quella parte abiotica della geosfera di bassa temperatura quindi che può comprendere quello che è il permafrost la neve oppure i ghiacciai il cambiamento climatico è un dato di fatto viene studiato da numerosi gruppi di ricerca e ho voluto riportare questo esempio di uno dei parametri fondamentali del cambiamento climatico che è l'aumento della temperatura dell'aria si può ben vedere che negli ultimi anni questa tendenza all'aumento della temperatura dell'aria è evidente specialmente in questo riquadro che rappresenta parte dell'Europa e si può vedere oltretutto che questo aumento della temperatura è più accentuato per quanto riguarda le Alpi e anche il circolo polare artico non solo su una diciamo una media annuale ma anche per quanto riguarda una media stagionale che può essere sia d'estate e sia d'inverno questo è uno dei parametri che vengono studiati del cambiamento climatico un altro aspetto fondamentale può essere quello della copertura nevosa in questa slide vogliamo farvi vedere come la distribuzione della neve sia cambiata presso un sito di studio vicino al passo dello Stelvio in particolare nel primo pannello vedete che nel 2003 la frequenza di presenza del manto nevoso allo snow melting quindi stiamo nel periodo tra giugno e luglio sia abbastanza frequente presso tutto il circo dello scorluzzo mentre se andiamo a fare lo stesso tipo di studio per lo stesso momento nel 2018 vediamo che la permanenza della neve è molto ridotta quindi si è ridotta di gran parte presso che tutto il circo dello scorluzzo e anche il passo dello Stelvio questo cosa comporta sia l'aumento di temperatura la riduzione o comunque la distribuzione la variata distribuzione del manto nevoso hanno degli effetti che possono essere visti sullo studio del permafrost sulla temperatura del permafrost infatti molti studi a livello globale hanno già dimostrato come il permafrost nelle sue diverse forme aspetti che può essere quello artico antartico montano anche il permafrost discontinuo quindi di zone un po' più calde presenta dei trend di riscaldamento che possono essere mediamente attorno ai 0,2 gradi ogni decade quindi è una realtà che è vera a livello globale questo riscaldamento del permafrost è importante perché il permafrost non si vede sta sotto i nostri piedi a differenza dei ghiacciai che sono molto visibili in questi ambienti e non ha degli effetti che sono immediati e delle risposte veloci ad un aumento della temperatura per esempio ma ha degli effetti ritardati che possono avvenire anche dopo svariati anni e uno di questi effetti può essere visibile attraverso queste frane rocciose di versanti rocciosi quindi siamo in ambiente alpino e quindi potete vedere che causa questi disastrosi effetti in ambiente alpino un altro degli aspetti importanti dello studio della criosfera sono sicuramente i ghiacciai in questa slide voglio farvi vedere come sia evidente il ritiro di uno dei ghiacciai delle nostre Alpi che è il ghiacciaio del Gran Zebru attraverso anche il banale studio di ortofoto disponibili dal sito della regione Lombardia e con l'aggiunta anche di ortofoto prodotte dal gruppo di ricerca mediante l'utilizzo di droni quindi si vede bene che nel 1988 tutta l'area era ricoperta di ghiaccio o neve nel 2006 si vede in particolare la fronte del ghiacciaio che corrisponde con questo laghetto glaciale e nel 2015 quindi dopo pochi anni la fronte si è ritirata di molto diciamo anche più di 100 metri nel 2019 ancora di più e sono in tuttora in fase di studio i dati per quanto riguarda la differenza tra il 2019 e il 2020 che come risultato preliminare dimostrano come anche lo spessore medio del ghiacciaio si sia abbassato in un solo anno di studio di 2 metri come media e la fronte del ghiacciaio si sia ritirata di una decina di metri le tecniche innovative gli strumenti più d'avanguardia che sta utilizzando il nostro gruppo di ricerca sono questi due quindi un drone di casa produttrice della DJI che monta su di esso un GPS RTK quindi in grado di geotaggare con altissima precisione diciamo attorno ai 2 cm ogni fotogramma che scatta e monta sia una camera visibile quindi che produce colori nel rosso nel verde nel blu quindi fotogrammi visibili e anche una fotocamera termica quindi in grado di definire quelle che sono le temperature delle superfici stessa cosa quindi immagini termiche in grado di fornire un'altra nostra attrezzatura che è una termocamera manuale quindi è in grado di fare misure dal suolo che è una FLIR E85 sono diverse le tecniche utilizzate nello studio della criosfera tecniche anche di uso più classico diciamo quindi quella della resistività elettrica del suolo che prevede praticamente l'utilizzo di uno strumento che immette della corrente a diversi amperaggi nel sottosuolo la corrente viene ricevuta da altri elettrodi e questa misura è in grado di fornire le resistività all'interno del sottosuolo a diverse profondità in base alle resistività siamo in grado di definire se un materiale può contenere acqua allo stato liquido può contenere ghiaccio può contenere aria attraverso i pori della matrice o può anche contenere permacrost perché il permacrost che è suolo gelato presenta alte resistività l'utilizzo del drone in questi ambienti diciamo di studio ci permette di ricostruire attraverso un'analisi fotogrammetrica la tridimensionalità degli oggetti questo è l'esempio che ho fatto vedere prima del ghiacciaio del Gran Zebru in poche parole si pianifica una missione del drone attraverso attraverso la quale vengono ripresi diversi fotogrammi con una buona sovrapposizione tutti georeferenziati e attraverso l'utilizzo di questo software che è Agisoft Metashape si ricostruisce la tridimensionalità come nuvola di punti dopodiché questa nuvola di punti viene trattata in diverse maniere ad esempio due dei prodotti fondamentali di questa nuvola di punti quindi da questa analisi fotogrammetrica sono le ortofoto e i modelli digitali del terreno l'ortofoto è praticamente un'immagine che è il prodotto di diversi fotogrammi che presenta una correzione quindi è georetificata quindi sulla sinistra se noi andiamo a misurare qualsiasi oggetto appartenente a quella ortofoto troviamo delle misure che corrispondono con quelle reali quindi non ci sono distorsioni per quanto riguarda l'utilizzo di una lente particolare del drone mentre l'altro prodotto fondamentale è il il modello digitale del terreno ossia il DEM che ci permette di rappresentare attraverso una scala cromatica quali sono le quote di ogni singolo pixel che compone queste immagini quindi questo ci dà una rappresentazione di quella che è la topografia esatta e anche del cambiamento perché facendo ripetendo questo tipo di analisi ottenendo diversi DEM in un arco temporale si possono osservare dei cambiamenti tutte queste analisi sono molto definite nel senso sulle ortofoto riusciamo a raggiungere 3 cm di risoluzione per quanto riguarda l'estensione di questo di acciaio che non è poco non è poco espanso e anche per il modello digitale del terreno si raggiungono buone risoluzioni fino ai 5 cm l'utilizzo di queste analisi fotogrammetriche è importante per quanto per definire anche la deformazione quindi in movimento che possono avere le forme geomorfologiche in ambito alpino questo è un esempio del rock glacier presso il passo dello stelvio si vedono poco ed è in tuttora in fase di analisi però sono osservabili dei vettori che abbiamo segnato in rosso presso dei grossi blocchi del rock glacier che si sono spostati in un arco temporale che abbiamo definito dal 2015 al 2020 abbiamo quindi integrato quelle che sono le ortofoto prodotte dal drone le ortofoto già presenti sul geoportale per andare a definire quali sono gli spostamenti e quindi una velocità media annua che può avere questo tipo di forma geomorfologica altri studi sono stati fatti per quanto riguarda il glacialismo quindi la ricostruzione della velocità di deglaciazione delle valli alpine grazie grazie all'utilizzo di alcune tecniche innovative hanno permesso si è potuto andare ad adattare con precisione l'età dei suoli e quindi andare a ricostruire quella che è stata una velocità di deglaciazione presso diverse valli alpine anche grazie all'utilizzo di altri strumenti come il martello di Schmidt però questo per quanto riguarda le rocce montonate quindi quelle che hanno subito la pressione del ghiacciaio e sono state esposte dopo la deglaciazione uno degli altri studi più recenti che abbiamo condotto è come l'effetto del cambiamento climatico possa avere un'influenza sulla velocità di movimento della superficie del substrato come si vede nella mappa di destra le zone rosse sono quelle che si spostano si muovono più velocemente mentre quelle verdi più lentamente non sono solo legate a forme geomorfologiche ma anche ad altri aspetti e queste sono direttamente collegate alla crescita della vegetazione quindi come la vegetazione risponde in questi ambienti di dinamica superficiale e questo si vede bene come una distribuzione del permafrost sulla sinistra quindi in blu un permafrost presente vada a trattenere quelli che sono i movimenti superficiali perché grosso modo corrisponde a quelle zone che si spostano meno velocemente l'utilizzo della termocamera poi ci permette di definire quelle che sono zone e superfici a diverso spettro termico per quanto riguarda il ghiacciaio del Gran Zebru ma anche ci danno un'idea di come diversi ambienti sia in ambiente artico che antartico che sulle nostre Alpi siano in corso dei processi di conducibilità termica delle superfici simili ma che possono portare a degli effetti differenti per quanto riguarda la trasmissione della temperatura nel sottosuolo e quindi dei riscontri sulla temperatura del permafrost e con questo ho concluso la presentazione vi ringrazio dell'attenzione Stefano grazie per la presentazione adesso facciamo noi una presentazione il professor Guiglielmin che è qui presente insieme a me il professor Zamperetti siamo diciamo portatori di questo progetto che si chiama Insubre Polar e che riguarda la prima sede universitaria italiana in area polare si vede la presentazione non ho riscontrato sì si vede grazie perché le aree polari abbiamo visto che il cambiamento climatico è un diciamo un fattore emergente che sta condizionando le nostre vite l'evoluzione dell'ambiente e che dai dati quantitativi non è omogeneo non si manifesta allo stesso modo in tutte le aree del pianeta ci sono delle zone che si riscaldano di più e altre che si riscaldano di meno quali sono diciamo le zone calde del pianeta le zone calde del pianeta in particolare sono tre una è vicinissima sono le Alpi Europee quindi il nostro territorio esattamente le altre due sono molto lontane si trovano in aree polari una al Polo Sud vedete nella figura di destra l'Antartide in particolare la zona della penisola antartica è quella che si sta scaldando di più mentre l'immagine di sinistra è ripresa diciamo con una prospettiva dal Polo Nord e ci fa vedere come alcune zone abbiano queste diciamo questo colorazione viola che indica la maggiore intensità di riscaldamento tra queste c'è l'Alaska l'Alaska la penisola antartica le Alpi Europee sono le tre aree del mondo che hanno subito il riscaldamento più intensivo e più diciamo senza precedenti come già anche il rapporto IPCC ha ricordato e l'Università dell'Insubria sta concentrando i suoi studi quindi proprio su queste aree dove ci sono diciamo evidenze sempre più importanti di quelli che sono gli impatti del cambiamento climatico e sono aree in cui le tendenze dei sistemi biologici e della componente abiotica ci possono dare quello che si chiama early warning cioè un avviso un importante messaggio di allarme perché poi certe conseguenze negative che si manifestano prima nelle zone di alta quota e alta latitudine si trasmetteranno e si renderanno evidenti anche nelle zone di media e bassa latitudine quindi dove l'uomo vive e lavora la ricerca dell'università dell'insubria in area polare comincia circa 25 anni fa il primo precursore è stato il professor guiglielmi che vedete in questa immagine proprio attivo sul campo e ci siamo occupati di tante tematiche non solo del cambiamento climatico di cui vedete qua due strati di due articoli che sono già stati anche visti eccitati in cui si nota come anche in ambienti estremi come l'antartide continentale dove tutto sembrerebbe immutabile in realtà il cambiamento climatico sta cominciando a manifestarsi e questo quindi ci deve dare una misura quantitativa del fatto che si tratta di quello che noi scienziati definiamo un major change cioè un cambiamento globale di grande rilevanza in antartide abbiamo fatto anche degli studi di base perché comunque è un continente ancora poco conosciuto vedete qua un trend di diversità delle briofite cioè dei muschi una componente vegetale dove analizzando quello che è la biodiversità dei muschi siamo riusciti insieme al nostro collega inglese perché l'università dell'insubria collabora da vent'anni con i british antarctic survey a ricostruire e ipotizzare alcune dinamiche di occupazione e colonizzazione dell'antartide che ovviamente devono essere avvenute milioni di anni fa in momenti di cambiamento climatico del passato quindi momenti di paleoclima più caldo e abbiamo individuato anche questa grassite line che è una discontinuità biogeografica legata proprio a questi processi migratori effettivamente da questa pubblicazione in cui studiando la biodiversità attuale avevamo fatto delle ipotesi siamo arrivati poi con un gruppo di lavoro internazionale vedete che coinvolge sia il british antarctic survey che anche ricercatori spagnoli e con l'impiego di metodi di analisi molecolare abbiamo ricostruito per una specie particolare di muschio che come vedete nell'immagine in alto è presente in tutto il mondo quindi è una specie che noi definiamo cosmopolita abbiamo ricostruito la diversificazione della specie che risale a circa 15 milioni di anni fa e poi il suo ingresso che in antartide è avvenuto circa 6 milioni di anni fa per la prima volta e poi in fasi successive che con diciamo quella che è il metodo del molecular clock quindi l'orologio molecolare e la ricostruzione delle aree ancestrali di distribuzione ci ha permesso di capire da dove arrivava la specie e che questa specie in un momento di paleoclima quindi di warming di riscaldamento paragonabile a quello attuale è stata anche capace di migrare dall'antartide verso il Sud America e questa è la prima volta che diciamo un'evidenza del genere è stata dimostrata a livello scientifico a livello scientifico sempre lavorando sui muschi in collaborazione con i British Antarctic Survey abbiamo anche dimostrato per la prima volta in ambito antartico come queste specie adattate ad ambienti estremi siano capaci di portarsi spontaneamente in uno stato che viene definito intermedio tra la vita e la morte si chiama criptobiosi perché questi muschi sono stati sepolti dal ghiacciaio per 600 anni quindi nel periodo medievale al termine di un periodo di riscaldamento si è poi avviata la piccola età glaciale i ghiacciai sono avanzati ricoprendo i muschi che non sono morti si sono portati in stato di criptobiosi e adesso con il cambiamento climatico attuale sono stati capaci una volta che il ghiacciaio si è ritirato di risvegliarsi e ricominciare la propria attività metabolica certo con un po' di fatica perché li vedete nelle immagini non erano proprio in forma splendida ma sono stati capaci di riprendersi e quindi questo diciamo ha anche degli aspetti innovativi che potrebbero essere utilizzati ad esempio per applicazioni nella ricerca spaziale del futuro sempre appunto da un punto di vista paleoclimatico abbiamo ricostruito però di questo ne parla il professor Guidelmin che è diciamo il nostro esperto di paleoclima grazie di avermi dato la parola sempre utilizzando il ritrovamento dei muschi da parte della professoressa Cannone è stato possibile appunto che vedete con i pallini verdi nell'immagine in basso è stato possibile datarli con il radiocarbonio 14 e quindi poter avere quello che è stata la prima testimonianza comprovata che durante il medioevo c'è stato un riscaldamento significativo che ha portato un arretramento del ghiacciaio in una posizione decisamente più arretrata rispetto a quella dell'anno in cui sono stati presi questi campioni che è stato il 2009 quindi vuol dire che durante il medioevo anche nella penisola antartica il riscaldamento era stato più pronunciato di quello che o meglio l'arretramento del ghiacciaio era stato più forte di quello che dieci anni fa coinvolgeva questa zona in realtà abbiamo poi visto facendo un'analisi legata ad altri peroxidata che non è tanto legato a un riscaldamento che era del tutto simile a quello dell'anno 2009 quindi le temperature non erano più alte durante il medioevo ma durante il medioevo in quel periodo le precipitazioni erano inferiori e quindi il ghiacciaio che risente contrariamente a quello che molto spesso si sente dire in maniera più o meno simile a quanta neve gli arriva rispetto al caldo che fa durante l'estate che la scioglie in questo caso appunto hanno dimostrato che se cambiano di più le precipitazioni delle temperature abbiamo che il ghiacciaio comunque anche in un ambiente come quello antartico se se ne ritira più velocemente si poi il nostro gruppo di lavoro ha anche collaborato con questo gruppo di lavoro internazionale vedete ci sono scienziati di diverse nazioni perché il cambiamento climatico con il ritiro dei ghiacciai sta attivando soprattutto in penisola antartica quindi una delle tre aree che hanno subito il maggiore scaldamento quelli che vengono chiamati dei fenomeni paraglastici quindi ritiro dei ghiacciai trasformazione del territorio evoluzione anche espansione della colonizzazione vegetale e degradazione del permafrost questo poi con conseguenze che possono riguardare vari aspetti ma in particolare quello che è l'aspetto dei flussi di CO2 che in Antartide abbiamo iniziato a misurare diciamo con il nostro gruppo di ricerca gli studi sui flussi di CO2 sono ancora molto limitati perché le condizioni sono effettivamente molto difficili per realizzarli ma da questi studi che abbiamo fatto in collaborazione sempre anche con i colleghi inglesi così come nell'Antartide continentale dove c'è la nostra base si è visto che in particolare in penisola dove sia presente della sostanza organica nel suolo il riscaldamento attuale può provocare delle dinamiche molto importanti portando a rilascio di anidride carbonica che è uno dei gas serra e che quindi va ad amplificare una delle cause che stanno provocando il cambiamento climatico recente infatti uno di quello che sono gli aspetti del cambiamento degli impatti il cambiamento climatico più forti è appunto la degradazione del permafrost che si manifesta in due modalità che sono l'aumento della temperatura media del permafrost e l'aumento dello spessore dello strato attivo che è la porzione che si scongela durante l'estate in questa immagine vedete appunto quanti siano i pallini nell'immagine in alto a destra e nell'immagine in basso sempre a destra vedete quanti siano i pallini arancio o rossi che testimoniano che tendenzialmente abbiamo un aumento della temperatura di alcuni decimi di grado per ogni decade del permafrost questo non solo laddove ci sono condizioni di aumento della temperatura dell'aria come appunto ricordava la professoressa cannone nelle alpi o in alaska ma anche come vedete nei pallini nell'immagine dell'antartide in basso a destra arancio nella zona dell'antartide continentale studiata proprio dal nostro gruppo di ricerca dove il permafrost si sta riscaldando nonostante la temperatura dell'aria sia ancora stabile o addirittura in raffreddamento questo lavoro come vedete è andato su Nature Communication che è una delle riviste più importanti ma è frutto non solo nostro ma anche di anzi soprattutto di un gruppo molto molto vasto dopodiché ovviamente dato che io sono un geologo e che mi occupo soprattutto di quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico appunto sul permafrost ma anche sul paesaggio abbiamo fatto una serie di lavori come quello che vedete qua cioè su quello che sono in questo caso l'origine dei rogglacier che sono una delle forme considerate dai più una delle forme tipiche del permafrost anche sulle nostre Alpi molto più diffuse più comuni dei ghiacciai però come si vede nell'immagine legata all'analisi geofisica che vedete qua sotto vedete quelle macchie azzurre o blu indicano che questi corpi perlomeno in antarie in realtà non sono legati alla presenza del permafrost ma sono l'evoluzione finale di antichi ghiacciai quindi hanno un significato paleoclimatico diverso se poi andiamo a vedere come si può utilizzare la geofisica in un ambiente appunto di permafrost molto freddo e remoto come quello dell'antartide continentale vedete qua che abbiamo diciamo ricostruito scusate abbiamo ricostruito quello che è il fondale di un lago ghiacciato e come vedete dalla freccia si è visto che in prossimità di una piccola isolotto che è quello che vedete qui ricostruite tridimensionalmente questo isolotto che si chiama Frost Mound in realtà non è altro che legato al sollevamento di quello che era il suo fondo con i suoi sedimenti legato alla presenza di brine saline le brine saline sono praticamente delle soluzioni ricchissime di sale che possono essere fluide a temperature inferiori in meno 17 gradi e che sono probabilmente che saranno probabilmente l'unico tipo di acqua liquida presente anche su Marte e appunto la prossima questo è particolarmente importante lo studio di queste brine qui nei pochi posti al mondo che sono fondamentalmente in Artide e in Antartide sono utilissimi anche per studiare come vedete qui con altri gruppi di altre università per studiare anche del CNR per studiare quello che è la loro popolazione microbiotica e che è estremamente ricca e le relazioni appunto con le condizioni ambientali e ovviamente parlando di relazioni ambientali abbiamo anche le relazioni con la vegetazione che abbiamo già visto in tanti e anche in altre presentazioni precedenti perché come si può vedere qua nell'immagine a destra possiamo avere uno strato attivo molto molto sottile o uno strato attivo molto molto più spesso siamo più o meno il triplo eppure lo strato attivo più spesso non è nell'isola con la temperatura dell'aria più calda anzi esattamente il contrario questo ci dice che le relazioni la vegetazione il tipo di vegetazione può influenzare anche la dinamica e lo spessore di questo strato attivo alla quale poi sono legati invece le emissioni di gas alteranti in particolare quelle di metano che potrebbero essere una delle cause principali se il trend continua ad essere così del riscaldamento climatico di tutta l'atmosfera un ultimo esempio dimenticavo di aver messo anche anzi ce ne sono altri due legati a un altro tipo di ricerca che è quello che se vogliamo studiare l'evoluzione del paesaggio dobbiamo studiare anche come si alterano le rocce qui vedete un recentissimo lavoro su come grazie alle tecnologie di remote sensing la termocamera in particolare si è potuto studiare la distribuzione spaziale all'interno di queste forme che ci sono poi anche in altri ambiti completamente diversi come quelli della Sardegna o delle Seychelles quindi in ambiti climatici completamente differenti che si chiamano ottafoni e ancora più avanti sempre il remote sensing può essere utilizzato anche per ricostruire come è stato fatto appunto recentemente degli eventi disastrosi come questa questa tempesta che c'è stata nel febbraio dell'anno scorso in Antartide in quel breve lasso di tempo in cui il mare congelato non lo è più con l'invasione di grossi blocchi di grossi iceberg che hanno praticamente rivoluzionato la morfologia di questa costa è quasi distrutto parte dei miei esperimenti aggiungerei bene dopo avervi fatto vedere questa panoramica su quello che è diciamo anche il background dell'Università dell'Insubria negli studi polari in particolare antartici un accenno a quello che è il progetto Insubre Polar che ha avuto ovviamente a causa dell'emergenza sanitaria una battuta di diciamo di parcheggio stiamo aspettando che la situazione sia più tranquilla perché non si può viaggiare non si possono fare alcune attività però il progetto rimane e non appena si potrà partire per passare da una fase teorica a quella pratica e quindi operativa stiamo diciamo preparando tutta l'assetto di quello che sarà che cos'è Insubre Polar e che cosa vuole essere vuole essere una struttura remota in area polare quindi una sede dell'Università dell'Insubria dedicata all'attività didattica all'attività di ricerca scientifica è un momento in cui l'Università dell'Insubria si apre completamente all'internazionalizzazione ma internazionalizzazione a diversi livelli quindi a livello di cooperazione con altri ricercatori e con altri progetti di ricerca scientifica con un paese straniero con la comunità che gestisce i territori e tra l'altro quindi in un'ottica di impatto sostenibile e di economia circolare e di interazione a massimi livelli infatti l'idea è quella di interagire vedete con due panel principali l'International Tundra Experiment e Long Term Ecological Research e quindi andare su anche tematiche multidisciplinari proprio perché questo International Branch Campus deve essere aperto il più possibile e accessibile il più possibile e quindi anche con quello che è il network europeo internazionale ma che si è esteso come vedete a tutto l'emisfero nord come potete notare dai puntini sulla cartina che è riportata a destra che è Interact cioè l'International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic tra l'altro queste attività vanno anche a diciamo inserirsi in una politica dell'Università dell'Istubria che enfatizza quello che è il ruolo del cambiamento climatico con la nascita del centro di ricerca sul cambiamento climatico che è diretto da Mauro Guglielmin del quale io faccio parte come consiglio scientifico vuoi dire due parole su questo e l'idea è partita diciamo da una struttura molto basic perché siamo in ambienti esterni quindi comunque con unità per l'accommodation per dormire e una per laboratorio didattica ovviamente con quelle che sono le facilities adesso in funzione di quelli che saranno diciamo i dettagli finali del progetto e della localizzazione definitiva da questo progetto di base si potrà eventualmente implementare anche perché l'Ateneo si sta muovendo per trovare ulteriori fonti di finanziamento oltre al finanziamento del Ministero della Ricerca dell'Università che ha diciamo premiato con il finanziamento il nostro Ateneo rispetto a un bando nazionale e quindi diciamo da una parte il Covid ci ha fermato ma dall'altra ci sta permettendo di avere più tempo per finalizzare ancora meglio il nostro progetto che tra l'altro rientra in una politica più ampia dell'Università dell'Insubria sì che grazie appunto a questa sensibilità è stato possibile avere un finanziamento dall'Ateneo per svolgere un viaggio di tipo istituzionale presso l'Università della Vasca di cui vedete Fairbanks di cui vedete un'immagine nella quale appunto si andrà a discutere io penso anche a firmare il memorandum of understanding tra le due università che consentirà quindi più facilmente lo scambio di studenti di ricercatori e di dottorandi e che potrebbe appunto anche ulteriormente rafforzare quello che dovrebbe essere il sito del diciamo il nuovo sito del progetto Insubre Polar che è proprio la stazione di Barrow che è il sito la stazione più a nord di tutta gli Stati Uniti d'America e dell'Alaska vedete qui un'immagine da presa da Google dall'alto particolarmente importante perché non solo è il sito più settentrionale ed è molto confrontabile con quelli antartici che noi abbiamo già sia per il monitoraggio appunto del permafrost e qui vedete quanto si sia aumentato quanto si è aumentato lo spessore dello strato attivo dal 1995 anno in cui questi programmi di monitoraggio in realtà dal 1992 e i più antichi che sono quelli legati alla vegetazione e di cui appunto dice la professoressa cannone e qui vedete questa immagine parla praticamente da sola perché dal 1973 al 2015 si nota come ci sia stato un cambiamento un'espansione molto importante della vegetazione che rispecchia il fatto appunto che l'Alaska sia una delle tre aree del mondo che hanno subito il maggior impatto del cambiamento climatico e con questo vi ringrazio per la vostra attenzione quindi con grandissimo piacere do la parola l'onorevole Chiara Braga che ci parlerà di quella che è la sfida climatica nella politica italiana ed europea sì grazie buongiorno a tutti ringrazio la professoressa cannone e tramite lei ovviamente tutti i promotori e gli organizzatori di questa mattinata di approfondimento di confronto ho apprezzato molto gli interventi che mi hanno preceduto anche se non ho potuto seguirli tutti a causa di alcuni impegni diciamo di cui forse immaginerete perché questa giornata cade inaspettatamente diciamo una giornata molto particolare e tuttavia insomma mi fa molto piacere poter dare un minimo contributo che non sarà di natura prettamente tecnica come molti appunto che ho sentito e che ci saranno ma che prova comunque a dare il senso anche di un impegno molto forte della politica delle istituzioni sulla grande sfida dei cambiamenti climatici una nota personale invece io sono comasca quindi davvero mi ha riempito anche di un certo orgoglio sentire raccontare l'attività e l'esperienza di una università diciamo di un gruppo di ricercatori e di professori che lavorano su questi temi a livello veramente internazionale ad altissimo livello sulla questione dei cambiamenti climatici ovviamente non possiamo nasconderci il fatto che proprio nel momento in cui l'Italia e il mondo in qualche modo si pone una domanda riguardo a come ripartire dopo l'effetto dopo l'impatto della terribile pandemia che ancora diciamo stiamo vivendo il tema appunto della lotta ai cambiamenti climatici è un tema che continua a essere centrale nonostante forse anche nell'immaginario collettivo ha perso una rilevanza che anche grazie ad una mobilitazione importante della società civile dei giovani della comunità scientifica progressivamente in questi anni aveva acquisito in realtà sappiamo bene che la pandemia sanitaria con le sue ricadute economiche e sociali non è affatto l'unica emergenza globale che dobbiamo fronteggiare la crisi climatica gli scenari futuri e anche quelli diciamo così che già conosciamo ma quelli proiettati ed ipotizzati da istituzioni internazionali scientifiche come l'IPCC in cima in cima tra tutte altre agenzie indipendenti ci raccontano di scenari preoccupanti e rispetto a cui serve un'azione urgente e determinata non è necessario che in questa sede mi dilunghi molto ma sappiamo come rispetto ad uno scenario ipotizzato negli anni 90 che prevedeva un aumento del livello del mare di circa 3,2 mm all'anno attualmente la crescita si è innalzata significativamente fino ad arrivare ad una media di 4,8 mm annui e il nostro paese così come tutto il bacino mediterraneo è una delle aree del mondo più sensibili e più interessate dal cambiamento climatico naturalmente ci sono dati che riguardano diciamo così la presenza della manifestazione di anomalie sull'innalzamento delle temperature che ci spingono ad essere molto vicini al limite dei più 2 gradi centigradi fissati dall'accordo di Parigi sul clima e ne avete discusso se ne è parlato molti contributi diciamo azioni di monitoraggio in tutta la penisola mentre sale il livello del mare mancherebbero all'appello una quantità di circa 23 miliardi di metri cubi d'acqua dolce che è la stessa quantità grossomodo che è contenuta nel mio lago nel lago di Como certamente c'è un aggravamento di questa situazione determinata anche dal fenomeno di inquinamento ambientale dell'aumento dei gas clima alteranti che comportano una serie di impatti sull'equilibrio del sistema climatico globale ne alterano le ciclicità e determinano una serie di effetti difficili da determinare e da prevedere l'anno che si chiude è un anno che ha avuto un numero molto elevato di eventi climatici estremi ne conosciamo gli impatti gli effetti non solo sull'ecosistema ma anche sul sistema economico del nostro paese sulla produttività dell'economia sulle infrastrutture sulla capacità di produzione di cibo e di sostentamento alimentare ma anche l'impatto sulla biodiversità sulla salute umana sui flussi migratori in alcune aree del mondo in questo quadro credo che sia giusto ricordare come la lotta ai cambiamenti climatici è diventata però nonostante tutto e resistendo anche diciamo a un cambio di priorità determinate dall'evento imprevedibile della pandemia sanitaria della pandemia che viviamo una dei punti fondamentali di azione a livello europeo nel discorso di insediamento della presidente von der Leyen la lotta ai cambiamenti climatici è stata alla sfida climatica appunto è stato il primo punto del discorso di insediamento con un'ambizione molto alta cioè quella di far diventare l'Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico al 2050 tirando le emissioni di gas a effetto serra e si è tradotto in una serie di azioni e di diciamo così programmi di attuazione a partire appunto dall'agenda per l'Europa per il 5 anni il 2019 e 2024 con la presentazione di un Green Deal europeo un programma articolato in una serie di passaggi molto impegnativi la legge europea sul clima la revisione degli obiettivi dell'unione al 2030 su cui poi dirò alcune cose più nel dettaglio l'introduzione di un prezzo per le emissioni di CO2 per ogni settore produttivo l'estensione del sistema ETS anche a settori attualmente non interessati il settore marittimo la riduzione delle franchigie gratuite concesse nel tempo al trasporto aereo l'introduzione in accordo con le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio di un'imposta mondiale sul carbonio la cosiddetta carbon border tax la revisione della tassazione sull'energia il progetto e l'impegno su un piano per una nuova strategia industriale che sia coerente con gli obiettivi di carbonizzazione l'istituzione di un fondo per la transizione giusta che affronta uno dei nodi fondamentali che è quello di governare diciamo così le ricadute delle scelte della transizione ambientale verso un'economia circolare più sostenibile dal punto di vista ambientale per accompagnare i contesti e i paesi europei più arretrati che devono colmare un gap diciamo di obiettivi e di target rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione ma anche di ricaduta su fasce sociali particolarmente esposte dall'impatto del cambiamento e della transizione ecologica un patto per il clima europeo che coinvolga strettamente le amministrazioni locali e regioni comuni ma anche la società civile e che coinvolga un cambiamento radicale degli stili di vita delle persone e delle comunità un coinvolgimento della finanza ambientale per mobilitare gli investimenti privati con l'obiettivo di attivare finanziamenti complessivi nei prossimi dieci anni di circa mille miliardi la trasformazione della banca europea degli investimenti in una banca europea per il clima con un vincolo di raddoppiare l'attuale contributo della bea gli investimenti globali per il clima che attualmente è al 25% entro i prossimi cinque anni e poi il piano sull'economia circolare che recepisce un lavoro importante svolto anche nel precedente settennato e che deve essere implementato dai vari paesi ma anche con iniziative ulteriori del livello europeo per appunto un uso sostenibile delle risorse la massimizzazione del recupero della materia alla riduzione diciamo così del consumo di materie prime e un'azione molto forte e determinata sulla lotta alla plastica monouso naturalmente alcuni di questi obiettivi diciamo e di questo cronoprogramma sono stati condizionati dall'avvento della pandemia ma io credo che sia importante che nonostante tutto quello che è accaduto in questo anno le istituzioni europee non hanno abbandonato una convinzione e un percorso serrato per progressivamente realizzare questi obiettivi mi riferisco in particolare all'accordo che proprio alla fine dello scorso anno nel dicembre 2020 è stato sottoscritto non era scontato anche tra il Consiglio europeo in merito all'innalzamento dei target di riduzione delle emissioni al 2030 con l'impegno che dovrà poi essere definito attraverso la conclusione della fase negoziale tra i diversi istituzioni europee della riduzione al 55% delle emissioni rispetto al 1990 oggi sappiamo che questo orientamento completa la posizione negoziale e conferisce alla Presidenza del Consiglio il mandato per chiudere insieme al Parlamento e alla Commissione europea un impegno che poi sarà vincolante ovviamente questa scelta è coerente diciamo così è uno dei passi intermedi fondamentali per raggiungere e per perseguire l'obiettivo della riduzione della neutralità climatica al 2050 ma richiede anche una forte determinazione poi degli stati membri in questo credo che il nostro paese abbia necessità di attrezzarsi ovviamente sarà una credo mi auguro priorità anche del nuovo governo comunque dello scenario che si determinerà nelle prossime settimane quello di completare diciamo così gli obiettivi di adeguamento della normativa nazionale e della programmazione diciamo italiana sul tema della riduzione delle emissioni il piano nazionale energia e clima che è stato trasmesso alla Commissione europea nel 2019 prevedeva una riduzione di emissioni al 2030 inferiore molto inferiore questi obiettivi devono essere innalzati come deve essere accelerato e sostenuto il processo di decarbonizzazione di miglioramento delle prestazioni di efficienza energetica e credo anche di potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili che è l'altro grande pilastro su cui l'Italia ovviamente è in una posizione già più avanzata rispetto ad altri paesi europei ma deve recuperare un ritardo un rallentamento che negli ultimi anni si è determinato anche per una serie di condizioni di contesto non ottimali per la realizzazione degli investimenti in energia rinnovabile accanto diciamo a questo obiettivo naturalmente diciamo l'oggetto e il campo più interessante e più impegnativo per il nostro paese è quello che stiamo discutendo anche in Parlamento proprio in questi giorni in queste ore ed è la proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza che il nostro paese dovrà formalmente consegnare in Europa entro l'aprile di quest'anno per l'utilizzo diciamo delle risorse messe a disposizione dalla commissione nell'ambito del programma Next Generation EU naturalmente sappiamo che non sono solo per correttezza diciamo solo le risorse di quel piano del programma del Next Generation EU ci sono altre risorse che vengono in qualche modo implementate anche nel piano attualmente in discussione una parte un'anticipazione di circa 20 miliardi del fondo dei fondi di coesione della programmazione 2021-2027 una parte di risorse di altri programmi React EU ma il grosso ovviamente è la parte resa a disposizione dal nostro paese che è il principale beneficiario come sappiamo del programma Next Generation EU e che ha una serie di condizionalità nell'utilizzo rispetto appunto agli obiettivi strategici definiti a livello europeo della transizione digitale della transizione ecologica dell'inclusione sociale questo si vuol dire che una parte significativa di queste risorse sono proprio destinate a accompagnare l'obiettivo il progetto di transizione ambientale e ecologica circa il 40% delle risorse oggi sono concentrati nella missione 2 che riguarda economia circolare trasformazione sostenibile dell'agricoltura riqualificazione energetica degli edifici interventi di messa in sicurezza del territorio di gestione della risorsa idrica che hanno una più netta e più diciamo così precisa e determinata connotazione ambientale in qualche modo legata appunto agli obiettivi della transizione ecologica e della decarbonizzazione ma dentro il piano ci sono nelle altre missioni una serie di altri strumenti penso agli investimenti industriali alle politiche di investimento sulla industria impresa 4.0 sui incentivi o il sostegno ad esempio al tema dello sviluppo della filiera dell'idrogeno verde che sono parte appunto di questo progetto e che caratterizzano e che si in qualche modo interpreta un obiettivo trasversale che è quello della neutralità della tendenza alla neutralità climatica di tutte le misure e di tutti gli investimenti pensiamo alla forte connotazione e alla totale assenza se non per misure di manutenzione la forte connotazione che c'è sugli investimenti ferroviari anziché appunto sugli investimenti infrastrutturali stradali questo piano attualmente prevede nella missione rivoluzione verde e transizione ecologica circa 70 miliardi di cui appunto ho dato alcune indicazioni ma non è l'unica opportunità di sviluppo e di investimento per accompagnare diciamo così gli obiettivi di transizione ecologica anche il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 i cui negoziati sono ancora in corso di diciamo così definizione prevede di destinare almeno il 30% della spesa complessiva alle azioni sul clima il fondo per la transizione giusta di cui ho parlato prima riguarda anche qui questi obiettivi la strategia farm to fork sul tema appunto della sostenibilità del sistema alimentare sono una complessità di strumenti e di opportunità che il nostro paese dovrà cogliere fino in fondo per diciamo così perseguire gli obiettivi della transizione ecologica della lotta ai cambiamenti climatici e del cambiamento di un modello di sviluppo sempre più orientato alla sostenibilità ambientale e coerente con gli obiettivi diciamo degli accordi di Parigi di cui sono ricaduti proprio qualche settimana fa ai cinque anni e anche con gli obiettivi dell'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile in questo quadro l'Italia si trova in una condizione di straordinaria opportunità per un protagonismo forte rinnovato se pensiamo che il 2021 sarà l'anno in cui l'Italia ospiterà e avrà la copresidenza della COP26 insieme appunto al Reino Unito ospiterà in Italia a Milano degli appuntamenti fondamentali tra cui la COP Giovani che sarà la prima occasione la prima appuntamento globale legato alle conferenze delle parti sul clima specificamente orientato e coinvolgimento delle nuove generazioni proprio su questo tema e poi sappiamo la presidenza del G20 che avrà al centro della propria agenda proprio il tema della prosperità che si fonda sulle cura del pianeta oltre che delle persone credo che naturalmente diciamo questi obiettivi queste possibilità sono prima di tutto una sfida altissima per le istituzioni per la politica ma anche per il paese nel suo complesso stamattina per me è un'occasione molto importante cercherò di seguirla quanto più possibile di conoscenza di ascolto della diciamo forza e anche del livello molto alto del mondo scientifico e della ricerca su questi temi credo che ci sia oggi da investire molto e costruire delle alleanze positive anche con il sistema economico che sempre di più dimostra di riconoscere nella sfida della transizione ecologica un driver appunto di competitività di sviluppo e anche di creazione diciamo così di un modello economico meno condizionato da alcuni errori storici di cui paghiamo il prezzo cioè di un cattivo rapporto con l'ambiente e anche con la qualità appunto poi della vita delle persone mi auguro appunto che davvero al netto della fase del tutto particolare che stiamo vivendo il nostro paese le istituzioni repubblicane del nostro paese a tutti i livelli possano essere consapevoli della sfida che abbiamo e anche della potenzialità di alleati e di interlocutori fondamentali di cui ancora una volta stamattina ho avuto il piacere della conferma vi ringrazio molto grazie mille onorevole braga veramente ci ha dato una panoramica esaustiva sulle possibilità enormi e quasi incredibili fino a qualche tempo fa che diciamo anche chi lavora in campo ambientale vuole fare qualcosa per migliorare la qualità della sostenibilità del nostro pianeta la qualità anche della vita nostra perché comunque spesso noi dimentichiamo di essere dipendenti dalle risorse e dalle dinamiche del nostro pianeta quindi vivendo in ambienti urbanizzati pensiamo che sia normale avere ciò che invece è prezioso una qualità della vita che non ha precedenti anche nella storia dell'uomo quindi le opportunità che avremo davanti speriamo che appunto politicamente e anche scientificamente vengano utilizzate in modo adeguato però io penso che anche per chi si occupa di ambiente ci siano delle prospettive veramente importanti anche di impiego di occupazione di possibilità di passare dalla teoria alla pratica e quindi di fare anche azioni concrete per contribuire quindi non solo la passione dello studio ma anche la passione di poter fare che è un valore aggiunto importante la ringrazio veramente proprio anche per aver trovato il tempo nonostante la situazione un po' complicata di questi giorni e do la parola al prossimo relatore che è la dottoressa Silvia Quadroni anche lei è una nostra laureata e ha fatto il dottorato di ricerca e sta facendo delle borse di studio presso il nostro Ateneo è un'ecologa e quindi ci presenta un contributo su quelli che sono gli effetti ecologici di un evento estremo di sedimentazione su un fiume alpino regolato quindi dove abbiamo appunto un impatto antropico e quindi il caso di studio della frana del pizzo Cengalo e del fiume Mera ringrazio la dottoressa Quadroni grazie per la presentazione buongiorno a tutti io faccio parte dello stesso gruppo di ricerca della mia collega Vanessa De Santis ossia del gruppo di ecologia capitanato dal professor Croza e mi occupo per lo più di ecologia fluviale ossia studio le relazioni tra le componenti viventi e non viventi che caratterizzano l'ecosistema fiume soprattutto studio queste relazioni in contesti perturbati dall'uomo andando a quantificare l'impatto antropico con il fine di trovare quando possibile il modo di poterlo ridurre i fiumi sono utilizzati dall'uomo per diversi scopi in particolare l'acqua del fiume può essere usata per irrigare i campi o per produrre energia idroelettrica nonostante ad esempio l'energia idroelettrica sia considerata una fonte di energia pulita cosiddetta green esso però produce degli impatti ambientali che non sono trascurabili soprattutto se per la sua produzione è necessaria la costruzione di dighe come potete vedere in questa slide nella mappa centrale sono rappresentati dai puntini rossi le più di 500 dighe presenti sul territorio italiano in particolare queste sono solo le grandi dighe ce ne sono poi altre 10.000 circa che sono di più piccole dimensioni gli impatti principali causati dalle dighe sono soprattutto la frammentazione ossia l'interruzione della continuità fluviale e l'alterazione delle portate e del trasporto dei sedimenti sedimenti che man mano vengono accumulati all'interno di questi serbatoi queste tre problematiche sono attualmente gestite ad esempio costruendo passaggi per pesci rilasciando delle portate minime a valle delle dighe che consentono all'ecosistema fiume di mantenersi vitale e effettuando delle operazioni di fluidazione del sedimento queste operazioni di fluidazione servono soprattutto per recuperare la capacità del serbatoio al fine appunto di stoccare l'acqua necessaria per le varie attività antropiche e hanno degli indubbi impatti ambientali anche perché come potete vedere nell'immagine queste operazioni consistono nello svuotare il bacino nel lasciar scorrere il fiume in ingresso all'interno del serbatoio l'acqua poi via via si carica di sedimento e viene fatta defluire dagli scarichi di fondo della diga andando così a finire nel fiume a valle la nostra ricerca è quindi in gran parte focalizzata su come rendere più ecosostenibile la gestione delle dighe per quanto riguarda soprattutto le ultime due problematiche che vi ho menzionato ossia l'alterazione delle portate e l'alterazione del trasporto dei sedimenti per quantificare il grado di impatto ambientale solitamente facciamo ricorso al biomonitoraggio ossia all'uso delle comunità biologiche presenti all'interno del fiume soprattutto la comunità che utilizziamo maggiormente è quella dei macroinvertebrati bentonici che sono i biondicatori più utilizzati a livello globale per valutare lo stato di salute dei fiumi come potete vedere in questa foto i macroinvertebrati bentonici sono per lo più larve di insetto che vivono sul substrato sul letto del fiume tra i ciotoli ci possono essere anche altri taxa di molluschi crostacei e loro ci danno appunto un'indicazione del fatto che il fiume sia bene oppure no per determinare il grado di alterazione ambientale di solito si confrontano delle condizioni impattate perturbate dall'uomo con delle condizioni invece di riferimento che sono quindi in assenza di disturbo antropico per farvi capire un po' meglio quello che facciamo ora vi presento un caso studio in cui alla pressione antropica si è aggiunta quella derivante da un evento catastrofico naturale evento catastrofico naturale in particolare mi riferisco alla frana del pizzo cengalo del 23 agosto del 2017 e poi alla conseguente gestione del serbatoio di Villa di Chiavenna in particolare questi eventi hanno interessato il fiume Mera che è il secondo tributario per importanza del lago di Como che penso conosciate tutti bene ora vi descrivo brevemente l'evento catastrofico attraverso queste immagini queste fotografie nella prima fotografia vedete la frana che ha provocato un flusso di sedimenti di detriti che ha raggiunto il fiume Mera nella seconda foto invece vedete il serbatoio di Villa di Chiavenna che si trova poco più a valle dell'area interessata dalla frana questo serbatoio subito dopo l'evento è stato messo in sicurezza il che vuol dire che è stato svuotato sono stati aperti gli scarichi di fondo della diga e il materiale l'acqua ricca di sedimento di detriti è stata fatta defluire a valle e quindi ha intaccato ha interessato tutto il fiume Mera fino al lago di Como e questo lo vedete nella foto numero 3 dopo l'evento comunque il serbatoio è stato comunque ancora gestito rimuovendo continuando a rimuovere il sedimento in modo da lasciare spazio a eventuali ulteriori apporti provenienti da monte quindi per circa un mese il fiume ha visto delle portate delle concentrazioni di sedimento estremamente più alte rispetto al normale questo ovviamente ha avuto un impatto sulla vita presente all'interno del fiume in queste foto vedete la deposizione di sedimento che è stata monitorata dopo questo evento catastrofico della durata di un mese e soprattutto nell'ultimo tratto di fiume Mera nella parte più a valle sono stati osservati i depositi con una profondità superiore ai due metri vi assicuro che faceva veramente impressione entrare in questo fiume e camminarci dentro sembrava di essere immersi nelle sabbie mobili trattandosi di un evento estremamente raro ci si è presentata un'occasione di ricerca veramente unica per cui abbiamo subito intrapreso uno studio a volta ad indagare gli effetti di questo evento come vedete in queste foto abbiamo iniziato ad effettuare dei campionamenti sia dalla componente vivente che di quella non vivente del fiume fortunatamente per quanto riguarda la comunità di macroinvertebrati bentonici avevamo a disposizione dei dati pregressi derivanti da un precedente progetto sulla sperimentazione delle portate minime per cui poi abbiamo potuto fare un confronto tra la condizione prima e quella subito dopo l'evento i campionamenti sono stati effettuati in tre stazioni a valle della diga questo per andare a verificare l'esistenza di un gradiente spaziale ossia per capire se spostandosi verso valle rispetto alla diga l'impatto è stato maggiore oppure minore vedete poi in questa slide le foto di queste tre stazioni prima dell'evento e poi dopo questo evento catastrofico allora in questi grafici sulla sinistra è rappresentato l'impatto a breve termine ossia è mostrato un confronto tra la situazione pregressa e quella subito dopo l'evento ossia il monitoraggio effettuato a distanza di circa un mese dall'evento catastrofico in particolare in questi grafici si osserva una forte contrazione della comunità di macroinvertebrati bentonici in tutte e tre le stazioni sia in termini di densità quindi di individui per metro quadrato sia in termini di ricchezza quindi di numero di famiglie che in termini di diversità espressa attraverso l'indice di Shannon potete vedere lo scostamento quindi questa riduzione della biodiversità del fiume guardando sostanzialmente queste linee orizzontali che rappresentano il valore mediano di queste metriche registrate prima dell'evento e poi il rombo rosso che invece rappresenta la misura effettuata subito dopo l'evento sulla destra invece sono riportati dei grafici che vi mostrano l'andamento temporale espresso attraverso un indice che è un indice sviluppato apposta per valutare l'impatto della sedimentazione nei corsi d'acqua alpini ed è l'andamento sostanzialmente dello stato della comunità dei macroinvertebrati bentonici nell'anno successivo all'evento e abbiamo notato come nelle prime due stazioni quelle più vicine alla diga il recupero soprattutto nell'autunno quindi a distanza di qualche mese dall'evento sia stato molto più veloce rispetto invece alla stazione più a valle che è quella che per la sua pendenza inferiore è stata caratterizzata da un enorme deposito di sedimento nelle stazioni a monte si può osservare invece come ci siano state delle oscillazioni nel periodo successivo e queste oscillazioni sono dovute sostanzialmente alla gestione della diga nell'anno successivo all'evento gestione che prevede l'apertura degli scarichi di fondo per portate superiori a una certa soglia e quindi quando questo accade gli scarichi vengono aperti e quindi ci sono ancora portate alte con apporto di ulteriore sedimento che vanno a finire nel fiume a valle e quindi a causare ulteriori perturbazioni che rallentano quindi il processo di recupero concludendo tutto sommato questo evento estremo dal punto di vista della sedimentazione non ha avuto l'impatto estremo che ci sarebbe potuti aspettare le comunità di macroinvertebrati si sono mostrate abbastanza resilienti probabilmente perché sono già adattate a delle forti pressioni antropiche associate allo sfruttamento idroelettrico comunque si è il recupero a distanza di un anno dall'evento non è risultato ancora completo infatti ancora oggi è in corso il monitoraggio questo grazie ad un progetto che si chiama Interreg Gerico e questo progetto ci permetterà di identificare con più precisione le traiettorie di recupero di questo ecosistema ma soprattutto di raccogliere delle informazioni importanti sugli effetti di eventi di sedimentazione straordinari come questo che sono estremamente rari per fortuna direi e per questa rarità sono estremamente difficili da studiare ok ringraziandovi per l'attenzione vi mostro queste foto per farvi capire che il lavoro in questo caso dell'ecologo fluviale è molto faticoso ma poi a fine giornata ci si può ritagliare anche dei momenti di relax per stare per far stare dei momenti in mezzo al fiume grazie mille per l'attenzione grazie mille Silvia insomma direi che questo intervento ci ha fatto vedere proprio ulteriormente come l'ambiente sia un sistema unico e collegato quindi ciò che accade in un comparto poi si trasmette anche negli altri con quello che appunto abbiamo già definito un effetto domino e quindi la gestione degli ambienti deve essere basata sulla conoscenza perché altrimenti si gestisce bene una componente ma si rischia di fare dei danni prego buongiorno vabbè separato molto dell'ambiente poi l'intervento dell'onorevole Braga ha un po' ammazzato la parte di idrocarburi io vengo a parlare un po' di idrocarburi e di quello che è un po' uno studio che non è una parte ancora importante credo della nostra vita attuale soprattutto in visione di una transizione energetica che comunque deve essere fatta quindi mantenere anche da questo punto di vista il bagaglio tecnico esito comunque durante questi ultimi 70 anni nell'utilizzo e nello sviluppo di questo tipo di energia insomma importante per lo sviluppo futuro fondamentalmente questo è il progetto del mio dottorato che ha avuto come scopo principale la ricerca di sviluppare questa ricerca che sta a quello di valutare un po' quelle che sono le incertezze che sono date dalla combinazione di diverse informazioni geologiche e dei dati di sottosuolo al fine poi di creare una serie di modelli di giacimento statici fondamentalmente che sono state utilizzate al fine di quantificare le incertezze che sono poi allo stato attuale le principali sfide nelle scienze geologiche e ambientali sia in ambito energetico sia in ambito in questo caso la produzione di gas naturale questo progetto è stato frutto della collaborazione tra l'università dell'insubria ed è stato pienamente sponsorizzato dal dipartimento di Edison di esplorazione e produzione e una parte molto importante è perché andare a caratterizzare il sottosuolo qual è il motivo fondamentale per cui diamo ancora così tanta importanza al sottosuolo in sé perché non si parla solo di idrocarburi quindi di petrolio o di gas ma si tratta anche di come gestire in questo caso anche dei gas ser quindi pensare anche allo stoccaggio di CO2 all'interno del sottosuolo quindi questo studio va a inserirsi anche per quello che dicevo prima di mantenere comunque quel bagaglio tecnico che è stato acquisito in passato per applicare al futuro quindi cercare di utilizzare quelli che sono i vecchi giacimenti esausti per andare a stoccare quelli che sono i materiali di scarto dell'attuale combustione di questo tipo di energia importanza anche nello studio dei terremoti sappiamo bene che c'è un gruppo molto importante il gruppo di ricerca che faccio parte per Igeo che è molto attivo nello studio della sismicità attiva e attuale in diverse aree in diverse aree del mondo e poi c'è ovviamente sicuramente la parte di giacimentologia mineraria eccetera eccetera oltre all'esplorazione della produzione nel settore dell'oil e in gas l'area di studio in cui mi sono occupato è collocata nel fondamentalmente al campo gas di Accettura in Basilicata che è situato all'interno della concessione Garaguso che è attualmente gestita dai disogni in qualità di operatore fondamentalmente è la società che prende tutte le decisioni rispetto ai partner il giacimento è collocato all'interno del fordico della manfossa bradanica quindi una serie di sedimenti classici che si sono accumulati durante la fase di smantellamento e dell'avanzamento dell'appennino meridionale dove le unità in senso stretto dell'appennino le unità frontali dell'appennino vanno a sovraimporsi su queste unità di smantellamento clastiche che sono sabbie e orgille di questo fordico di questa manfossa bradanica da un punto un po' più da un punto di vista un po' più geologico questi sono due esempi due sezioni trasversali della catena che vanno più o meno da sud-est a nord-ovest da appennino interpretate da due diversi autori fanno vedere due interpretazioni diverse di diversi stili deformativi che hanno portato alla formazione della catena appenninica e di quello che è il sistema che sta al fronte della catena appenninica questo è un piccolo schema che va a definire quelle che sono le unità litostratigrafiche che si sono accatastate una sull'altra durante i vari eventi comprensionali della storia evolutiva dell'appennino meridionale e un piccolo estratto da un articolo che è stato sottomesso e accettato attualmente dal giornale di dal giornale o Structural Geology qui niente fondamentalmente un po' la storia evolutiva che parte da molto molto lontano quindi da tardo cretacico fino ai giorni nostri in cui appunto come dicevo prima l'appennino meridionale fondamentalmente il risultato di una sovrapposizione di diverse fasi tettoniche sia estensionali in cui immaginiamo che questo prima c'era un grosso bacino molto in fase distensiva con una serie di strutture distensive poi con il cambiamento del campo di stress e l'avanzamento della placca africana si sono innestate delle forze opposte quindi da delle strutture distensive queste strutture vengono un po' invertite vengono create nuove si entra in un regime compressivo e quindi che porta poi effettivamente a quella che è la strutturazione attuale dell'appennino meridionale qui è un po' il dataset che ho utilizzato per questo studio quindi quello che vediamo in questa mappetta sono una serie di survey geofisiche di linee geofisiche acquisite durante gli anni più o meno a partire dagli anni 60 fino agli ultimi del 2006 ed una serie di pozzi perforati alcuni produttivi altri non sono mai andati in produzione altri invece sono stati subito abbandonati che hanno costituito la base di questo di questo studio inoltre poi sono stati tutta una serie di report e di di dati legati alla produzione del giacimento che sono stati utilizzati per la modellazione di questo di questo campo velocemente questo è il workflow che è stato utilizzato durante questi anni di dottorato quindi partendo dal dataset che vi ho appena illustrato sono state effettuate una nuova interpretazione della stratigrafia di quest'area del fordipradanico attraverso una correlazione di dati di pozzo sono state effettuate delle analisi sulle pressioni registrate durante l'arco di vita di questo campo e quindi si è cercato un po' di correlare per cercare di capire un po' come funziona questo giacimento è stato fatto una nuova interpretazione dal punto di vista delle strutture di come è stato a strutturare questo campo come si è generato e poi sono stati implementati i modelli attraverso dei dati acquisiti di petrofisica attraverso petrofisica si intende i dati di permeabilità di porosità piuttosto che di saturazione nell'acqua e dall'insieme di queste informazioni sono stati creati dei modelli 3D statici statici perché si parla di una parte più geologica quando si parla invece di una parte più dinamica si parla di un aspetto molto più ingegneristico di dinamica dei fluidi che fondamentalmente non ho trattato perché non è materia del mio dottorato da queste poi sono state effettuate delle valutazioni riguardo l'incertezza dei volumi di gas imposto di quelli prodotti e queste questi questi risultati ottenuti sono stati validati attraverso un'analisi delle sensitività per cercare di capire quali sono stati i parametri e quali sono i parametri che attualmente vanno a edificiare molto di più il risultato ottenuto quindi il modello ottenuto ovviamente una piccola parentesi sulle incertezze in questo precedenza ho detto appunto che bisogna in un certo modo affrontare le incertezze quindi per valutare sono stati prodotti e sono stati proposti diversi scenari alternativi che sono stati caratterizzati da un punto di vista geologico ovviamente cercando di avere una coerenza e devono essere stati anche un po' e devono essere ovviamente percorribili da un punto di vista della vita strutturale insomma ed è posizionale dell'appennino meridionale ovviamente ho cercato di combinare appunto le diverse interpretazioni strati grafiche strutturali in scenari discreti e per validare l'interpretazione strutturale è stata effettuata una sorta di restauro di questa interpretazione di ricostruzione in 2D per verificare appunto la fattibilità di questa interpretazione ovviamente vanno a considerare sono stati considerati diversi aspetti per quanto riguarda appunto la modellazione del giacimento ovvero quali sono state le principali fonti di questa incertezza che sono fondamentalmente le incertezze relativi alla qualità dei dati e alla loro interpretazione perché ovviamente è un'incertezza fondamentalmente soggettiva relativi all'interpretazione legate ai modelli strutturali e strati grafici e incertezze relative alle modellazioni stocastiche e alla loro parametrizzazione come vengono appunto utilizzati questi parametri e poi relativi ai parametri degli algoritmi utilizzati per la valutazione di queste incertezze di queste incertezze velocemente come dicevo è stata fatta una revisione stratigrafica di tutti i dati di Pozzo qui sono stati raccolti tutti i vari principali marker che sono stati distinti dall'analisi dei report delle carote anche ovvero di questi campioni interi di roccia estrati dal sottosuolo e effettuata questa prima analisi poi si è proceduto con un'analisi più dettagliata di quelli che sono invece dei dati geofisici di Pozzo ovvero dei dati dei Pozzi a disposizione sono stati registrati in questo caso nei diversi anni una serie di log ovvero sono dei log fondamentalmente che registrano le diverse impedenze elettriche all'interno delle formazioni rocciose all'interno del Pozzo e non solo perché ci sono anche dei dati che registrano la variazione del contenuto della materia organica piuttosto che il decadimento quindi con una sorta di spettroscopia degli elementi contenuti all'interno delle sequenze delle sequenze rocciose all'interno del sottosuolo quindi quello che noi vediamo qui fondamentalmente è la correlazione di queste curve e di questi dati registrati che ci hanno fatto evidenziare poi le diverse sequenze che sono state appunto discretizzate in questo caso evidenziando quelli che sono i carbonati della piattaforma Apula e le varie sequenze classiche tipiche del 4Dip quindi molto molto caotiche a volte anche di difficile correlazione relative alle deposizioni plioplistoceniche fino ad andare un po' a caratterizzare quella che è la base dell'allottono dell'appennino meridionale questo riquadro è importante perché ovviamente non sono tutti dei corpi orizzontali che sono rimasti intonsi nel tempo ma ovviamente andiamo a parlare anche di interpretazione in un certo senso un po' più strutturale quando intendo strutturale intendo per la presenza di faglie all'interno del sottosuolo in questa slide fondamentalmente dobbiamo considerare che questa tribletta di pozzi ha delle distanze molto ravvicinate tra di loro sono dei pozzi che sono distanti 10 metri altri 40 metri e da un punto di vista geologico riuscire a riconoscere una faglia quindi una rottura all'interno della terra in questo caso una terra un po' superficiale è stato molto difficile tuttavia ci ha dato delle indicazioni importanti perché la presenza di questo tipo di strutture comporta che il campo il giacimento fondamentalmente è fortemente caratterizzato da queste strutture quindi molto probabilmente è molto compartimentarizzato questa compartimentazione infatti è stata notata attraverso l'analisi delle pressioni statiche qui molto velocemente vengono riportati i dati delle due sequenze principali produttive nel campo quindi una sequenza più profonda quella pliocenica che fa vedere un trend abbastanza omogeneo dei dati di pozzo e in questa zona e questa e quest'altra zona qui quest'altro cluster di pozzi o di livelli comunque produttivi perché comunque bisogna immaginare che su una sequenza stratificata sono diversi i livelli che vengono va bene fondamentalmente dall'analisi dei dati di pressione è stata effettuata un'ulteriore analisi da un punto di vista molto più ingegneristico che ha permesso di ottenere un dato che poi è stato utilizzato per validare il modello è stata effettuata appunto una fase di interpretazione dei dati in sismica riflessione da cui sono state ottenute per lo stesso data sette diverse interpretazioni questa è un'interpretazione validata anche da dei dati di pozzo e questo invece su una stessa linea che ha utilizzato da cui sono stati poi utilizzati un diverso tipo di processing un differente tipo di interpretazione derivato da dei concetti geologici diversi deformativi mappe scusate sono andato un po' avanti delle mappe di distribuzione dei degli orizzonti interpretati da cui poi sono stati identificati diversi scenari da un punto di vista strutturale che vanno un po' a complicare quelli che sono stati i modelli discreti che sono stati poi utilizzati per effettuare l'analisi statistica di Monte Carlo la validazione strutturale come dicevo prima ovviamente ha permesso una ricostruzione di quella che è stata un po' la storia geologica quindi di quello che poteva essere la situazione precedente alla situazione attuale questo è appunto un estratto dell'articolo che citavo precedentemente e di qual era poi la posizione dell'alloctono durante le sue fasi deformative prima di arrivare alla posizione attuale da tutta questa serie di informazioni sono stati costruiti questi modelli 3D fondamentalmente questi modelli discreti attraverso questo workflow all'interno del workflow che avevo precedentemente mostrato e questi modelli questi piccoli modellini sono stati implementati da diversi parametri petrofisici che sono stati ovviamente ottenuti da tutto quello che lo storico ottenuto il risultato sono delle simulazioni anche dalle simulazioni di tipo Monte Carlo sono state ottenute delle frequenze cumulativi di produzione questi volumi sono stati confrontati tra i diversi modelli e ovviamente sono stati creati e sono stati ottenuti diversi tipi di probabilità per capire quali potessero essere i valori più realistici possibili questo primo confronto questo è un altro confronto utilizzando poi ovviamente il dato che era stato precedentemente utilizzato da questa analisi più ingegneristica delle pressioni quindi per cercare di vedere qual è il dato migliore qual è il match migliore tra questi due tipi di valutazione ottenuto questo attraverso un'analisi dell'estensività quindi fondamentalmente attraverso dei diagrammi tornato si è cercato di capire quali fossero i parametri di giacimento che potessero influenzare maggiormente questa analisi ovviamente il dato petrofisico quello che ha fatto la sua parte maggiore nella valutazione di queste incertezze questo lo vediamo nella parte alta di questi tornado plot concludendo è stato effettuato un grosso lavoro sia di revisione stratigrafica che di revisione strutturale è stata fornita una nuova interpretazione per quanto riguarda l'assetto strutturale dell'appennino meridionale soprattutto in quest'area e abbiamo ovviamente evidenzato che c'è un forte controllo della stratigrafia e della geologia strutturale ovviamente l'analisi di queste pressioni ci ha fornito delle importanti indicazioni soprattutto riguardo all'eteronogenità del caso ovviamente questo studio ha fornito una validazione strutturale appunto e ha permesso di capire che insomma è molto difficile studiare questi tipi di giacimenti e soprattutto è stato molto challenging e niente questo è un po' il tutto grazie per l'attenzione ho dovuto velocizzare un po' scusate grazie Raffaele per il contributo del tuo del gruppo che rappresenti sono molto contenta di presentarvi il dottor Boschi al quale lascio la parola allora buongiorno sì la mia presentazione allora innanzitutto grazie per l'invito e per la presentazione la mia presentazione racconta per sommi capi la mia esperienza professionale che come diceva la professoressa è iniziata nella fase iniziale ha toccato la ricerca e poi è maturata nel campo della gestione dei siti contaminati insieme a due soci che a due compagni di università che sono tuttora miei soci tra i due campi di attività la ricerca e i siti contaminati non c'è stata una vera e propria transizione per cui nel seguito racconterò alternerò il racconto delle attività svolte nel campo della geomorfologia periglaciale nel quale mi sono laureato col professor Guglielmin e la fiancherò ad alcune informazioni sul mio lavoro sui siti contaminati con l'idea di dare qualche informazione su possibili ambiti operativi di lavoro per dei tecnici laureati in campo ambientale quali possono essere i geologi o anche gli scienziati ambientali e con l'idea anche magari di mostrare come nella vita lavorativa ci si possa trovare e sia sempre meglio essere pronti e aperti a esperienze diverse e inaspettate partendo quindi dalla dalla mia laurea dalla mia tesi di laurea in geologia si è trattato di una tesi sperimentale che ha previsto il rilievo geomorfologico e geologico dell'alta valviola del valcantone in realtà che si trova io sono fuori regione sento qualcuno che parla sotto l'alta valviola che si trova in alta valtellina nel settore compreso tra bormio e livigno gli elementi geomorfologici in particolare quelli indicatori della presenza attuale o passata del permafrost discontinuo sono stati cartografati e la loro posizione così come il grado di attività dei processi che le hanno originati sono stati correlati con le variazioni climatiche del passato con rilievo geomorfologico abbiamo cartografato quindi le forme legate al glacialismo e le forme per i glaciali tra le quali le più importanti rappresentative erano i roglessier di cui è già stato parlato in precedenza come quello che si vede nella fotografia nelle due fotografie nella fotografia di sinistra si vede l'attrezzatura utilizzata per rilievi geoelettrici che abbiamo utilizzato su questo roglesser come su altre forme presenti nell'area per verificare la presenza l'effettiva presenza di permafrost sfruttando le caratteristiche le diverse caratteristiche di resistività elettrica dei materiali congelati rispetto a quelli non congelati anche di questo argomento si è fatto accendere in una presentazione precedente la stessa tecnologia abbiamo utilizzato in occasione di un altro studio che è stato effettuato in occasione di una spedizione in Himalaya alla quale abbiamo partecipato nel 96 in parallelo al lavoro di tesi col professor Guglielmin abbiamo effettuato uno studio un'analisi sulla copertura detritica del ghiacciaio Changrinap che si trova nella valle del Kumbu che è la valle nella quale si trova sul versante nepalese dell'Everest il ghiacciaio è caratterizzato da un'estesa copertura detritica da cui la definizione di ghiacciaio nero e la geoelettrica è servita per andare a verificare l'estensione e soprattutto lo spessore della copertura stessa abbiamo anche avuto occasione di fare un'ulteriore prova sondaggio di prospezione geolettrica su un roglesser che si trovava su una morena laterale del ghiacciaio del Kumbu in prossimità dell'area di lavoro chiaramente l'esperienza è stata molto interessante al di là degli aspetti scientifici c'è stato l'accampamento in prossimità dell'area di studio vicino alla morena laterale del ghiacciaio c'è stato anche il soggiorno all'interno della piramide del progetto EVK2 CNR che si trova lungo la valle del Kumbu e poi chiaramente ci sono state quasi tre settimane di lavoro in vista dell'Everest dell'Ozze e del Nupse dopodiché però rientrati abbiamo ripreso il lavoro sulla tesi adesso non sto a riassumere mi ero chiesto se citare qualcuno o argomentare un po' meglio i risultati della tesi ma diciamo che ho avuto conferma della correttezza della scelta di non farlo dalle presentazioni che mi hanno preceduto che hanno dimostrato come la ricerca nel frattempo abbia fatto alcuni passi avanti notevoli passi avanti in ogni caso l'attività sulla tesi di laurea è finita nel 97 con la laurea alla quale è seguito il servizio militare che all'epoca era inevitabile al congedo nel giro di poche settimane alcune circostanze abbastanza forzuite hanno portato me e i miei soci ai primi contatti con i serbatoi interrati che con un radicale cambiamento devo dire di prospettiva e di contesto e qui è iniziata un'esperienza che ha caratterizzato soprattutto i primi dieci anni della nostra vita professionale e che cercherò di sulla quale cercherò di dare qualche informazione nelle prossime slide volendo dare qualche riferimento i serbatoi interrati sono dei manufatti che servono che tipicamente sono utilizzati per lo stoccaggio di sostanze pericolose o inquinanti e che per il fatto di non essere direttamente ispezionabili rappresentano un fattore di rischio per le matrici ambientali la loro diffusione è molto maggiore di quello che si possa immaginare anche se non è nota di fatto nei dettagli in quanto a tutt'oggi a livello nazionale manca un database che raccolga le informazioni relative al loro numero alle loro caratteristiche alla loro ubicazione una parte importante comunque dei serbatoi interrati si trova in corrispondenza delle stazioni di servizio cioè dei punti vendita carburante che in Italia come si vede dal grafico nella slide hanno avuto una storia abbastanza interessante anche dal punto di vista delle ripercussioni ambientali si vede dal grafico che nonostante ci fossero pochi dati nell'immediato dopoguerra nei primi 30 anni dal dopoguerra dal secondo dopoguerra il numero di stazioni di servizio in Italia è cresciuto molto per poi iniziare una fase di calo costante a partire dagli anni 70 a fine anni 90 che è l'epoca nella quale noi abbiamo iniziato a occuparcene in Italia c'erano ancora circa 25.000 stazioni di servizio che però erano caratterizzate da una età media di circa 30-40 anni ed erano caratterizzate e avevano caratteristiche che erano ormai poco non più conformi agli standard tecnici normativi e ambientali che nel frattempo erano maturati tra l'altro a questo proposito va detto che nella seconda metà degli anni 90 c'è stata in Italia una proliferazione normativa abbastanza importante anche normativa di settore specifica sulla distribuzione di carburanti che hanno indotto le compagnie petrolifere a mettere in atto ampi programmi di riqualificazione delle stazioni di servizio delle reti le quali a loro volta hanno avuto effetti positivi sull'attività ambientale come di seguito cercherò di spiegare in ogni caso tra tutte la norma più importante è stata chiaramente il DM471 che è entrato in vigore nel 99 e che ha dato di fatto inizio allo sviluppo vero e proprio del mercato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia diciamo che la situazione quindi che si è creata nel campo delle reti di distribuzione carburante ci ha portato a noi geologi come altri tecnici laureati in campo ambientale a fornire servizi di assistenza e consulenza in occasione di attività sempre più numerose e pervasive sul territorio nazionale di rimozione dei serbatoi interrati presso le stazioni di servizio in queste circostanze la normativa prevedeva così come lo prevedeva allora così come lo prevede oggi l'obbligo di provvedere alla verifica dello stato di qualità ambientale del terreno del sottosuolo intorno ai serbatoi interrati rimossi quindi semplicemente si provvedeva al campionamento del terreno sulle pareti e sui fondi scavo dei serbatoi rimossi e i campioni venivano venivano sottoposti all'analisi chimica e le analisi venivano gli esiti venivano confrontati con le CLA previste dal 471 in molte circostanze queste attività portavano a riscontrare l'esistenza di una contaminazione del sottosuolo che all'interno di una stazione di servizio può essere causata da molteplici fattori il primo dei quali è tipicamente la foratura della parete del serbatoio che nei primi diciamo decenni dal dopoguerra erano tipicamente realizzati in ferro con parete singola e quindi erano soggetti a danni a forature con una diciamo con una con una frequenza non trascurabile questa situazione cioè l'avvenuto riscontro di una contaminazione comportava come comporta oggi l'applicazione di una procedura per la gestione del sito contaminato per la gestione del sito contaminato che che parte con la notifica agli enti di controllo quindi con la comunicazione della situazione al comune o alla regione e la partenza della procedura che consiste nella caratterizzazione nella quindi nella nella indagine per determinare l'estensione effettiva della contaminazione per poi passare alla progettazione della bonifica e all'esecuzione della bonifica questa 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 attività è cresciuta molto nei primi anni 90 ci ha coinvolto in pieno ma è stata diciamo intervallata da una ulteriore esperienza che mi è capitato di fare grazie al professor Guglielmin il quale nel 2004 mi ha coinvolto in una spedizione scientifica che questa volta è stata avuto come oggetto l'isola di Signi quindi la una un'isola una base un'isola che si trova nel settore marittimo dell'Antartide all'estremità della penisola antartica presso una base di ricerca del British Antarctic Survey presso il quale abbiamo soggiornato per circa due mesi il progetto di ricerca prevedeva la posa di quattro sonde per il rilievo della temperatura del suolo e quindi la verifica della dinamica dello strato attivo del permafrost in corrispondenza di quattro situazioni diverse dal punto di vista microclimatico di vegetazione e di morfologia questa attività è stata affiancata dal rilievo di una carta geomorfologica dell'isola che è stata successivamente pubblicata e chiaramente ci sarebbe da sarebbe bello poter parlare poter aggiungere ulteriori dettagli ma per mancanza di tempo mi limito a dire che non posso che cogliere questa occasione per ringraziare di nuovo il professor Guglielmin di avermi coinvolto in questa in questa esperienza la quale una volta terminata mi ha riportato poi alla all'attività che descrivevo in precedenza quindi alla gestione delle contaminazioni sul numero di siti che progressivamente aumentava di parecchio negli anni diciamo nei primi anni dieci anni degli anni 2000 ci siamo progressivamente strutturati sempre di più abbiamo aumentato il numero di interventi con le indagini le caratterizzazioni le progettazioni le installazioni delle bonifiche decine di interventi di messa in sicurezza come quello nella fotografia più a destra e parallelo assistevamo all'evoluzione della normativa la quale è stata vista nel 2006 la pubblicazione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 152 che è detto anche testo unico ambientale e che è la norma attualmente in vigore che ha introdotto delle novità importanti nel campo della bonifica dei siti contaminati così come anche in altri ambiti della diciamo su altre tematiche ambientali quali le emissioni la tutela acque la valutazione di impatto ambientale quello che però mi interessava o comunque in estrema sintesi ciò che volevo introdurre a proposito del 152 sono due elementi importanti che possono avere delle ripercussioni dal punto di vista delle attività professionali per uno scienziato ambientale la prima di queste è l'analisi di rischio che consiste in una procedura che consiste nella verifica della verifica degli effetti che una contaminazione riscontrata in corrispondenza di una sorgente può avere attraverso diversi percorsi sui bersagli presenti o ipotizzati questa procedura di analisi di calcolo fondamentalmente esisteva prima nel 152 era già applicata in precedenza ma il 152 la resa obbligatoria per tutti i siti di conseguenza oggi l'analisi di rischio serve per determinare l'effettivo grado di stato di contaminazione di un sito a partire quindi dai dati raccolti durante la fase di caratterizzazione il tecnico ambientale applica l'analisi di rischio e determina se il sito debba o meno essere oggetto di bonifica questa questa procedura richiede una competenza specifica che diciamo deve essere il più possibile approfondita e diciamo costruita con con serietà e con una esperienza il più possibile diciamo specifica per cui ritengo che sia un esempio di competenza specialistica che a mio parere sia in grado oggi di garantire ottime possibilità di lavoro per un tecnico ambientale che sia interessato ad occuparsene un'ulteriore tematica da questo punto di vista è quello delle tecnologie di bonifica che sono complesse dal punto di vista dell'applicazione in questa slide io ho semplicemente richiamato alcuni principi di base che descrivono le tecnologie di bonifica ma chiaramente in assenza della possibilità di approfondire la tematica mi limito a dire che gli interventi di risanamento del sottosuolo sono molto complessi e richiedono competenze di vario genere per cui tipicamente la loro applicazione avviene da parte di un gruppo di lavoro che comprende il geologo così come il biologo il chimico e l'ingegnere e le tecnologie pur essendo in buona parte consolidate richiedono competenze richiedono particolare diciamo approfondimento nell'analisi della situazione per poter essere applicate correttamente e diciamo lasciano spazio alla ricerca di nuove tecnologie o di nuove modalità di applicazione di tecnologie consolidate che a mio parere lasciano spazio ancora oggi ad un campo diciamo ad uno sviluppo di un'attività professionale particolarmente interessante e che quindi può essere oggetto di lavoro per tecnici che possono essere particolarmente capaci e competenti e che quindi siano interessati a svilupparla perfetto grazie ma mi sa che sono già arrivato alla fine diciamo che ho toccato con superficialità vari temi però ho voluto l'idea era quella di fornire qualche spunto per spiegare che oggi un tecnico laureato in campo ambientale dispone di varie possibilità volendo per trovare spazio in ambito professionale ci sono competenze ci sono settori e competenze che tuttora nel campo delle bonifiche ambientali sono in crescita e hanno delle potenzialità e oltre a tutto le nuove tecnologie delle quali ho avuto un esempio di applicazione nel campo della geocologia periglaciale per esempio nel campo della bonifica di siti contaminati hanno enormi potenzialità siamo ancora all'inizio della loro applicazione per cui nei diciamo gli strumenti la tecnologia informatica così come le nuove tecnologie per la raccolta dei dati per l'elaborazione dei dati a supporto delle decisioni o delle progettazioni per la gestione degli interventi sono tutti ambiti nei quali ci sono ampie possibilità di sviluppo per cui ritengo che un tecnico laureato uno scienziato ambientale come un geologo oggi se è curioso se è aperto se è diciamo anche capace di capire di fare da tramite tra le nuove tecnologie in arrivo e le tematiche diciamo le tecniche le tecnologie già consolidate può trovare uno spazio considerando il fatto che in ogni caso è utile a mio modo di vedere è utile indispensabile e può e ha sicuramente un effetto positivo il costruire una competenza competenza approfondita e come posso dire sufficientemente seria e specialistica perché nel mercato delle bonifiche ad oggi almeno dal mio punto di vista dal nostro luogo punto di osservazione questo tipo di competenze sono ricercate sono necessarie ringrazio per l'attenzione e scusate la diciamo lo scarso approfondimento sulle tante tematiche toccate do la parola al dottor Pobbiati grazie mille buongiorno a tutti grazie mille professoressa per l'introduzione bene sono qua a parlarvi oggi di quello che è stato in realtà il mio progetto di tesi magistrale ovvero la creazione di un corretto metodo divulgativo che sia anche valutabile per quanto riguarda la sua efficacia perché abbiamo scelto di fare questo abbiamo scelto di fare questo tipo di lavoro perché negli ultimi anni è innegabile che sempre di più il grande pubblico è scettico verso quello che è la scienza spesso e volentieri si sente parlare di persone che ormai non si fidano più di quello che i ricercatori dicono spiegato molto bene il libro che vi ho messo in questa slide della dottoressa Maria Luisa Villa la scienza sa di non sapere per questo che funziona dove si fa un'analisi storica anche di come in precedenza nell'ottocento quando un ricercatore parlava si era praticamente a una via il ricercatore parlava il pubblico lo ascoltava recepiva il messaggio e lo accettava così come era oggi giorno non è più così per diverse ragioni e siamo davanti a due vie dove anche il ricercatore quando dice qualcosa deve mettersi a rapportarsi con le opinioni le emozioni le paure del grande pubblico e di questa cosa bisogna fare molta attenzione anche perché oggi spesso le notizie non vengono date più nella maniera corretta se si osserva bene nel dettaglio perché troppe volte il grande pubblico non sono i ricercatori a portarle ma bensì sono i mass media quindi giornali e telegiornali e troppe volte queste notizie vengono dette o con toni allarmistici oppure frammentate e di certo questo non è un bene perché troppe volte è causa anche di un'incomprensione da parte del grande pubblico altro motivo per cui la gente è molto scettica ultimamente verso la scienza potrebbe anche essere il fatto che il concetto di peer review è sempre meno conosciuto ovvero che una ricerca prima di essere convalidata deve passare al vaglio di altri ricercatori non soltanto di chi ha fatto determinate dichiarazioni e questa è un'altra cosa molto importante ed è proprio anche da queste notizie frammentate che nascono poi sul web grossi problemi che sono le fake news oggigiorno ce ne sono di diverso tipo il web è la prima fonte di queste passiamo da quelle un po' più divertenti diciamo come Steven Spielberg ha inserito che viene accusato di aver ucciso un dinosauro sul set di Jurassic Park ha notizie più comunque rete più problematiche pensiamo al caso del medico Andrew Watfield che ha provato a correlare l'autismo con i vaccini questo è stato un grosso problema quando la notizia è uscita fuori intanto che si era visto che c'è stato un grosso calore nel numero di vaccinati anche in Italia questo quello che ho messo in immagine è il suo documentario che è stato proibito è stato proibito l'Istituto Superiore di Sanità Italiano di essere diffuso nel nostro paese per fortuna andiamo però più nello specifico del nostro tema ovvero il cambiamento climatico pensiamo allo scandalo Climategate i membri della crew inglese sono stati rubati moltissime mail e sottoposti al fenomeno del quote mining ovvero sono state strapolate diverse frasi da queste quindi messe fuori al contesto per invece provare non che il cambiamento climatico fosse davvero in atto ma bensì il contrario e poi ovviamente queste notizie se vengono alimentate come vedete in questo Twitter anche da figure politiche di alto spicco che hanno quindi una grossa platea di utenti è ovvio che la scienza questo non può far bene questi sono casi dove queste notizie viaggiano su web ma il web non è solo questo in realtà banalmente vediamo la pagina dell'IPCC la pagina dell'IPCC personalmente si è strutturata molto bene di facile comprensione di facile accesso basti pensare che si fanno comunque anche delle sintesi di argomenti trattati così che il grande pubblico le possa leggere le possa comprendere i stessi social network che oggigiorno sui quali oggigiorno girano un sacco di notizie false in realtà possono essere anche degli ottimi mezzi divulgativi banalmente il webinar di oggi è fatto anche su Facebook ci sono diverse pagine su questi social network che parlano anche di scienza qua ve ne mostro una che ha 150.000 iscritti detenuta comunque da persone che hanno una qualifica dietro hanno un dottorato qualcuno ha un master e di ambiti specifici però collaborando insieme si riesce comunque arrivare al grande pubblico portare sempre notizie nuove e cosa più importante lo si fa in maniera sincrona ovvero si parla di una notizia si mette a conoscenza il pubblico questi poi fanno delle domande ai ricercatori che possono interagire e dare delle risposte così anche il grande pubblico si sente più rassicurato ed ha più fiducia perché scopre tutto quello che c'è dietro poi la scoperta dopo di questo ci sono anche diverse pagine che voglio evidenziare in Italia c'è una pagina molto importante che è bufale.net che serve per scoprire quelli che sono gli inganni della rete ma ancora più importante sul cambiamento climatico c'è la pagina di Scapital Science la quale ci dà proprio tutte le notizie vere e false che vengono dette ogni giorno sul clima e vengono smentite in maniera scientifica quindi con articoli e questo è molto importante perché parlare di cose concrete è quello che serve quando si fa divulgazione e qui arriviamo al vero centro della mia tesi partiamo da questa foto che vi ho messo nella presentazione dove si vede il professore Mauro Guglielmina professoressa Cannone mentre farono divulgazione direttamente sul campo eravamo a Passo Gavia con i ragazzi della scuola media di Lissone che poi sono proprio i ragazzi da cui sono partito per il mio progetto infatti ho osservato i miei docenti durante questo progetto divulgativo per fare un po' da training e iniziare a valutare l'efficacia di questo progetto divulgativo tramite le domande per poi svilupparne un secondo personale che si occupasse di parlare del cambiamento climatico alle scuole medie e di riuscire a cercare di valutarne l'efficacia tramite dei questionari uno posto prima dell'intervento e uno posto dopo come abbiamo fatto questo c'è stato un lungo periodo di preparazione da parte dei docenti nei miei confronti quindi l'opertore dovuto essere preparato anche sotto l'aspetto pratico poi vedremo nel dettaglio perché è stato scelto come strutturare ogni singolo evento si sono creati poi i materiali visivi di supporto e infine abbiamo creato i questionari andando nello specifico la formazione dell'operatore e qui ho partecipato attivamente al progetto RESAC presso il Parco Nazionale dello Stelvio seguito appunto dal professor Mauro Guglielmin la professoressa Cannone dal dottor Francesco Malfasi dalla dottoressa Silvia Picinelli che sinceramente ringrazio anche per il contributo che mi hanno dato e mi hanno fatto vedere e toccare con mano tutto l'aspetto pratico di un vero progetto sul cambiamento climatico questo è importantissimo riprendo le parole del dottor Tommaso Maccaro che dice che per parlare di scienza a volte bisogna saperla volgarizzare ovvero renderla più facile così al grande pubblico e soltanto tramite l'esperienza pratica posso acquisire almeno tante conoscenze che mi permettano questo e quindi questo punto è stato molto fondamentale per iniziare un vero progetto divulgativo come abbiamo strutturato gli interventi beh per la scuola media di visione non c'è stata difficoltà nel senso che li ho seguiti sul campo due giorni finito questo mi sono sottermato coi ragazzi e gli ho posto alcune domande che poi vedremo nel dettaglio per capire un po' che cosa era rimasto in mente che cosa era stato capito di quello che ho spiegato poco prima dai docenti per quanto riguarda invece gli interventi nella scuola media qua ringrazio le due scuole interessate ovvero la scuola media saltare 4 giugno di Pontevecchio e l'istituto San Girolamo Miliani di Corbetta dove lavoro oggi che mi hanno permesso mi hanno dato del tempo e disponibilità cosa ormai non scontata in realtà anche per progetti divulgativi per provare a fare questo test bene abbiamo interagito con 8 classi di cui una di prima media una di seconda media e 6 invece di terza media tutti gli interventi erano strutturati con la stessa struttura ovvero prima si fa un questionario poi si fa l'intervento divulgativo e infine un secondo questionario la parte centrale è però quella di vera e propria divulgazione variava in base all'età dei ragazzi al loro livello che ottenevo parlando prima con i docenti e ai feedback che ho ricevuto dall'attività precedente i materiali visivi di supporto è molto importante questo perché era fondamentale che io riuscissi a portare con le mie parole e con le immagini che mostravo ai ragazzi il campo a scuola e quindi cosa abbiamo fatto abbiamo sottotato un powerpoint che inizialmente dà essere la definizione di quello che è del cambiamento climatico perché a questo perché volevo che tutti i ragazzi avessero delle conoscenze basilari per capire le mie parole che andavo a dirgli e tutti i concetti che gli andavo a spiegare dopo di questo si è parlato delle conseguenze del cambiamento climatico si è mostrato articoli scientifici e il report dell'IPCC poi si è parlato di mitigazione adattamento e infine si è andate a parlare del progetto RISAC per portarle appunto un aspetto anche a loro pratico di cosa vuol dire studiare il cambiamento climatico e del perché lo facciamo i questionari sono quelli che vedete qui adesso sono due pre e post le domande del primo e del secondo sono le medesime certo che nel secondo abbiamo inserito anche una sezione per i feedback ovvero volevo sapere che cose i ragazzi pensassero dell'attività appena svolta questo perché mi poteva aiutare meglio a comprendere che cosa potessi migliorare nella futura che facevo altra cosa importante i questionari come vedete prendiamo l'esempio della prima domanda mettieni che sia importante studiare il cambiamento climatico sì no non so cosa sia se hai risposto sì per quale ragione sociale politica economica ambientale oppure indica altro era una risposta multipla potevano scegliere più voci di questo andiamo a vedere però che cosa ho ottenuto partiamo dalla scuola di Lissone quindi ripeto il mio training ho ottenuto molti risultati importanti innanzitutto la prima domanda era quella che si era per rompere il ghiaccio ovvero per entrare a contatto con i ragazzi quindi chiedo letteralmente una votazione numerica dell'attività appena fatta in secondo luogo andavo a chiedere se era utile perché questo era il momento in cui valutavo l'efficacia riguidavo tramite le domande delle quali loro dovevano spiegarmi i termini che hanno sentito prima dei docenti i risultati sono soddisfacenti molto alti i ragazzi avevano compreso quello che era stato dato loro quindi già da questo noi possiamo dire che questa attività è risultata efficace ma la cosa che maggiormente ho portato a casa da questa è stata quella del punto 4 che cosa ti ha impressionato tutti quanti hanno risposto gli acciai lo scioglimento in realtà lo scioglimento degli acciai questo perché i ragazzi avevano davanti gli acciai lo stato attuale e le foto di come era nel passato e questo li ha dico sconvolti però gli ha lasciato sicuramente un segno gli ha fatto davvero capire che cosa significa oggigiorno il cambiamento climatico ed è per questo motivo che ho prestato una particolare attenzione al materiale visivo da portare in classe perché volevo ricreare la stessa identica cosa poi per il resto abbiamo anche valutato se l'intervento potesse essere migliorato in quale ambiti abbiamo visto che soltanto due gruppi di questi dicono magari di stringere i tempi cosa che poi vedremo ricapita anche negli altri questionari è un po' la media che li percorre sempre con le classi comunque andiamo a vedere l'intervento che ho fatto nella scuola nelle altre scuole medie la prima domanda ve l'ho già letta non sto a ripeterla nel grafico qua vedete le barrette blu che indicano i risultati del pre-intervento nel rosso quelle del post-intervento diciamo che comunque tutti i ragazzi sembrano che pensare che sia importante studiare il cambiamento climatico e come ci potremmo aspettare tutti quanti lo fidano semplicemente a una causa ovvero quella ambientale è soltanto dopo le mie parole che vediamo che anche le altre cause vengono prese in considerazione è un incremento medio dei questionari che varia quello del 22.81% quindi soddisfacente ma guardando ad esempio il dato economico prima compare in 39 questionari e poi in 111 è tantissimo come aumento comunque anche perché la media è un po' falsata dal fatto che l'ambientale parte già da un numero molto alto erano 183 questionari 157 in partenza che dicono ambientale poi 171 mi fa abbassare molto l'incremento medio andiamo a vedere invece la seconda domanda pensi che il cambiamento climatico avrà ripercussioni sulla tua vita? sì, no non ho idea e se sì indica per quali motivi la disponibilità di cibo d'acqua di energia di viaggi lavoro vediamo anche qua un incremento in tutte e quindi ripeto anche qui è un altro indice che le mie parole sono state apprese dai ragazzi che sono stato ascoltato da loro e che stanno capendo davvero che il cambiamento climatico può comprendere non soltanto quell'aspetto ambientale che abbiamo visto prima ma davvero tutti gli ambiti della nostra vita guardiamo il punto 3 invece cosa puoi fare per mitigare il cambiamento climatico se sì dimmi se consumare meno acqua meno inquinamento il riciclo l'acqua questa è la domanda che vede più risposte in partenza ma me lo aspettavo perché comunque i telegiornali spesso e volentieri si sente parlare di riduciamo i consumi riduciamo quindi l'inquinamento dobbiamo risparmiare l'acqua e quindi era molto ci aspettavamo di trovare questi risultati ma comunque anche qua se partiamo con dati alti all'inizio abbiamo un incremento quindi ripeto anche qui sembrerebbe che i ragazzi stiano ascoltando le parole dell'operatore andiamo a vedere i feedback questi molto utili l'attività comunque sembra essere piaciuta oltre il 50% dei partecipanti e non dice di toccar nulla abbiamo un dato di 109 su 183 comunque dicono che va bene così c'è anche una nota negativa in realtà perché comunque ho 30 ragazzi che mi chiedono o di migliorare il linguaggio quindi vuol dire che o ho spiegato senza ho dato alcuni termini senza spiegarli oppure perché mi sono dilungato troppo infatti qualcuno chiede di ridurre il tempo anche se comunque voglio ridurre il tempo sono 11 e basta il dato importante del feedback che ho ottenuto è questo qua invece se avevo posto la domanda ne avete mai sentito parlare e se si ditemi dove 42 su 183 dicono mai e già questa cosa mi mette un po' in allarme anche perché la maggior parte di loro sono ragazzi di terza media per quanto riguarda molti hanno preso le informazioni che sapevano dal web e anche questo per un ragazzino di quell'età può essere una cosa pericolosa in quanto non sono ancora in grado di filtrare le notizie corrette da quelle false e infine vediamo il dato della scuola siamo a 52 su 183 io mi auguro presto che come ha già detto qualcuno prima di me con l'avvento dell'educazione civica come lezioni si parli anche di quello che è il cambiamento ambientale in atto adesso proprio anche per via appunto il cambiamento climatico e quindi che questo dato salga vorrei riproporlo infatti nelle mie scuole questo esperimento e vedere un po' come le cose cambieranno perché in realtà parlare di cambiamento climatico di problemi ambientali rientra nei programmi didattici quindi è importante che i docenti sappiano queste cose e che ne parlino per concludere posso dire che comunque l'attività con la scuola media di Lissone è risultata efficace così come l'attività posta con le scuole medie che vi ho citato prima è efficace con l'incoramento medio delle risposte pari al 21,02% ma voglio aggiungere quali sono i punti fondamentali per una corretta divulgazione innanzitutto ripeto l'esperienza pratica perché è solo da questa che noi riusciamo a semplificare poi il linguaggio per quando noi andremo a raccontare ai ragazzi più cose sappiamo più ci permette di giostrarci meglio nell'argomento che andremo a raccontare quindi è fondamentale questo noi lavoriamo spesso qua questa tesi abbiamo parlato con i ragazzini della scuola secondaria è un bacino immenso dati di stato da mano nel 2014 parlavano di 1.500.000 menti da poter a cui poterci rivolgere sono ragazzini dobbiamo sempre ricordarcelo ovvero sono le elezioni spesso magari qualcuno è anche disinteressato quindi saremmo noi a essere bravi a coinvolgere l'alunno e anche regolarci come in base a quello che sappiamo dei loro docenti se ci dicono che sono più interessati su un aspetto che su un altro cerchiamo di giocare su queste cose entriamo in rapporto perché il nostro scopo non essere lì a raccontare è lì perché dobbiamo dare un messaggio concreto a questi ragazzi non siamo ripeto lì soltanto per raccontare qualcosa ma siamo lì per dare un messaggio che deve essere però che deve rimanere però impresso nelle loro menti il supporto visivo ripeto è importantissimo perché questo ci permette di portare il campo alla scuola tutti noi vorremmo credo noi docenti vorremmo avere la possibilità di portare sempre i nostri alunni sul campo direttamente però questo non è sempre possibile quindi anche per i divulgatori se quando intervengono le scuole devono riuscire a fare questo passaggio qua il campo alla scuola e infine chiedete un'opinione dico sempre chiedere un'opinione ai ragazzi i ragazzi sono sinceri non hanno spesso peli sulla lingua e questo è importante perché ci fa capire se abbiamo lavorato bene anche semplicemente un ragazzino che ti dice magari guardi i termini che ha usato sono troppo complessi per favore me li puoi spiegare per noi è un feedback perché la prossima volta sapremo già che questi termini li dobbiamo spiegare immediatamente poi per amor del cielo può capitare benissimo che ci dimentichiamo qualcosa ogni tanto però sono punti che dobbiamo tenere in mente quando facciamo una corretta divulgazione perché è una corretta divulgazione che poi andremo a formare i giovani di domani e questo è molto importante con questo ho finito vi lascio con una frase tutto può essere insegnato basta solo il giusto metodo grazie all'attenzione grazie mille Alessandro grazie anche per questi bei ricordi noi abbiamo fatto più di sette anni di esperienza con la scuola media di Lissone con lezioni teoriche e poi queste uscite in campo e devo dire che effettivamente i ragazzi delle scuole medie inferiori sono veramente recettivi assorbono e imparano come delle spugne e molti di loro non avevano mai visto un ghiacciaio non erano mai stati in montagna quindi insomma è importante che le persone non vedano solo la realtà urbana da cui non si capisce molto di quello che sta succedendo nel nostro pianeta nel nostro ambiente ma che tocchino con mano e vedano quello che sta capitando parlando proprio di ambienti quindi passiamo da quelli incontaminati a delle realtà diverse che quindi riguardano la gestione di ambienti antropizzati e di quelli che sono anche ad esempio correlate le attività correlate alle attività antropiche e alla gestione dei rifiuti delle biomasse o delle contaminazioni eccoci qui buongiorno a tutti cercherò di essere rapido in dolore visto che inizia a essersi fatta l'ora di pranzo mettiamola così oggi sono qui per parlarvi di una in realtà una famiglia molto grande che è quella delle biomasse che si presenta come una tipologia di materiale sicuramente interessante che può favorire la sostituzione di altri materiali sicuramente meno sostenibili nella visione di quella che è la chimica verde partirò prima con una piccola introduzione di questo mondo veramente molto ampio cercando poi di focalizzarmi su quella che è l'attività che viene fatta come ricerca nel nostro gruppo di chimica analitica comoli in subria come ho detto prima questa tipologia di materiale si inserisce nel grande contesto della chimica verde la chimica verde che cerca di risolvere alcune problematiche sicuramente attuali a livello ambientale ho riportato qua nella slide giusto due esempi che sono un forte aumento delle emissioni e la gestione di alcune risorse che tendono a scarseggiare un esempio tipico è quello dei combustibili fossili e alcune soluzioni che la chimica verde si propone invece sono l'utilizzo di fonti alternative quindi rinnovabili di energia meglio ancora se sono materiali che possono essere in grado di fissare la nitride carbonica sicuramente un composto problematico per quanto riguarda i recenti cambiamenti climatici inoltre si va a cercare di recuperare il più possibile materiali che risulterebbero altrimenti di scarto quindi si evita in ogni caso si tendono ad evitare ogni tipologia di sprechi e se possibile si cerca di sostituire composti problematici sia in termini ambientali che in termini di tossicità con composti che invece risultano non tossici e meno dannosi in questo contesto in questo contesto si inseriscono molto bene le biomasse innanzitutto per un motivo principale che sono tutti materiali che durante la loro vita utilizzano di solito della carbonica per fissare il carbone organico che di solito è poi successivamente utilizzato per i materiali che vengono prodotti sono storicamente utilizzate come base di partenza per combustibili alternativi e combustibili fossili ma nei anni più recenti si è cominciato a osservare possibili applicazioni anche in altri campi e per l'utilizzo di altri materiali basti pensare per esempio ai biopolimeri in questa slide sono poi riportate quelle che sono le quattro quelle che sono le quattro generazioni di biomasse utilizzate per classificare anche un po' storicamente la loro origine il loro utilizzo ci sono le biomasse di prima generazione che sono le biomasse agricole più storicamente utilizzate ma poi principalmente abbandonate perché andavano a sovrapporsi a quello che è l'agricoltura per esempio per la produzione alimentare per la produzione di foraggio c'è stata poi quindi una seconda generazione che è quella delle biomasse agricole ma di scarto in questa immagine ho riportato come esempio un guscio di noce ma in generale tutti gli scarsi dell'industria agricola vengono utilizzati in quanto hanno un costo ridotto e la possibilità di essere rivalutati come materiali di partenza c'è poi una tipologia di biomasse dette di terza generazione che sono le biomasse agali e saranno poi la specialità del giorno parleremo principalmente di quelle e poi vi è un'ultima generazione che è la quarta generazione che è in fase di ricerca molto recente che riguarda principalmente le coltivazioni soprattutto agali batteriche ogm focalizziamoci quindi come anticipato sulle microalghe che sono organismi unicellulari micro definisce la loro dimensione generalmente sono nella scala micrometrica come dimensione e hanno alcuni notevoli vantaggi rispetto alle altre tipologie di biomasse uno su tutti è l'ampio fissaggio di CO2 e l'elevata resa che queste tipologie di biomasse hanno anche nell'utilizzo di poco spazio letteralmente come superficie in quanto vengono utilizzati questi pannelli che vedete nell'immagine in basso a destra detti fotoreattori e quindi si riesce a ottenere una relativa elevata quantità di materiale in spazi abbastanza ridotti altre note veramente importanti sono che queste alghe possono essere essendo tipicamente di acqua dolce o di acqua salata possono essere coltivate direttamente anche semplicemente in acqua e refle e soprattutto poi non vanno a sovrapporsi con le biomasse che invece vengono utilizzate per uso agricolo e quindi non abbiamo alcuna sovrapposizione con l'altro sfruttamento di risorse da biomasse in questa slide mostro invece un focus sui trattamenti che vengono fatti generalmente sulle biomasse per ottenere diverse tipologie di materiali ci sono due grosse famiglie di trattamenti che sono trattamenti chimici e trattamenti termici noi oggi ci focalizzeremo su una tipologia di trattamento termico che ho evidenziato che è la pirolisi la pirolisi che cos'è molto brevemente è un trattamento termico effettuato però in un ambiente inerte quindi non ossidante per cui si va a scaldare la biomassa ma evitando processi di ossidazione e di combustione vera e propria in modo da poter ottenere composti carboniosi e mantenere almeno alterata possibile la matrice carboniosa della biomassa per cui quando andiamo a effettuare questo trattamento termico che è a diversa temperatura si va generalmente dai 200 gradi circa fino a 700 800 in funzione dei materiali che vogliamo ottenere i tre si ottengono principalmente tre tipologie di materiali dopo il trattamento termico che sono il biogas i biooli e il biochar che è una sorta di carbone sostanzialmente il focus della nostra ricerca è proprio lui è proprio il biochar mostro ora alcune particolari caratteristiche soprattutto fisico-chimiche di questo carbone in quanto come tutte le altre tipologie di carbone generalmente è molto poroso e quindi questo permette di avere un'altra superficie reattiva che lo rende un materiale molto interessante anche per diverse altre applicazioni che vedremo poi successivamente è presente inoltre alcuni particolari gruppi funzionali sulla sua superficie gruppi funzionali ossidati gruppi funzionali contenenti fosforo azoto in alcuni casi anche zolfo che favorisce alcuni fenomeni come chelazione di metalli per esempio fenomeni di ossido riduzione e fenomeni di scambio ionico tutte queste caratteristiche oltre alla possibilità di generalmente essere un materiale tamponante cioè che presenta un pH basico lo rendono materiale sicuramente interessante per diverse applicazioni l'applicazione più storica di questo materiale come tutte le tipologie di carbone vegetale è quella di utilizzo come ammendante per i suoli favorendo una più forte ossigenazione e un lento rilascio dei nutrienti ciò nonostante recentemente sono state viste diverse applicazioni molto interessanti anche a livello ambientale e addirittura industriale nell'industria chimica partendo da l'utilizzo come mobilizzante di possibili inquinanti sia organici che metallici in acqua in suoli l'utilizzo anche in industria per catalizzatori in alcuni casi per elettrodi per esempio sostituendo altri prodotti carboniosi ottenuti invece per sintesi come prodotti derivati dalla grafene o nanotubi di carbonio presentano alcune possibili applicazioni nel sequestro di gas serra proprio per tutte queste interessanti applicazioni l'interesse nel mondo della ricerca per queste tipologie di materiali si è veramente impennato negli ultimi anni questo grafico riporta l'andamento di pubblicazioni da un database di pubblicazioni scientifiche che è Scopus riporta l'andamento e l'incremento che si vede attorno al 2010 di pubblicazioni scientifiche che hanno al loro interno la parola biochar nella quella che vedete con la linea nera e di microalghe invece nel trend indicato con la linea verde si nota quindi che soprattutto in un periodo recente c'è stato veramente un aumento esponenziale della ricerca e dell'interesse per queste tipologie di materiali poco dopo in termini di tempo soprattutto in un ambito industriale l'industria tende a seguire la ricerca quando una ricerca sembra funzionale ma chiaramente con un piccolo ritardo di qualche anno tant'è vero che iniziano ad essere alcune realtà che trattano anche in industria le microalghe come biomasse di partenza e l'utilizzo di biochar ma soprattutto in Italia siamo ancora in una fase diciamo di partenza l'applicazione delle alghe sicuramente inizia ad esserci ma principalmente per esempio come nell'industria alimentare ad esempio la spirulina viene usata spesso coltivata come integratore o nella piscicultura le altre tipologie di applicazioni sono ancora in una fase iniziale stessa cosa per il biochar inizia ad esserci vendita da parte di alcune aziende per l'utilizzo agricolo del biochar come ammennante ma in Italia non c'è ancora un vero e proprio mercato di questo materiale per riuscire a investigare bene le potenziali applicazioni di questa tipologia di materiale vengono effettuate delle caratterizzazioni chimico-fisiche e delle caratterizzazioni del processo onde evitare di non avere rese ottimizzate si cerca di ottimizzare la resa di materiale in funzione dello scopo che vogliamo ottenere per cui come caratterizzazione vengono fatte diverse analisi di superficie con tecniche di microscopia e tecniche spettroscopiche e vengono poi effettuate anche analisi chimiche come per esempio con tecniche cromatografiche o l'utilizzo di gestioni acide per le analisi elementari per quanto riguarda le analisi del processo vengono utilizzate quelle che vengono dette invece termogravimetriche cioè si va a osservare la resa in termini di massa in funzione del riscaldamento della biomassa ora mostrerò alcuni dettagli inerenti all'attività di ricerca che viene fatta proprio nel nostro dipartimento di Insugria noi ci siamo spinti più che altro sulla caratterizzazione e analisi di processo per quanto riguarda la produzione di biochar ottenuto da biomassa regali cercando di compararlo inoltre con biomassa di altro genere per capire le differenze e le potenziali applicazioni di questo materiale vi mostro ora molto brevemente alcuni risultati che abbiamo iniziato a ottenere dopo circa un anno dall'attivazione di questo progetto abbiamo notato da una prima caratterizzazione di alcune microalghe sia di acqua dolce che di acqua salata e comparandole con una biomassa legnosa tipicamente rappresentativa della biomassa di seconda generazione cioè l'uscio di noce abbiamo notato delle evidenti differenze chiaramente che ci aspettavamo a livello chimico un contenuto soprattutto di fosforo azoto e anche di alcuni metalli alcalini alcalini terrosi molto più elevato nelle alghe dato dalla diversa concentrazione di lipidi in partenza e dalla media dove queste crescono cioè l'acqua rispetto che sulla terra e abbiamo inoltre evidenziato come dopo un processo di pirolese effettuato a 300 gradi tutte le alghe avessero delle rese sia di biochar che vedete nel grafico indicate in grigio che soprattutto di bioolio molto più elevate rispetto alla biomassa legnosa questo quindi potrebbe portare a un'ottimizzazione del processo avendo quindi una resa di materiale sia solida più elevata ma anche una resa di olio più elevata che può essere utilizzato con altre applicazioni interessanti una su tutte l'utilizzo come base di partenza per carburanti abbiamo anche iniziato a fare una prima applicazione ambientale di questi biochar ottenuti sono alcuni test veramente preliminari vi mostro giusto questo grafico per darvi un'idea abbiamo iniziato a provare a testare la capacità di assorbimento di inquinanti metallici in soluzione acquosa con l'utilizzo di questi carboni ottenuti da biomasse la cosa che si è evidenziata è che tutte le microalghe che sono nel grafico si vedono in verde scuro in giallo e in arancio hanno capacità di assorbimento nei metalli più elevate in questo caso esemplificato con il cromo rispetto alla biomassa legnosa che è la noce si vede bene come dopo 24 ore di scambio si ha un abbattimento del cromo che arriva fino a quasi il 90% con la spirulina mentre con la noce non si riesce ad andare oltre al 60% concludendo molto rapidamente si nota come la chimica green risulta una via necessaria da percorrere per poter ridurre il nostro impatto ambientale e in questo contesto le biomasse sembrano sicuramente un prodotto di partenza interessante come vi ho fatto notare durante la presentazione inoltre ci tengo a sottolineare nuovamente che la ricerca è un settore fondamentale e che la sua interfaccia con l'industria è altrettanto fondamentale per poi poter avere un'applicazione concreta di quelle che sono poi le tematiche di ricerca interessanti anche in termini ambientali con questo ho concluso vi lascio il mio indirizzo mail l'ho lasciato qui sotto in grassetto se avete altre domande o curiosità grazie mille a tutti la dottoressa Elisa Terzaghi anche lei si è laureata presso il nostro corso di laurea magistrale ha fatto il dottorato di ricerca presso il nostro Ateneo e adesso ha iniziato una posizione ricercatore a tempo determinato e ci parlerà del caso della contaminazione ambientale da POP quindi un tema di grandissima rilevanza e attualità prego Elisa grazie per la presentazione buongiorno a tutti sono Elisa Terzaghi e lavoro presso l'environmental modeling gruppo diretto dal professor Antonio Di Guardo insieme alla professoressa Zanardini e Murosini all'interno del gruppo ci occupiamo di studiare il destino ambientale di contaminanti organici nel contesto della valutazione del rischio per gli ecosistemi lo facciamo in diversi modi in primis mediante lo sviluppo di modelli del destino ambientale e poi studiando ad esempio l'effetto filtro ovvero la capacità delle piante di rimuovere i contaminanti dall'aria e attraverso lo studio della Bioremediation ovvero l'utilizzo di piante per risanare siti contaminati ed è proprio su questo aspetto che si concentrerà la presentazione di oggi il sito di studio della presentazione è il sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro ovvero un'area situata nella città di Brescia che è stata contaminata sia a livello delle acque che dei suoli da diverse sostanze organiche e anche inorganiche questo principalmente dall'attività dell'azienda Caffaro che dagli anni 30 fino ai primi anni 80 del secolo scorso ha prodotto diversi composti organici tra cui i policlorobi fenili di cui vi parlerò oggi ha prodotto queste molecole e ha anche causato una contaminazione nelle aree circostanti contaminazioni sopra i livelli limite di legge tant'è che nel 2003 il Ministero dell'Ambiente ha definito questa area quindi questo sito come un sito di interesse nazionale ne ha definito il perimetro dichiarandola come una zona da essere sottoposta a interventi di caratterizzazione e bonifica che cosa sono i policlorobi fenili sono una classe di 209 composti organici clororati qui vedete la formula di struttura sono anche chiamati congeneri e formano in totale 10 famiglie da mono a decaclorati in Italia la Caffaro è stata l'unica azienda ad averli prodotti per diversi usi ad esempio fluidi dielettrici isolanti termici e lubrificanti la Caffaro li ha prodotti come miscele chiamate fenclore apiloglio e queste miscele contengono quelli che vengono chiamati PCB indicatori che sono quelli che vengono maggiormente ritrovati nell'ambiente ma anche il decacloro PCB ovvero il PCB 209 che è un marker della contaminazione della Caffaro la produzione di queste molecole è stata poi bandita nel 2001 dalla convenzione di Stoccolma in quanto sono delle molecole persistente biaccumulabili e tossiche sono state inoltre definite cancerogeni di tipo 1 dallo IARC quanto riguarda le aree di interesse su cui si è concentrato questo progetto sono le aree agricole che si trovano vicino allo stabilimento della Caffaro e qui vedete in questa immagine quindi sono queste aree agricole in giallo che ricoprono una superficie di 100 ettari quindi la Caffaro attraverso la sua produzione ha contaminato queste aree in che modo le ha contaminate? Le ha contaminate attraverso l'acqua ovvero le acque di scarico dell'azienda sono finite in dei canali di irrigazione che poi dai quali è stata prelevata l'acqua per irrigare questi campi Quando è che si è iniziato a parlare di bonifica di queste aree agricole? Si è iniziato a parlare di bonifica nel 2009 quando è stato firmato un accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e gli enti territoriali coinvolti per la messa in sicurezza di questo sito qualche anno dopo quindi nel 2013 il Ministero dell'Ambiente ha affidato a Regione Lombardia e a sua volta ad Ersa la progettazione della bonifica di questi terreni Il Ministero ha fatto una richiesta ben precisa ovvero Ersta si doveva occupare della sperimentazione di tecnologie di bioremediation su delle aree agricole che vedete rappresentate nell'immagine qui sotto indicate con le lettere ART queste aree ricoprono circa 200 ettari scusate 12 ettari in totale Quindi Ersta rendendosi conto che serviva un approccio multidisciplinare per risolvere questo problema ci ha contattati come esperti del destino ambientale dei contaminanti e noi a nostra volta abbiamo coinvolto degli altri colleghi dell'Università di Milano e della Sapienza di Roma e del Comune di Brescia per formare un gruppo di lavoro per appunto iniziare a sperimentare queste tecniche tecniche di bioremediation Cos'è la bioremediation? La bioremediation è un insieme di tecniche che prevedono l'utilizzo di piante e microrganismi per andare a risanare i siti contaminati comprende diverse tecniche e noi ci siamo focalizzati su quella tecnica che viene chiamata riso remediation che prevede come vedete qui nell'immagine a destra la capacità delle piante di andare a stimolare la crescita microbica di determinati batteri che posseggono i geni degradativi per i PCB quindi quello che c'era stato richiesto era di sperimentare delle tecniche di bioremediation ma secondo noi mancava un pezzetto nel senso che ci servivano delle informazioni in più in merito alla contaminazione di queste aree e quindi abbiamo cercato di caratterizzare la contaminazione mediante diverse fasi in una prima fase abbiamo cercato di identificare i contaminanti presenti nelle aree agricole poi abbiamo verificato la loro distribuzione con la profondità del suolo e infine la loro distribuzione nello spazio quali contaminanti sono presenti in queste aree agricole allora la lista è molto lunga ve ne ho riportato solo in parte come potete vedere ci sono PCB ma abbiamo anche diossine furani metalli come arsenico mercurio il piombo abbiamo poi il DDE e così via ma che concentrazioni si trovano che ho riportato l'esempio dei PCB qui potete vedere le concentrazioni delle 10 famiglie di PCB quindi a sinistra abbiamo i mono i meno persistenti e a destra abbiamo il DECA il più persistente potete vedere che le concentrazioni arrivano a 600-400 nanogrammi grammi vi ricordo che il limite di legge per queste molecole diventi nanogrammi grammi su peso secco per quanto riguarda la distribuzione con la profondità siamo andati a campionare sempre nelle aree di studio secondo questo profilo del suolo quindi da 0-10 cm fino a un metro di profondità e quello che abbiamo visto è questa situazione ovvero che la contaminazione decresce con la profondità ma otteniamo a un metro di profondità comunque dei livelli che si avvicinano superano addirittura i limiti di legge e la concentrazione è omogenea nei primi 40 cm di suolo i primi 40 cm ovvero lo strato arrabile del suolo per quanto riguarda invece come si distribuiscono nello spazio abbiamo campionato nelle varie aree un totale di 20 o una trentina di punti per ogni campo e abbiamo ricostruito grazie a delle tecniche geostatistiche delle mappe di contaminazione e qui vi ho riportato un esempio relativo al campo agricolo A dove si può vedere che nello stesso campo le concentrazioni variano molto ovvero abbiamo delle zone molto contaminate indicate con il colore rosso e delle aree meno contaminate quindi indicate con il colore giallo comunque sempre sopra il limite di legge quindi con tutto questo pacchetto di informazione che abbiamo acquisito dalla caratterizzazione degli esperimenti ovvero le concentrazioni sono molto elevate sono molto variabili sono estese la contaminazione emissa abbiamo sia contaminanti organici che metalli abbiamo capito che era per forza necessario l'impiego di tecniche biologiche sapevamo però anche dalla letteratura che i PCB sono poco degradabili ci sono pochi studi in pieno campo di questo tipo di molecole però ci sono degli studi di laboratorio e anche di serra che hanno mostrato che le piante in certe condizioni possono stimolare la degradazione di queste molecole quindi optiamo per procedere con un esperimento per allestire un esperimento in serra per selezionare le specie vegetali e le condizioni del suolo che permettono la biotegradazione dei PCB un esperimento che è durato due anni e in condizione di semicampo ovvero con basi grandi e con una serra non termoregolata e l'esperimento in serra era fondamentale perché ci permetteva di partire da delle concentrazioni iniziali di PCB omogenee nel suolo quindi era impensabile di andare a fare la sperimentazione in pieno campo subito quali piante abbiamo utilizzato allora abbiamo selezionato dalla letteratura diverse specie di piante vi ho riportato la tabella con l'elenco delle specie le potete vedere abbiamo sia erbace che ervore queste specie di piante sono state combinate con diversi condizioni del suolo oppure sono state coltivate insieme ad altre piante per un totale di 10 trattamenti più 7 controlli per controllo intendo un vaso senza pianta tutto intrepicato ad esempio festuca rundinacea è stata testata da sola o in consociazione con la zucca con cicli di irrigazione alternati e con aggiunta di compost cosa abbiamo osservato alla fine della sperimentazione allora abbiamo selezionato tre trattamenti più efficienti nella riduzione delle concentrazioni di PCB al terzo posto abbiamo medicago sativa al secondo posto festuca rundinacea coltivata con la zucca e al primo posto festuca rundinacea coltivata con il compost queste tre specie di piante sono stati questi tre trattamenti sono stati in grado di ridurre la concentrazione di PCB totali nel suolo alla fine dei due anni di 15-20% e questi risultati sono molto promettenti un minuto ancora come facciamo a trasformare queste percentuali in un tempo di degradazione di queste sostanze abbiamo calcolato delle mi vite di RISO Remediation che le vedete riassunte in questa immagine per le varie famiglie di PCB vanno da 2 fino a 5 se le confrontiamo con delle mi vite generiche quindi non derivanti da esperimenti di RISO Remediation possiamo vedere come quelle che abbiamo ottenuto sono molto più bassi questi risultati sono serviti per scrivere le linee guida scientifiche per la bonifica del sito che sono state inviate al Ministero che le sta valutando e le potete trovare sul sito di RISO sono state poi utilizzate per produrre dei prodotti scientifici che vedete qui elencati altri sono in progress concludo dicendo qual è il significato per lo scienziato ambientale di tutto ciò allora lo scienziato ambientale è la figura più adatta a gestire un problema complesso come quello che ho presentato grazie alle sue competenze interdisciplinari che appunto richiedono conoscenza del destino ambientale dei contaminanti di microbiologia ecologia botanica geostatistica di ingegneria della bonifica vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie mille Elisa per questo contributo che ci ha fatto capire come effettivamente il problema della contaminazione ambientale sia anche questo un problema complesso e persistente nel tempo e nello spazio ben oltre quello che si immagina rispetto al destino di un'emissione generica lascio la parola a Linda buongiorno a tutti grazie per l'introduzione chimica è intorno a noi le sostanze chimiche le utilizziamo tutti i giorni e sono presenti nella nostra vita quotidiana pensiamo per esempio ai cosmetici o ai farmaci ma anche in agricoltura l'utilizzo di fitofarmaci nell'industria alimentare ma anche nei contenitori nei packaging che utilizziamo tutti i giorni queste sostanze chimiche e anche i loro prodotti secondari possono finire in ambiente e possono inquinare i comparti ambientali quali aria acqua suolo e biota e possono avere effetti sull'uomo e sull'ambiente in passato ci furono gravi incidenti ambientali causati appunto da un uso poco responsabile delle sostanze chimiche fino a tanto che la popolazione comune iniziò a notare e a rendersi conto del problema che derivava da questo ad esempio il primo manifesto di questi problemi fu il Silent Spring che portò alla denuncia della scomparsa di uccelli canori dovuto appunto all'utilizzo massiccio di pesticidi oppure il Cuyahoga River che è un fiume che prese fuoco talmente carico di inquinanti oppure Love Canal un quartiere costruito su un canale artificiale utilizzato come discarica e quindi le persone vennero fatte evacuare perché esposte sostanze pericolose quindi dagli anni 70 in poi ci fu una maggior sensibilizzazione verso la protezione della salute umana e dell'ambiente questo portò alla formazione di leggi e regolamentazioni in particolare in Europa venne introdotto nel 2007 il regolamento RIC il regolamento RIC che deriva dall'inglese significa registrazione valutazione autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche entrò in vigore nel 2007 è un regolamento dell'Unione Europea che è volto a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche promuove inoltre l'utilizzo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che possono derivare dalle sostanze con il termine metodi alternativi indichiamo tutte le procedure che servono per ridurre l'uso di animali da laboratorio quindi massimizzare l'informazione che si ottiene per animale limitare o eliminare le sofferenze dell'animale per quanto possibile massimizzare il loro benessere e sostituire completamente dove possibile le sperimentazioni utilizzando metodi in vitro quindi effettuando test su culture cellulari o tessuti e in silico quindi utilizzando metodi computazionali sulla destra vediamo questi tre principi dei cosiddetti principi delle tre R che sono reduce, refine e replace tra le metodologie in silico troviamo appunto i metodi QSAR che sono quelli di cui parliamo oggi i modelli QSAR sono funzioni matematiche che identificano una relazione quantitativa tra la struttura molecolare e l'attività biologica delle molecole quindi si parte dalla rappresentazione della struttura chimica e da cui si calcolano poi i descrittori molecolari si sviluppano i modelli QSAR che possono essere di varia tipologia e poi viene predetta la risposta quantitativa si può partire quindi da una situazione di questo tipo dove si costruiscono i modelli a partire da una quantità limitata di dati sperimentali e questi modelli verranno poi utilizzati e applicati su nuove molecole per predire la nuova risposta quindi i modelli QSAR sono utili per riempire i dati mancanti per effettuare uno screening delle molecole quindi evidenziare quelle di maggior interesse su cui poi focalizzare gli sperimenti qui vi mostro la procedura che seguiamo per lo sviluppo di un modello QSAR quindi come dicevo si parte dalla struttura dalla rappresentazione della struttura chimica da qui si calcolano i descrittori molecolari qui rappresentati da questa matrice di dati e la colonna della risposta che vogliamo modellare la matrice di dati viene suddivisa in training set sul training set viene sviluppato il modello attraverso la selezione delle variabili modellanti vengono effettuate le validazioni statistiche e viene valutato il dominio di applicabilità che serve per valutare l'applicabilità del modello a nuove molecole tutto questo seguendo i principi ESD che vogliono garantire la trasparenza e la qualità del modello per un utilizzo anche in regolamentazione questo è un esempio di modello che può essere utilizzato per predire l'attività di nuove molecole negli ultimi anni il nostro gruppo di ricerca è stato coinvolto in un progetto internazionale finanziato da SEFIC il Consiglio Europeo delle Sostanze Chimiche questo progetto aveva come obiettivo l'integrazione di strumenti per la valutazione del bioaccumulo in mammiferi sulla destra vediamo riassunto il processo di bioaccumulo che è dato dall'assorbimento delle sostanze chimiche ad opera di un organismo e quindi è dato dal risultato netto tra le vie di assorbimento e le vie di eliminazione in particolare ci siamo occupati di sviluppare modelli per predire la clearance intrinseca in vitro abbiamo sviluppato i modelli e questi possono essere utilizzati per predire a loro volta le clearance intrinseca in vitro per nuove molecole oppure possono essere utilizzati da supporto nelle strategie di estrapolazione in vitro in vivo che serviranno per stimare la costante metabolica quindi la biotrasformazione che è necessaria nella valutazione del bioaccumulo il dataset su cui abbiamo lavorato è un dataset molto complesso abbiamo dati in ratto uomo e topo e come vedete abbiamo dati in diverse matrici sperimentali epatociti quindi cellule intere di fegato microsomi S9 quindi frazioni e subcellulare avevamo una maggiore quantità di dati presenti in microsomi una quantità ridotta in epatociti e una quantità ancora più ridotta in S9 i dati quindi provengono da diverse fonti abbiamo fonti di letteratura ma anche provengono da database online inoltre le strutture molecolari presenti sono molto complesse e molto eterogenee quindi abbiamo affrontato il problema della qualità dei dati prima di procedere alla fase di modellamento nella fase di cura del dato sono stati considerati 21 criteri per valutare la coerenza e la consistenza delle informazioni che erano riportate rispetto alle linee guida OECD per i testi in vitro abbiamo curato anche l'informazione strutturale controllando gli SMICE i CAS e i nomi rappresentando gli SMICE in modo standard e abbiamo poi calcolato i descrittori molecolari quindi nella prima fase di modellamento abbiamo sviluppato i modelli considerando i dati nel loro intero abbiamo ottenuto buoni risultati per il dataset in S9 e per gli epatociti in topo ma per i dataset più grandi abbiamo provato a seguire un diverso approccio abbiamo provato a suddividere le molecole in funzione alla similarità strutturale utilizzando la qualità dei dati alta e bassa ma non abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti per cui abbiamo pensato a una nuova strategia di suddivisione delle molecole abbiamo utilizzato la strategia abbiamo raggruppato le molecole in funzione alla reattività abbiamo fatto questo utilizzando il modulo citocromo P450 che è implementato nel software TOX3 questo software è in grado di individuare i siti metabolicamente più reattivi e identificare fino a 4 reazioni più probabili qui vediamo un esempio il TOX3 lavora a partire dagli SMILES e identifica quindi le tipologie di reazioni che possono avvenire e abbiamo raggruppato le molecole quindi in funzione alla simile reattività e poi abbiamo sviluppato i modelli su questi gruppi di molecole qui vediamo i risultati finali divisi in uomo ratto e topo vediamo le tabelle che mostrano l'abbondanza dei modelli nelle diverse reazioni identificate come potete vedere abbiamo ottenuto molti modelli per i microsomi e più di 60 modelli hanno parametri statistici soddisfacenti con Q quadro live one out maggiore di 0,60 e R quadro maggiore di 0,70 abbiamo quindi sviluppato più di 100 modelli quindi ci siamo posti il problema di come applicare i modelli e mettendoci nell'ottica di scegliere il modello migliore per una nuova molecola abbiamo pensato a un framework di applicazione quindi qui vi mostro un esempio di applicazione dei modelli si parte quindi da un test set quindi da un set di nuove molecole e vengono applicati viene applicato il toxtree per predire le reazioni da qui ho estratto 12 molecole che avevano in comune le prime due reazioni l'ossidazione alcolica e l'idrossidazione alifatica successivamente ho selezionato i modelli che rispondevano a queste due reazioni avevamo tre modelli per l'ossidazione alcolica e otto modelli per l'idrossidazione alifatica applicando i modelli si ottengono predizioni singole da più modelli si valutano poi le predizioni all'interno del dominio di applicabilità e si effettua una media delle predizioni qui vediamo il plot dei valori sperimentali contro i predetti in questo caso i pallini blu corrispondono ai training set dei tre modelli di ossidazione alcolica questi modelli sono stati applicati alle 12 nuove molecole che ora vedremo apparire in questo plot quindi per queste nuove molecole siamo in grado di stimare una clearance intrinseca in vitro in questo in questo altro esempio applichiamo i modelli per l'idrossidazione alifatica e quindi anche qui otteniamo le predizioni per le 12 nuove molecole a per concludere l'approccio basato sulla similarità di reazione è risultato l'approccio vincente che ha portato allo sviluppo di più di 100 modelli con criteri statistici soddisfacenti questi modelli possono essere utilizzati anche dall'industria per predire le clearance intrinseca in vitro per nuove molecole oppure possono supportare le strategie di estrapolazione in vitro in vivo questi modelli sono utili per valutare l'incertezza di dati sperimentali raggruppare le sostanze chimiche o fare liste di priorità per guidare esperimenti futuri le integrazioni di tali metodologie in silico possono fornire approfondimenti meccanicistici a supporto delle procedure di valutazione del rischio i metodi che usare quindi i modelli in silico sfruttano l'esperienza acquisita dall'uomo quindi partendo da dati sperimentali noti è possibile evitare di ripetere errori dal passato quindi prevenire è meglio che curare sono metodi utili perché riducono non solo tempi e costi nell'esecuzione degli esperimenti ma anche il sacrificio di vita animali inoltre funzionano da supporto per la regolamentazione volta all'uso sicuro e sostenibile delle sostanze chimiche ringrazio i colleghi del laboratorio QISAR dell'Università dell'Insubria e altri colleghi internazionali e ringrazio voi per l'attenzione grazie Linda grazie per averci dato questa panoramica che ci spiega anche appunto come affrontare una tematica importante come quella delle nuove molecole e con un diciamo un aspetto non da poco su quello che è l'etica della sperimentazione animale perché appunto è un argomento di grande interesse e molto delicato quindi tutto ciò che può essere alternativo è sicuramente molto importante ti ringrazio anche per essere stata molto nei tempi e ne approfitto per presentare introdurre il relatore del prossimo intervento che è l'ingegnere Federico Poli è un ingegnere ambientale è un esperto del trattamento del ciclo dei rifiuti e della energia che si può ricavare da un riciclo adeguato dei rifiuti quindi in un ambito di economia sostenibile e circolare ed è il direttore dell'impianto della Filippa che è sito in provincia di Savona per cui l'ingegnere Poli ci parlerà di quelle che sono le competenze dello scienziato ambientale nella gestione dei rifiuti grazie bene buongiorno buongiorno a tutti predispongo la presentazione il tema appunto che affronterò oggi è quello del ruolo dello scienziato ambientale nella gestione dei rifiuti e per fare questo parto da un breve scursus del contesto normativo intanto i rifiuti diciamo sono stati tra virgolette inventati alla fine del 1800 quando si rese conto che per ragioni igienico-sanitarie bisognava cambiare l'abitudine di abbandonare rifiuti in strada e lasciare che poi qualcuno li raccogliesse o le prime piogge li portassero via e quindi sono nati in allora i primi servizi di nettezza urbana il mondo anglosassone ha fatto da apripista nel 1875 introducendo appunto per tutti i cittadini l'obbligo dell'uso del dustbin ha seguito poi Parigi e anche in Italia ad esempio a Genova venne istituito il servizio di nettezza urbana nel 1906 e venne poi istituito un regolamento nel 1910 che leggo con un po' con un po' anche di ironia perché allora era previsto che il fango e la spazzatura non potranno essere versati nelle fogne stradali ma dovranno andare caricati su carri per essere trasportati questo al luogo destinato per rispedirla fuori comune e a quello e quello alle pubbliche discariche sostanzialmente quindi il servizio dei rifiuti doveva solo occuparsi tenere pulita la città e cercare di portare i rifiuti in un posto diciamo sufficientemente distante affinché questi non producessero manifestazioni appunto igienico-sanitarie nei luoghi delle civili abitazioni o della città e così nasce la storia dei rifiuti e nasce anche la consuetudine appunto di abbandonarli in luoghi isolati senza preoccuparsi di quelle che potevano essere le conseguenze sulle matrici ambientali acqua aria e suolo tuttavia da questa tabella vediamo comunque come diciamo dalla fine dell'ottocento la popolazione è cresciuta la speranza di vita di tutti della popolazione è aumentata ma anche la produzione dei rifiuti è aumentata quindi oggi diciamo per vivere nello stato di benessere in cui viviamo non possiamo fare a meno di produrre rifiuti è chiaro che dovremmo occuparcene in maniera diversa rispetto a quello che è stato fatto in passato devo dire che la scienza chiamiamola la tecnica dei rifiuti viene normata per la prima volta in Italia nel 1982 quindi sono circa 40 anni che se ne occupa con un testo di norma che era di otto pagine in cui sostanzialmente per la prima volta veniva imposto ai produttori dei rifiuti di occuparsene veniva quindi introdotto una sorta di responsabilizzazione del produttore del rifiuto i rifiuti urbani dovevano essere raccolti dai comuni mentre i rifiuti cosiddetti speciali quelli prodotti da ambito diverso da quello domestico dovevano invece essere smaltiti attraverso imprese o enti autorizzati dalla regione la prima norma tecnica che quindi va poi a regolamentare dal punto di vista tecnico le attività di classificazione raccolta trasporto stoccaggio smaltimento gestione dei rifiuti è di 1984 quindi un paio d'anni dopo stiamo parlando anche qui di una norma di 24 pagine in cui veniva come dire esaurito tutta la tematica dei rifiuti riporto questi dati perché dobbiamo prendere coscienza che il mondo dei rifiuti è un mondo tutto sommato giovane che solo negli ultimi anni ha trovato una sua attenzione al mondo delle delle leggi che sono cresciute si sono stratificate in modo poderoso in modo poderoso fino a creare un coacervo a volte inestricabile su cui è sempre più difficile orientarsi le principali norme sui rifiuti oggi sono appunto rappresentate dal decreto legislativo 152 del 2006 che è poi stato modificato numerosissime volte che si occupa di classificazione dei rifiuti raccolta e trasporto delle attività di riduzione riuso riciclo recupero della valutazione degli impatti ambientali e delle autorizzazioni e poi abbiamo un altro pilastro della normativa sui rifiuti del decreto legislativo 36 che si occupa invece delle attività relative a rubucazione costruzione e gestione delle discariche a queste poi si assommano tutte le norme regionali specifiche frutto appunto di regolamenti regionali e le linee guida ad esempio dell'ISPRA che ovviamente diventano poi dei punti di riferimento per gestire al meglio i rifiuti quindi siamo passati da un quadro normativo fatto di poche pagine a un quadro normativo che è costituito di centinaia di pagine e in continua evoluzione l'ultimo diciamo grande aggiornamento normativo è avvenuto a settembre dello scorso anno in cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le direttive europee sull'economia circolare che sono andate a modificare in maniera profonda la normativa sia sui rifiuti sulla gestione dei rifiuti che sulle discariche purtroppo purtroppo questo tipo di aggiornamento è avvenuto con un percorso poco strutturato che non ha tenuto conto degli apporti della comunità scientifica e della comunità tecnica che si occupa di rifiuti e quindi in tanti passaggi queste normative sono risultati criptiche o di difficile applicazione e questo è un altro tema di cui chi si occupa di rifiuti deve confrontarsi tutti i giorni ovviamente perché da una parte ha la volontà di fare le cose bene ma dall'altra parte si trova spesso a confrontarsi con norme di cui nei vari passaggi si è persa la logica scientifica e tecnica degli intenti iniziali abbiamo però davanti una sfida importante la sfida del terzo millennio sia quella di passare da un'economia lineare a un'economia circolare l'economia lineare è un'economia che prevedeva il prelievo di risorse dall'ambiente il loro utilizzo e poi la restituzione dell'ambiente di rifiuti da gestire l'economia circolare prevede un approccio totalmente diverso in quanto il prelievo delle risorse dell'ambiente deve essere limitato in quanto o è possibile queste devono essere sostituite dai materiali di recupero estratti dai rifiuti e quindi volendo analizzare il ciclone o più nello specifico e volendo immaginare un mondo zero waste tengo a precisare che questa locuzione zero waste è stata spesso fraintesa quindi abbiamo sentito parlare appunto di problemi di comunicazione di fake news poc'anzi anche sull'allocazione zero waste è fraintesa perché è spesso utilizzata per soffragare l'idea che si può vivere in un mondo senza rifiuti e in realtà sarebbe molto più corretta tradurla come zero sprechi un mondo zero waste quindi prevede sempre il prelievo ovviamente di materie prime scusate dall'ambiente che vengono utilizzate dal ciclo dal sistema socio-economico che produce dei rifiuti che un tempo andavano direttamente in discarica oggi questo modello appunto dell'economia lineare non è più applicabile ma i rifiuti devono essere ridotti alla fonte riutilizzati quindi c'è tutto il tema della possibilità di cercare di fare prodotti che poi vengano riutilizzati quindi più facilmente riparabili in modo da evitare di sostituirli troppo frequentemente o estrarre materie prime e seconde dai rifiuti che possono ritornare a ricostituire materie prime per riprodursi e riciclarsi a pieno titolo come avviene il vetro la plastica il legno e quando questo non è possibile il rifiuto dovrebbe essere sottoposto a un trattamento per produrre combustibili solido secondari e andare a produrre energia elettrica o essere trasformato in compost per essere utilizzato come ammendante agricolo solo tutto ciò che non può essere assoggettato a uno dei processi delle 4R che abbiamo appena elencato deve finire in discarica e la scommessa della Filippa è stata quella di realizzare una discarica a basso breve impatto ambientale cercando proprio di andare a intercettare solo i rifiuti residuali e rifiuti che per loro contenuto di inerzia biologica e chimica consentissero di ripristinare morfologicamente una vecchia area di cava poi vedremo qualche immagine consentendogli poi in un breve tempo di poter ritornare fruibile per altre attività e quindi il modello di discarica classica viene completamente diciamo trasformato in un approccio che trova una sua vocazione verso gli obiettivi di riqualificazione e di riutilizzo del sito naturalmente questo è possibile non solo grazie alle peculiarità del sito delle peculiarità dei sistemi di gestione ma anche grazie alla volontà di scegliere il conferimento in discarica di soli certi tipi di rifiuti che poi sono sostanzialmente quelli che escono dai processi di trattamento che ho citato che ho citato poc'anzi quindi vediamo che ci siamo resi conto da questo breve discorso quanto è complesso il problema della gestione dei rifiuti nel terzo millennio perché richiede competenze multidisciplinari una preparazione culturale scientifica e legislativa capacità relazionali in quanto si deve rapportare appunto a enti istituzioni professionisti clienti un lavoro di squadra costante proprio perché tutti i problemi complessi devono essere risolti attraverso un lavoro di squadra una capacità di comunicazione perché occuparsi di rifiuti e occuparsi non basta occuparsene bene ma bisogna anche comunicare e far capire quanto uno se ne sta occupando bene proprio per evitare poi di incorrere nelle contestazioni che ormai oppongono un no a qualsiasi iniziativa anche virtuosa di tipo imprenditoriale che voglia occuparsi di rifiuti e io nelle riflessioni che ho fatto preparando questo intervento ho proprio interpretato il rifiuti ma perché questa è poi l'esperienza mia professionale come un crocevia a un punto in cui si incrocia la scienza e la tecnica e devo dire che anche gli interventi che mi hanno preceduto sono tutti coerenti con questo tipo di visione e se lo scienziato è una persona esperta che attraverso le sue ricerche scientifiche incrementa la conoscenza di aspetti specifici l'ingegnere o il tecnico è un professionista che fa uso di conoscenze appunto di matematica chimica e fisica per progettare sistemi macchine e strutture e in questo caso ad esempio per progettare impianti di gestione rifiuti devo dire che l'ingegnere se però non è supportato dalle conoscenze scientifiche messe a disposizione dallo scienziato in questo caso lo scienziato ambientale proprio per le sue competenze riesce a produrre un quadro molto accurato facendo previsioni robuste di quelle che possono essere gli impatti che un certo impianto un certo sistema genera senza questo supporto il tecnico chi costruisce chi gestisce l'impianto o chi progetta l'impianto pur affidandosi ai principi di buona tecnica secondo me non riesce a conseguire un obiettivo di piena sostenibilità nel nel lungo nel lungo periodo la nostra esperienza la collaborazione che abbiamo avviato con l'università dell'insubrio molti anni fa lo dimostra rivolgersi agli scienziati ambientali per progettare una discarica beh allora era considerato un qualcosa allora perché mi sto riferendo appunto ad attività di circa vent'anni fa era 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 considerato quasi un'anomalia nel senso che la figura di riferimento era sempre più il per questo tipo di impianti il geologo e l'ingegnere ma oggi queste competenze non bastano più e per fortuna dico non bastano più perché l'incrocio appunto delle conoscenze che la scienziata ambientale raccoglie e mette a sistema rendono possibile che poi possibile effettuare scelte ingegneristiche di piena appunto sostenibilità di piena sostenibilità e le competenze dello scienziato ambientale sono come abbiamo veramente compreso io sono 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 pertinenti a specifici campi il cambiamento climatico rischio geologico rischio chimico la conservazione la valorizzazione della biodiversità e allora ho provato a fare un po' un esercizio per capire quanto queste competenze siano poi applicabili ai diversi dimensioni della gestione dei rifiuti e farò anche qualche poi esempio proprio per rappresentare meglio appunto questo tipo di esercizio che ho fatto e allora potremmo leggere la tabella diciamo partendo da ogni voce di gestione dei rifiuti e poi vedere qual è l'impatto del impatto applicativo delle competenze della scienziata ambientale ma tutto sommato forse più rapido intanto rendersi conto come la parte rischio chimico monitoraggio è una parte che è trasversale a tutte le attività di gestione dei rifiuti abbiamo sentito parlare di sostanze chimiche di criteri di classificazione la classificazione dei rifiuti oggi è un'operazione estremamente complessa perché di fatto soggiace una normativa che è stata diciamo estrapolata dai criteri di classificazione delle sostanze pericolose estrapolata e adattata semplificata per la classificazione di matrici eterogenee complesse come quelle dei rifiuti ma comunque rappresenta un punto di grande complessità questo è scusate il gioco di parole è un esempio che poi faremo per approfondire per approfondire proprio quanto il tema rischio chimico monitoraggio è un tema estremamente connesso alla gestione dei rifiuti quando si parla di recupero di materia recupero di energia di smaltimento il rischio di geologico va valutato sia rispetto alla scelta dei siti idonei dove realizzare questi impianti parlo del recupero di energia quindi un termo valutatore o se ci riferiamo allo smaltimento di una discarica ma ad esempio anche sul recupero di materia quindi poi l'utilizzo di scarti di rifiuti per fare ricomposizioni morfologiche di vecchie cave di vecchi siti antropizzati anche su questo il rischio geologico va accuratamente valutato la valutazione del rischio citata dal relatore da uno dei relatori che mi ha preceduto in riferimento appunto alle bonifiche dei siti oggi viene applicata anche alla valutazione diciamo del rischio ambientale che un certo rifiuto può produrre se collocato in discarica e quindi per andare a definire quali sono le concentrazioni massime ammissibili per ogni tipo di impianto di smaltimento poi naturalmente c'è il tema degli impatti ambientali quindi della valutazione di impatto ambientale che è indispensabile dell'elemento preliminare ad ogni procedura di autorizzazione per la realizzazione e gestione di un qualsiasi impianto di gestione rifiuti che quindi coinvolge le competenze del rischio ambientale a pieno titolo così come le procedure autorizzative volendo fare alcuni esempi eccomi ero concentrato sulla classificazione dei rifiuti questo è uno schema a blocchi o flowchart con cui riportato o estratto dalla delibera del sistema nazionale di protezione ambientale quindi delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti e la riporto ma non la leggo per rapidità e brevità dei tempi per passare a quella successiva che rappresenta cosa succede quando mi trovo di fronte a un rifiuto identificato con una boccia specchio ossia a un rifiuto che la norma dice che può essere pericoloso o non pericoloso la norma prevede che alcuni rifiuti siano non pericolosi definiti per legge quindi se di fronte a quei rifiuti non devo fare nessun intervento di classificazione ma la maggior parte dei rifiuti invece rientrano in questi codici di identificazione chiamati boccia specchio a quel punto lì per capire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso devo fare un'analisi del ciclo produttivo verificare quali materie prime sono utilizzate quali sostanze ausiliari sono utilizzate nel processo produttivo del rifiuto come queste si possono essere trasformate quindi capire in che forma poi si trovano all'interno del rifiuto per poi andarne a determinare la concentrazione e quindi rispetto alla concentrazione valutare se queste possono avere effetti di pericolo rispetto a 15 classi di pericolo identificate della norma ognuna per un'unica di cui di esse e per la norma stessa stabilisce poi dei criteri di valutazione in tanti casi la valutazione può essere basata solo su l'applicazione di alcune formule di calcolo sulle concentrazioni rispondate nel rifiuto in altri casi invece si deve ricorrere a prove specifiche di laboratorio c'è una tematica enorme che è un campo ancora aperto che secondo me è proprio materia dei licenziati che dovrebbe essere materia dei licenziati ambientali per individuare i criteri per assegnare la categoria di pericolo dell'ecotossicità a un rifiuto oggi si ci affida a dei calcoli fatti basandosi sulle concentrazioni nelle sostanze presenti nel rifiuto ma spesso visto che più che contare la singola sostanza quello che conta è il composto spesso le tecniche analitiche sono in grado di individuare ad esempio lo zinco ma non ci sanno dire se quello zinco è presente nel rifiuto sotto forma di ossido che quindi potrebbe dare la sua alle elevate concentrazioni assegnare al rifiuto la caratteristica di ecotossicità oppure sotto forma di un altro composto che non per il quale non ricorre a questo tipo di pericolo e a quel punto lì l'unica soluzione è sottoporre il rifiuto a dei test di verifica utilizzando verificando appunto cosa succede a specifici tipi di alghe nel momento in cui il rifiuto è messo a contatto con esse purtroppo questi test sono mutuati dalle tecniche per la classificazione delle sostanze pure e sono poi totalmente inutili Federico sì sì totalmente inadatti ad essere applicati sui rifiuti e quindi qua c'è uno spazio di ricerca ancora enorme questo è un'immagine della discarica e quindi solo per farli cogliere ad esempio come un impianto di smantimento rifiuti ha sempre una fase che vediamo a sinistra di cantiere per preparare l'invaso al centro una fase di imprendibilizzazione e poi a destra vediamo la colmata che va avanti questa è una visione da lontano dell'impianto e quindi tutto il tema della biodiversità dell'inserimento ambientale finale dell'impianto di smantimento della discarica anche questo è un tema sicuramente di tipo paesaggistico e di tipo ambientale salto per chiudere con una frase che sta a me molto cara e il futuro non è un regalo ma una conquista e ogni generazione aiuta a costruire il suo stesso futuro questa è la fondamentale sfida del presente io vi ringrazio per avermi invitato e saluto tutti e vi faccio i complimenti perché ho avuto l'opportunità di ascoltare interventi molto molto interessanti molto molto interessanti grazie grazie mille all'ingegner Poli e anche a questa panoramica che ci ha dato su un tema estremamente complesso sia per quello che riguarda le potenzialità dei diversi approcci di trattamento e il futuro i futuri sviluppi che per la complessità scientifica tecnologica ma anche legata a una legislazione in costante evoluzione e dico anche per fortuna in costante evoluzione perché significa che c'è un'attenzione e anche una capacità di trattamento del rifiuto che da problema diventa risorsa e che quindi ci permette di vedere in un'ottica diversa anche alcune tematiche ambientali che non devono essere ridotte solo a problema ma devono diventare un'opportunità quindi anche questa visione che ci aveva già dato diciamo un sognatore come Robert Kennedy che poi purtroppo non ha potuto fare tutto quello che avrebbe potuto dare all'umanità ma è una visione diciamo che ci apre la mente e che è coerente anche con quello che è l'approccio che è stato finora descritto quindi grazie mille all'ingegner Poli e adesso come dicono gli inglesi last but not least cioè l'ultimo ma non certo il meno importante abbiamo un'altra modalità di approccio a problemi ambientali che viene presentata da due giovani leve che hanno appena completato o stanno completando il dottorato di ricerca sono laureati del nostro corso di laurea magistrale stanno facendo il dottorato in scienze chimiche ambientali la dottoressa Francesca Borghi che vedo già inquadrata e il dottor Davide Campagnolo eccoli in laboratorio che ci parleranno invece di quelli che sono gli effetti dell'inquinamento perché comunque una delle tematiche che finora non abbiamo ancora affrontato è quella degli impatti del cambiamento climatico dell'inquinamento dell'utilizzo dell'ambiente sulla salute umana quindi non solo la salute dell'ambiente ma anche la salute umana prego allora grazie spero che si veda e si senta tutto allora innanzitutto buongiorno a tutti cominciò io questa presentazione Davide mi seguirà più o meno a metà fra sette minuti e mezzo se siamo nei tempi ma dovremmo starci e vi parleremo appunto di alcuni nostri lavori e del nostro di alcuni lavori del nostro gruppo il titolo lo vedete qui vi parleremo di esposizione a diversi inquinanti di traffico in alcuni microambienti di traffico e transito l'attenzione che viene posta su questi traffic related air pollutants che chiameremo trap è dovuta al fatto che questi hanno diversi effetti nocivi sulla salute umana che vanno dall'alterazione delle funzionalità cardiache a quello che è la riduzione generale della funzionalità polmonare ora questo vale per tutti i soggetti ma esistono soggetti più esposti a trap di altri quali sono in maniera molto intuitiva questi possono essere i soggetti che vivono vicino a strade molto trafficate i pendolari o chi alcuni lavoratori la cui occupazione richiede necessariamente di passare molto tempo su mezzi di trasporto quindi pensiamo ai conducenti di pullman i taxisti o i riders in generale per questo motivo l'attenzione a questi inquinanti traffico correlati è aumentata negli ultimi anni e sicuramente avete sentito parlare di PM10 PM2.5 polveri sottili non si dice polveri sottili le polveri non sono sottili sono fini quindi spesso si legge sui giornali questo polveri sottili è un errore alla valutazione dell'esposizione personale a diversi inquinanti può essere associata la stima della dose inalata di questi inquinanti questa è particolarmente interessante da valutare soprattutto per ad esempio dei soggetti che si muovono con delle modalità di trasporto attive quindi pensiamo ai ciclisti questo perché questi soggetti svolgendo questa attività fisica praticamente hanno una ventilazione polmonare più elevata appunto causata dal più elevato forzo fisico quindi in generale gli obiettivi di questa presentazione sono 2-3 io vi presenterò un caso studio relativo alla valutazione di inquinanti traffico correlati e la valutazione della stima della dose inalata degli stessi di un pendolare medio nella città di Milano Davide vi presenterà invece c'è un secondo studio dove si è focalizzato sulla valutazione dell'esposizione in un particolare ambiente quindi l'ambiente autocrivata quindi farà una serie di considerazioni sull'ambiente in vehicle tutto questo per far cosa per cercare di valutare l'efficacia delle ultime normative introdotte a livello comunitario appunto in materia di riduzione delle emissioni dei veicoli quindi brevemente materiali e metodi del primo studio che vorrei presentarvi cosa abbiamo fatto? abbiamo scelto un percorso determinato a priori che andava da Como o meglio da Villa Guardia a Milano e ritorno appunto per simulare il percorso di un pendolare considerando diversi microambienti quindi abbiamo fatto muovere il nostro pendolare ad esempio in macchina in treno in metropolitana abbiamo previsto anche dei percorsi in bicicletta o a piedi abbiamo fatto queste valutazioni su due settimane in periodi diversi quindi valutando anche la stagionalità abbiamo effettuato una campagna estiva e una invernale nello specifico cosa ci serve? un tirocinante in questo caso lo chiameremo Giacomo e qua vedete tutta la strumentazione che abbiamo utilizzato per cui in generale strumentazione portatile la vedete qua su sfondo giallo e a lettura diretta quindi in grado di fornirci un dato ad alta risoluzione spaziale e temporale quindi circa un dato al minuto e vedete che abbiamo monitorato particelle ultrafini e varie frazioni di particolato atmosferico quindi PM1,2,5 4,10 e particelle totali sospese abbiamo poi valutato le concentrazioni di esposizione personale personale a N2 vedete anche che abbiamo utilizzato una fascia cardio perché qua vedete come la dose inalata di inquinanti può essere stimata parliamo sempre di una stima in questo caso moltiplicando le concentrazioni di esposizione misurate tramite questa strumentazione per il tempo speso in un determinato ambiente per il tasso di ventilazione polmonare come lo ricaviamo il tasso di ventilazione polmonare tramite questa formula che mette appunto in relazione la ventilazione polmonare del nostro soggetto con il suo massito cardiaco in maniera molto generale i risultati principali ci mostrano come per quanto riguarda la valutazione dell'esposizione personale abbiamo alte concentrazioni di esposizione nell'automobile privata per quanto riguarda le particelle oltrafine e in metropolitana per le altre frazioni di PM e NO2 basse concentrazioni sono state misurate per PM e NO2 nell'automobile privata vediamo anche come la stima della dose inalata ci mostri come alti valori di dose di questi inquinanti siano stati riscontrati nel percorso a piedi in metropolitana ora sembra che questi valori più elevati di dose inalata siano correlati con le altre concentrazioni di esposizione ma in realtà possiamo notare come valori di dose inalata sembrano influenzati principalmente dal tempo speso in un determinato microambiente e poi dalle concentrazioni di esposizione un altro risultato che volevo mostrarvi al volo è questo abbiamo adeguito questo test di Mann-Whitney ora non sono uno statistico per cui vi rimando a testi più o meno scientifici come Wikipedia andate a vedere che cos'è il test di Mann-Whitney sostanzialmente ci fa vedere se esistono delle differenze statisticamente significative o meno tra diverse metodologie di trasporto e i nostri risultati cosa ci mostrano che modalità di trasporto simili quindi ad esempio attive controattive quindi in generale cosa ci dicono che le concentrazioni misurate da un ciclista sono sostanzialmente le stesse misurate da chi si muoveva a piedi ma a differenza di quelle misurate ad esempio di chi si muoveva in macchina abbiamo in questo caso delle differenze statisticamente significative ovviamente esistono possono essere effettuati studi con un altro disegno sperimentale ne abbiamo effettuato un altro sulla città di Milano considerando quattro direttrici in entrata e in uscita ma tenderei a chiudere la mia presentazione perché sono in super ritardo altrimenti rubo tempo a Davide quindi nella prima parte vi ho mostrato velocemente i livelli di esposizione che abbiamo misurato in diversi microambienti di traffico Davide farà un focus sull'ambiente in vehicle facendo qualche accenno a come dicevo prima i lavoratori ad esempio come i taxisti e drivers in generale ora mi sposto e lascio la parola a Davide grazie buongiorno a tutti e grazie a Francesca per l'introduzione ci occuperemo nelle prossime slide appunto di un particolare microambiente ha dei valori più bassi ma questo non è vero per esempio per il particolato ultrafine inoltre appunto il microambiente abitacolo è molto utilizzato da numerose figure occupazionali pensiamo ai taxisti ai rappresentanti agli autisti in generale quindi cosa è stato fatto mediante un veicolo è stato un veicolo su un percorso predefinito che ha riguardato diverse tipologie di strada e quindi diverse anche condizioni di traffico è stato percorso al mattino e alla sera quindi un percorso di andata e di ritorno durante le cosiddette rush hours quindi le ore in cui il traffico è molto più intenso il percorso ha attraversato le due province del nostro Ateneo sono state effettuate due campagne di monitoraggio una estiva e una autunnale in condizioni controllate di ventilazione dell'abitacolo e cercando di controllare i diversi comportamenti di ognuno di noi alla guida facendo guidare il veicolo sempre dallo stesso autista gli strumenti di misura di tipo real time e time integrated sono stati montati sono stati alloggiati sul sedile passeggero andando a misurare la cosiddetta esposizione individuale cioè quella entro tre metri dal soggetto sono stati valutati anche altri parametri tra cui le condizioni di traffico e quindi tutte le caratteristiche relative al veicolo precedente che è il focus di questo lavoro mediante una videocamera alloggiata sul parabrezza veniamo ai risultati come si può vedere dai grafici che sono riportati come esempi per tutti i traps monitorati la presenza di un veicolo precedente causa valori di esposizione all'interno dell'abitacolo del veicolo successivo più elevati sia in termini di mediana quindi di un indicatore di tendenza centrale e sono riportati gli incrementi percentuali ma vorrei focalizzare l'attenzione la vostra attenzione anche sugli alti percentili che sono maggiormente rappresentativi delle esposizioni di picco e questo lo si nota bene dal grafico di destra che riguarda il particolato ultrapine lo si nota bene anche nel caso del black carbon per quanto riguarda questo confronto tra diverse tipologie di veicoli quindi in questo caso veicoli leggeri e veicoli pesanti si vede come l'esposizione sia molto più alta in presenza di veicoli precedenti pesanti rispetto che a veicoli leggeri un focus molto interessante ha riguardato lo studio dell'introduzione delle nuove tecnologie di riduzione delle emissioni dei veicoli come questo grafico è un grafico d'esempio che riguarda i veicoli alimentati a diesel e per i quali si nota come l'esposizione a particolato fine e ultra fine sia inferiore del 60% quando il veicolo precedente è equipaggiato con standard emissivi più recenti quindi euro 5 ed euro 6 rispetto a standard emissivi più vecchi quindi euro 0 2 3 insomma e questo è vero per veicoli diesel è vero per veicoli benzina e abbiamo potuto notare quanto siano quanto sia quanto sia stato importante l'introduzione del filtro antiparticolato per cui si è visto che le esposizioni sono molto ridotte quando i veicoli sono a parità di standard emissivo quando i veicoli sono equipaggiati con un filtro antiparticolato sia rispetto a veicoli diesel non equipaggiati con filtro antiparticolato sia rispetto a veicoli benzina concludendo abbiamo visto come le modalità di trasporto come differenti modalità di trasporto vanno ad influenzare i livelli di esposizione abbiamo visto quanto le tecnologie di riduzione delle emissioni siano importanti anche in termini di esposizione ma il lavoro non finisce qui anzi vi sono per esempio nuove categorie di lavoratori per esempio i riders che sono spesso privi di tutele sotto molti punti di vista chi di noi in questo periodo non ha ordinato cibo d'oggetti online per esempio e se li ha fatti portare a domicilio quindi sono anche aumentate le figure i soggetti che sono occupati che sono riders che rappresentano questa categoria questa nuova categoria di lavoratori per questo è di primaria importanza la valutazione del rischio occupazionale da esposizione a inquinanti traffico veicolari proprio anche per questa categoria di lavoratori io ringrazio tutti i colleghi ringrazio voi per l'attenzione e buon pranzo grazie a Francesca e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti i relatori e anche l'organizzazione dell'Ateneo che ci ha permesso appunto di realizzare questo appuntamento che originariamente era stato previsto per il 26 di febbraio dell'anno scorso in presenza a Varese e poi abbiamo avuto l'emergenza sanitaria è proprio capitato nella prima settimana di lockdown totale quindi l'abbiamo rinviato di un anno ma direi che anche se da lontano quindi non ci siamo potuti vedere direttamente però la presenza la passione speriamo di avervela comunque trasmessa anche da remoto e di avervi fatto vedere appunto quella che è l'importanza di occuparsi di ambiente da vari punti di vista con competenze che è importante sviluppare per quello che è diciamo la garanzia di un futuro compatibile e migliore per tutti noi quindi vi ringrazio tantissimo e spero di vedervi in prossimi appuntamenti grazie a tutti grazie a tutti